Buona visione da Salvatore Calleri Grandi film e musica in 432 Hz Credete mi piaccia essere il conto di Montecristo? Egli è un uomo terribile, freddo e senza pietà Ma se quell'uomo resiste non è certo per colpa mia Mi bastava essere chiamato Edmond Dantes Null'altro avrei voluto dalla vita Ma quella vita mi fu tolta da Vilfort, Morsef, Danglar Por complice quell'altro vile di Caterus Che tutto sapeva e tacque nel seppellire il giovane marinaio A cui ben poco bastava hanno dato la vita al vendicatore Che torna ora per la resa dei conti Tanto peggio per loro Che torna ora per la resa dei conti Che torna ora per la resa dei conti Sono innocente, non voglio morire qua dentro Allegrati di non essere nelle segrete e sta zitto Non avrai da mangiare per otto giorni, hai capito? Ma non so più da voi mangerete Mi legge adesso, ma non siete zitti Zitti State zitti, basta Ma non so più da voi mangiare per otto giorni, hai capito da voi mangiare per otto giorni, hai capito? Ma non so più da voi mangiare per otto giorni, hai capito? Ma non so più da voi mangiare per otto giorni, hai capito da voi mangiare per otto giorni, hai capito? Ma non so più da voi mangiare per otto giorni, hai capito? Non la voglio questa porcheria, non la voglio più la vostra brovaglia, non voglio più mangiare, lasciatemi morire, io voglio morire, voglio solo morire. No, 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 no. No, 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 no. Non abbiate paura, aiutatemi. Chi siete? L'abate Faria, e voi? Sono il numero 34, ma tempo fa mi chiamavo Dantes, Edmond Dantes. Da quanto tempo siete qui? Non lo so più, appena rinchiuso contavo i giorni, ma... ma... ora non più. Oggi è l'undicesimo giorno di febbraio. L'undici di febbraio. Ma certo, per questo ho freddo. Perché siamo in febbraio. Febbraio, sì, ma... di quale anno? 1833. 1833. Sono ormai 18 anni che sto qua dentro. Ah, 18 anni. Mi privarono della luce del sole. Fui strappato al mio amore, alla mia giovinezza, al mio avvenire. Edmond Dantes. Edmond Dantes. Ho l'ordine di arrestarvi. Ecco il mandato emesso dal signor Vilfort, sostituto procuratore del re. Il nome della legge vi ordino di seguirci. Tornerò a Mercedes. Non temete, padre, è un errore, si spiegherà. Amici miei! Non smettete di festeggiare, tornerò presto. Fate piano. Fate piano. Questa lettera che vi denuncia è anonima. Ebbene, avete idea di cosa siete accusato, Dantes? Assolutamente no, non lo immagino nemmeno. E sinceramente mi chiedo che male possa aver fatto. Del resto, sono da poco rientrato in Francia da un lungo viaggio nelle Indie orientali. Ero sul faraone, nave dell'armatore Morel. A bordo eravate il capitano in seconda, non è così? Sì, signore. In che circostanze avete preso voi il comando della nave? Come oggi è scritto sul diario di bordo, il capitano del faraone è morto di febbre passata a Gibraltar. E... Signore, non penserete che l'abbia assassinato io? No, Dantes, però voi siete sbarcato sull'isola d'Elba. È la verità? Ma certo, e allora? Che c'è di male? E una volta a terra avete ricevuto una missiva dal gran maresciallo di Napoleone. Sì. Perché? Non sapete che sono vietati i contatti con l'ex imperatore? Ma, signore, mi era stato ordinato dal capitano del faraone. Allora, quando lottava contro la morte, mi fece giurare che sarei andato a ritirare quella lettera. La cosa non mi piaceva affatto. Comunque non siete buonapartista. Sono solo un marinaio. E in fede mia, troppo spesso lontano dalla Francia per occuparmi di politica. Come potevo sottrarmi alle richieste di un moribondo? Inoltre, avevo per il capitano il più assoluto rispetto. Le sue ultime volontà erano sacre. Come marinaio sono tenuto la più stretta obbedienza. Vi difendete bene, sapete? Signore, ma io non parlo in mia difesa. È la verità che mi difende. Mi avete persuaso. Allora, la questione è chiuse. D'altronde, alle denunce anonime siamo abituati, ne riceviamo una decina al giorno. Non servono più le catene. Sono dunque libero. Di più. Siete innocente. Trovo che la giustizia non possa riproverarvi per aver avuto compassione di un moribondo. Anzi, aver obbedito a un superiore non può che farvi onore. Addio, capitano, tornate dalla vostra fidanzata. Io torno dalla mia, perché anche per me oggi, pensate, è giorno di fidanzamento. Una strana coincidenza. Scambiamoci gli auguri migliori, signore. E che le nostre fidanzate possono diventare amiche intime. Ma sì, così potranno rovinarci entrambi comprando dalla stessa modista. Addio. Ancora una cosa, capitano Dantes, appena un dettaglio. La lettera che vi fu consegnata l'avete ancora con voi? Ma certamente. Eccola qui. Sapete chi è il destinatario? L'indirizzo lo ricordate? Sicuro, contavo di recapitarla personalmente. È per un certo signor... Nortier, Rue de Couperon, numero 13, Parigi. Sono in procinto di fuggire dall'Elba, sbarcherò in Francia e riprenderò il potere. Avete l'incarico di favorire il mio ritorno eliminando uno dei miei avversari più pericolosi. In voi ripongo la mia fiducia, Napoleone. E le mondanessi, in nome della legge siete in arresto. Ma come? Mi avete appena detto che ero... Conducetelo al castello di Febbadate che non parli con nessuno. Ditemi di che mi si accusa! Parlate! D'accetta, Dantes, non una parola di più. Gravi imputazioni pesano su di voi. No, lasciatevi andare! Non avete il diritto di farlo! Che siate maledetto, Bifford! Un giorno vi ucciderò! Mi vendicherò, lo giuro! Io credo che a provocare il voltafaccia del procuratore Vilfort sia stato... Il nome della persona a cui era indirizzata la missiva proveniente dall'isola d'Elba. Nortier, rue du Cuperon, Parigi. Il nome non vi dice niente? No. Ho navigato le coste d'Africa, doppiato il capo di Buona Speranza. Sono sbarcato a Colombo, a Bombay, ma non conosco Parigi. Non ci sono mai stato. Altrimenti sapreste che si chiama Nortier de Vilfort. Ed è il padre di colui che vi ha seppellito qui. È noto per le sue idee politiche decisamente bonapartiste. Forse la lettera conteneva un messaggio che rischiava di compromettere il padre di Vilfort. Deve essere così. Avete ragione. Ecco perché mi fa marcire qui senza nemmeno avermi condotto in tribunale. Ma... Napoleone è morto, a quanto dicono. E temere ora dei complotti bonapartisti non ha più senso. Per Vilfort siete comunque pericoloso. Davanti ai giudici voi parlereste della lettera. Allora, per proteggere prima suo padre e poi la carriera, Vilfort non ha esitato a sacrificarmi. Seppellito vivo non gli creerò ostacoli. Dimenticate l'altra lettera. Già, la lettera anonima. Mi denunciava come un corriere dell'imperatore e dal momento in cui mi rinchiusero qui non fece che rifletterci tornando e ritornando sugli avvenimenti di quei giorni felici. È stato difficile accettare la verità. Ma oggi per me quella lettera non è più anonima. non è più anonima. Non vergognatevi, quando fu arrestato, anche Gesù pianse. Si dice che piangesse lacrime d'angoscia, l'angoscia del supplizio. Ma forse piangeva per il tradimento di Giuda. Era il suo migliore amico e sapete cosa ha fatto. Ma Gesù non si è vendicato di Giuda. No, perché era Dio e quindi aveva dei doveri, ma voi siete un uomo e avete dei diritti. Grazie. Grazie. Denuncieremo la sua morte poco prima del cambio. Così toccherà alla ronda notturna di sparsi del cadavere. Andiamo. Forse è meglio metterlo in un sacco, i topi se lo mangeranno prima di sera. Mm-hm. Grazie. 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 L'ho cercato e l'ho trovato, Faria. Il più prezioso fra i tesori. Faria. La libertà, Faria La mia libertà, io l'ho trovata Com'è possibile che sia così pesante? Era solo un vecchio, tutto pelle e ossa Tutta colpa della zavorra L'hanno legato addosso prima di infilarlo nel sacco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti posso nascondere? Vogliamo divagarci un po', ti va? Non mi dispiace. Amo la brezza del mare, ondeggio le gambe come una sirena. Sei marinaio, ti piacerà? Credimi non ho denaro. Costo poco, sai? Amo una donna che mi aspetta. No, non mi aspetta. Padre, padre, apritemi. Sono Edmond, ve ne supplico, apritemi, sono in pericolo. Padre! Scusate, buona donna, ma il signor Dantès abita qui? No, non più. È partito. Dove è andato? Se n'è andato, è andato via. Lontano da qui? Molto lontano. È morto. Il figlio fu arrestato e messo in prigione e il signor Dantès è morto di fame. Di fame? Ma è impossibile. Aveva molti amici qui, non possono averlo abbandonato. Quando credette di aver perso il figlio, non volle più mangiare. Desiderava soltanto morire. È impossibile. Per riabbracciare il suo amato Edmond lassù, dal buon Dio. Ma Edmond Dantès non è morto. Si crede invece che lo sia. A quelli che chiesero sue notizie fu risposto che non se ne sapeva niente. Ormai sono passati tanti anni. A che serve riportare a galla il dolore? Meglio dimenticare. E che i morti riposino in pace. Avete l'aria di essere marinaio? Mostratemi i vostri documenti d'imbarco. Sì, subito, signore. Allora, che aspettate? Perdonatemi. È già la terza volta che me li chiedono e non so in che tasca li ho messi. E mio nipote, perché lo tormentate? È un bravo giovane, non ha mai fatto male a nessuno. Questo è vostro nipote? Senza il suo aiuto non saprei come vivere. Volete forse la mia morte? Non dovete neanche pensarlo, brava donna. E vogliate scusarci, ma non potevamo saperlo. Stiamo cercando un evaso, voi capite? Qui non lo troverete di certo. Qui nascondiamo solo la nostra miseria. Ave Maria, piena di grazie, signore. Mille grazie. Posso sapere perché l'avete fatto? Non so chi siate, figlio mio, e preferisco non saperlo. L'ho fatto perché, poco fa, avete difeso la memoria del povero vecchio Dantes. Ave Maria, piena di grazie, signore. Scusate, cerco la signorita Mercedes. Ho bussato alla sua porta, ma nessuno ha risposto. Di certo la conoscete, Mercedes Igualada, figlia di Rosada e figliù. È di origine catalana. Ehi, ombre, ma da dove vieni, scusa? Saranno almeno vent'anni che è partita. Partita. Partita, per dove? All'epoca si parlava di Parigi, ma chi lo sa? Ad ogni modo non è mai tornato. E Fernando Mondego? A quanto ricordo è suo cugino. Può darsi che lui sappia dov'è. Fernando Mondego? Ma anche lui è partito. Si è arruolato nell'armata. Può d'arruolato nell'armata. Che fai, Gaglioffo? Ti ingozzi di grano come un topo? Su che nave sei imbarcato? Non sono imbarcato. Avevo un imbarco, era a bordo di un veliero maltese. Ma abbiamo fatto un aufragio. Sono cose che capitano. La giovane Amelia ha una buona imbarcazione e io sono un padrone che sa mantenere le sue promesse. È una proposta? Uno dei miei uomini è stato arrestato durante una risa. Ora capita che proprio questa notte ho un appuntamento a largo e con questo maestrale del diavolo e l'equipaggio ridotto, due braccia in più a bordo mi farebbero comodo. Controbando? Non farmi troppe domande ed io non le farò a te. Allora, ci stai? Sappiamo per dove? Per la costa italiana, non devi sapere altro. Ehi, tu, laggiù! Vai a darvi una mano! Eccomi, arrivo! Scusate se mi permetto, capitano. Con il vento in poppa conviene armare una vela quadra sul compresso. Una vela quadra? Sì. E dovreste far mettere all'aschi i fiocchi, sono troppo tesati. Branzino mediterraneo agli aromi di Provenza, farcito con scampi e frutti di mare. Il tutto cotto alla griglia con un po' di finocchi, insaporito alla fiamma con anisetta e ricoperto da passata di pomodoro arricchito da una puntina di zafferano. Eh, quel demonio di Bertuccio. Non capisce un accidente di navigazione, ma come cuoco non arriva lì. Prima di imbarcarsi sulla giovane Meli era cuoco del conte Farlatti, un ricchissimo nobile toscano. E questa gente, sai come... Tutti i nobili pensano sempre che vogliamo spogliarli, rapinarli. Insomma, non si fidano di noi. Il vostro cuoco è forse un ladro. E tu? Chi sei tu? La vedetta segnala un fanale a tribordo, capitano. Ha una luce fissa? Credo lampeggi. A tratti si vede e a tratti no. È il segnale. Tutti in coperta allora, sento odore di tabacco turco. L'isola di Monte Cristo è questa. L'hai chiamata isola. È un gran complimento per uno scoglio da niente. Vorrei sbarcare lì. Puoi sbarcare su Monte Cristo? È a poche miglia da qui, arrivarci non vi porterà molto fuori notte. Ti confesso che mi dispiace separarmi da un buon marinaio come te. E tu fai molto male a lasciarci così presto. Finché non ho venduto in Italia il tabacco imbarcato questa notte, non so proprio come pagarti. Tutto ciò che vi domando come salario è lasciarmi su quell'isola. Mi riprenderete tornando dall'Italia, esattamente fra otto giorni. E cosa andrebbe a fare un uomo su quello scoglio dimenticato da Dio? Quando Lazzaro uscì dalla tomba sembra che nessuno gli fece domande. Ha rispettato il silenzio dei morti, capitano. Che Dio mi perdoni se ho trasformato suo figlio in un coltello. Bevete, vi ridarà le forze. No, mio buon amico, è troppo tardi. Ma prima di andarmene voglio donarvi qualcosa. Vi rivelerò un segreto a cui nessuno ha mai creduto. Ma voi ci crederete come credete in Dio. Non so se credo in Dio. E' come il mio segreto. Si dubita finché non lo si vede. Ma quando l'avrete visto vi abbaglierà. E' un tesoro. Credetemi, sono molto ricco. Immensamente ricco. E' nascosto su un'isola. Su un'isola? Quale isola parlate? Monte Cristo. E' sull'isola di Monte Cristo. Geo! 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 Ci sono scogli ovunque, rischierei troppo avvicinandomi di più. Ci arriverò a nuoto. Ci rivediamo fra otto giorni, vedrete come vi mancheranno le mie pietanze. Non gli mancheranno solo quelli. Non hai capito chi è quell'uomo? Rammenti quel colpo di cannone dal castello di Ife. Siate chiaro. Un evaso è una mercanzia che può rendere come il tabacco, anzi molto di più. Per questo avevo pensato di tenerlo a bordo, ma avrei commesso un errore. Perché al nostro scalo in Italia sarebbe scappato, mentre ora è intrappolato sull'isola di Monte Cristo. Sì, signore, ma se facciamo rotta verso l'Italia, anch'io sono ricercato dai gendarmi. Tu non vale la corda che serve per imbiccarti. Ma lui ha un'altra cosa. Nel castello di Ife non ci sono criminali di bassa taglia. C'è la crema. C'è la crema. Una grotta. Faria. Vieni in mio soccorso. Un segno. Dammi un segno. Io farò il resto. Faria. Non mi abbandonare ora. Mostrami dov'è il tesoro. Faria. Il tesoro apparteneva al conte Spada, avvelenato da Cesare Borgia. Io sono un erede dell'ultimo Spada. Il tesoro è ben nascosto. Non fu trovato nemmeno dai Borgia. Povero vecchio abate. Non sapeva quel che diceva. E per giunta. Anch'io deliravo. D'altronde. Che me ne farei di questo tesoro? Eh, Faria. Faria. Mio caro vecchio Faria. Che me ne farei di questo tesoro? Eh. In una grotta ci sono pietre preziose seppellite nella notte. Ma tu le strapperai a quell'oscurità. Le farai risplendere di una luce brillante più del sole. E saranno tue. Tutte tue. Io, che me ne farei di questo tesoro. No, io per shipizare di questoentially. 我不 слова. Sapience potency. No, io per up 쿠uler. No, io per dubbi. Io ti dubbi. Grazie. Scusi, ma dov'è quest'isola? Sì, la vedete? È davanti a noi. Sicuri allora che quella è in visola di Monte Cristo, eh? Sì. 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 Ah, sì. 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 Dove siete, signore? Sono Bertuccio! Signore! Non vi nasco bene! Fidatevi di te, sono venuto a salvarvi la vita! Signore! Vuoi salvarmi la vita? Che facenza è questa, Bertuccio? Vi giuro che è la verità. Il capitano della giovane Amelia voleva riscuotere la vostra taglia consegnandovi le autorità francesi. Ah, così hai pensato di poterla riscuotere tu al posto suo. Siete venuti molti per arrestarmi. Ma no, signore, guardate che mi sbagliato. Non fare un passo. Vi posso giurare che sono solo, a parte il povero Beppe, un pescatore che mi ha portato qua con la sua barca. Bene, allora dia, Beppe, di sparcare. La barca la prendo io, tu sei assunto fin d'ora come marinaio. Ma quello si guadagna da mangiare con quella barca. Beppe è un povero uomo. No. Tieni, adesso è un uomo ricco. Ma perché non ci siamo portati Beppe? Sareste stati due contro uno. Mi avreste eliminato facilmente. So chi sei. È un uomo che momentaneamente non tiene manca il coltello. Sei uno che ha derubato il suo padrone. Non penserai di poter fregare anche me. Ma perché sta paura di essere derubato? Perché? È un tesoro quello che tenete dentro a quella casa. D'altro canto, non vale la pena di fare misteri. La faccenda è chiara, sapete? Cosa spinge un criminale appena è vaso di prigione ad andare su di un'isola sperduta? Se non l'idea di recuperare il bottino che si era preso la briga di nascondere prima di essere arrestato. Non è un bottino, è la mia eredità. Qualunque cosa sia, ti ha tradito. Non mi hai salvato per carità, ma per interesse. Se tu non hai un coltello, io ce l'ho e so come usarlo. Ritorna le vele. State commettendo un grosso sbaglio. E anche se quella cassa fosse piena di smeraldi, tutti come quello che avete regalato al vecchio Beppe, credetemi, a me non me ne importa proprio niente. Parola, eh? La sola cosa che mi interessa è che mi tenete con voi, come vostro servitore. Io non ho bisogno di nessuno! Ma non stiamo facendo rotta verso le coste francesi! Infatti no! Si va in Italia! Le bravo! Perchè! 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 Piano, piano, e qua, fate attenzione, da questa parte, vedete, seguitemi, su, da questa parte, e voi scusate, signori, permessi. Vogliate scusarmi, ma sapete, temo di non aver ben capito, e ditemi, per conto di chi operate? Ebbene, signore, io ho l'onore di essere il padrone di me stesso, e di vivere dei miei beni. E voi, pretendereste così di acquistare? Il 51% del capitale della vostra banca, sì, signore, perché voglio il 51%? Per avere la libertà ad agire come meglio mi sembrerà opportuno, seguendo il filo della mia ispirazione, avete compreso? No, non avete compreso. Sono desolato, ma credo che questo scherzo sia già durato abbastanza, vedete, amico mio. Chiamatemi, signor Conte. Come dite? L'appellativo, amico mio, non è certamente disonorevole, ma dovete ricordare di chiamarvi signor Conte. Signor Conte? Ma certo, signor Conte di Monte Cristo. Sareste voi? Sì, sono io. Ebbene, signore, io non vorrei sembrarvi sgradevole, ma il caso vuole che io abbia molta fretta. Nessuno vi obbliga a trattare con me. Se non gradita la mia offerta, ditemelo. Andrò altrove. Altrove? Ad acquistare un'altra banca. Perdonate, ma la cosa mi fa sorridere. Quando sono arrivato in città, ho depositato un forziere nella camera di sicurezza della vostra banca. Vi autorizzo ad aprirlo se desiderate controllare. L'abbiamo già fatto. Avete esaminato il contenuto di quel forziere depositato presso di noi? Sì, signor direttore, è proprio di questo che volevo... Che intendete? Dentro c'è un tesoro inestimabile, ci sono oro, pietre preziose e gioielli. Molto bene, andate pure. Ciò che mi è stato appena riferito a del prodigioso è semplicemente stupefacente. Ma com'è possibile che non abbiamo mai sentito parlare di... Monte Cristo? Certo, perché vedete, questa è la prima volta che metto piede fuori dal mio castello. Dal vostro castello? Ah, sì, certo. Deve essere splendido, immagino. E dove si trova? Ebbene, su un'isola, nei mari d'Oriente. E giusto per curiosità, signor Conte, vi è un motivo particolare che vi ha spinto a preferire ad altri il nostro istituto. È presso di voi che accredito l'armatore Morel di Marsiglia. Ebbene, per me questa è una referenza. Da qualche tempo il signor Morel è purtroppo vittima di una serie di circostanze poco favorevoli. Ha perso molte delle sue navi. Ormai non gli resta che il faraone. Si aspetta il suo ritorno, è salpato da tempo per le Indie orientali. E riguardo al futuro, temo che la sopravvivenza della casa Morel dipenda esclusivamente dal ritorno di quest'unica nave, da questo viaggio, insomma. Un lungo viaggio, signor Conte, che può durare un anno. Periodo durante il quale sospenderete i crediti che avete sull'armatore Morel. Una richiesta molto imprudente, signor Conte. La più grande delle imprudenze, mio caro, è provare a discutere i miei ordini. Vieni, si va a Marsiglia. Sì, signore. Muoviamoci, il Conte è a frega. Fate la carità, fate la carità, signore. Fate la carità. A presto, signor Conte. Allora, parla, scorri! Buongiorno. Arrivo! Lasciaplau! Sì! Aspettatemi! Abate, posso chiedervi una cosa? Che cosa può fare per voi l'abate Busoni, mia brava donna? Non volevo importunarvi mentre eravate occupato a sistemarvi. Rimettere a nuovo quella misera casa è un'impresa disperata. Con l'aiuto di Dio ogni cosa è possibile. Le mie povere vecchie gambe faticano a portarmi fino in chiesa e vorrei tanto confessarmi. Ecco, te absolvo in nomine patris te fili e te spirito santo. La soluzione? Ma voi non sapete i miei peccati. Quello che farete al più debole dei miei figli è a me che lo farete parola del Signore. è Dio che ha un debito con voi? Funziona, Bertuccia, funziona. La vecchia non si è accorta di niente. Mi ha anche pregato di confessarla e per l'ultima volta ho detto a qualcuno vi perdono. Questo abate Busoni ha bisogno di qualche ritocco. Il naso può andare. Con la voce ci siamo. Resta qualche gestamento nello sguardo. Noterai che non ho segreti per te. Forse ti dico un po' troppo. Spero di potermi fidare di te. Dopotutto non sei altro che un ladro di polli che merita la prigione. Ho i lavori forzati. Sta attento a non tradirmi. Altrimenti la mia vendetta... Sarà terribile, lo so, sicuramente. Ma lasciatemi dire una cosa. Parla. Se volete vivere in mezzo agli uomini liberi dovete riacquistare fiducia negli altri. Fidatevi di me. Guardate che non ho un secondo fine. Anzi vi darò una prova di quello che vi sto dicendo. Per dimostrarvi che la vostra fiducia è ben riposta. Mi metterò completamente nelle vostre mani. E vi dirò come mi chiamo. Io sono ricercato dalla polizia. Il mio nome è Viscoli. Anzi per il stesso è Benedetto Francesco Viscoli. Grazie, pretuccio. Suppongo ti aspetterai la stessa cosa da me. Io sono un cuoco geloso delle mie ricette. Voi avete il diritto di essere un padrone che non svela i suoi piccoli segreti. Allora diciamo che ti apro presso di me un credito. Il giorno che me lo domanderai saprai chi è veramente il conto di Montecristo. Che Dio sia con voi. Dite buon uomo, dista molto da qui la locanda del Pont du Gard. È ad appena una lega, padre. Ma se fossi voi non mi fermerei la. Ah sì, perché mai? Non è per calugnare, ma si dice che i locandieri siano due avanzi di galera. Perché questa agitazione? Abbiamo un ospite in arrivo. Sbrigati. Sono Lavate Busoni. Siete voi, Gaspar Caterus. Voi conoscete il mio nome? Indirettamente. E ditemi, eravate voi a condurre l'albergo Posada nel villaggio chiamato dei Catalani? Un tempo sì, ma poi ho lasciato Marsiglia. Capisco. Si dice sia una città pericolosa dove facilmente si rischia di cadere in brutte frequentazioni. Che aspetti, donna? Non vedi che questo buon abbate muore di fame? Mi date libertà di stappare per voi questa bottiglia di ottimo vino. Benvolentieri, signor Caterus. Sedetevi dunque. Benché io non sia venuto da voi né per la vostra tavola né per il vostro vino. Beh, per quale ragione allora? Per la vostra memoria, signor Caterus. Ricordate di aver conosciuto un certo Edmond Dantès? Edmond Dantès, avete detto? Sì, conosco Dantès, ma... non molto bene. Veniva talvolta alla Posada per dissetarsi con un bicchiere di buon vino. Ma ormai non lo vedo da molto tempo. E non lo rivedrete più, perché è morto. È morto? L'estrema unzione dalle mie mani l'ho ricevuta e ho ascoltato la sua ultima confessione. Il de profondis, come dite voi. Anche se quel povero uomo non poteva avere granché da confessare. Era per me la persona più onesta del mondo. Vedo bene che voi l'amate. Ma anche Edmondo vi amava, Caterus. Un istante prima di morire mi supplicò di ritrovare gli unici veri amici che avesse mai avuto su questa terra. Non li ha mai dimenticati, li ha conservati nel cuore. Fernando Mondego, Eugène Danglà, e voi, mio caro Caterus. Perché ritrovare gli amici ad un morto? Per fare la vostra fortuna. Ma di che fortuna parlate? Non chiedetemi come mai questo diamante fosse in suo possesso. Sono legato al segreto della confessione. Ma sta di fatto che questa pietra è stimata a 50.000 franchi e che Dantesse mi ha affidato il compito di porla in vendita e di ripartire il ricavato fra i suoi vecchi amici, compreso voi, caro Caterus. Pur dovendola dividere in tre parti, ciò che vi spetta è una fortuna comunque. Non c'è dubbio, signora Fate. Non c'è dubbio. Anche se varrebbe la pena di pensarci prima di fare la spartizione. Ma è evidentemente. Non poteva saperlo, il poverezzato. Sapere che cosa? Beh, Fernando Mondego e Eugène Danglard, quelli che Dantesse giudicava suoi amici, ebbene... Ma lasciamo stare, pensereste che io intenda calunniarli. Ma parlate dunque, amico mio. Voi potete parlare. È a causa loro che è stato arrestato. L'hanno mandato in prigione loro con una lettera anonima. Ma bene. Vedo che non conoscete di cose, signor Caterus. Ebbene, sapete com'è? Quando si serve ai tavoli, è impossibile fare a meno di sentire ciò che viene detto. Ma io non ho preso parte a quello sporco complotto, neanche lontanamente. D'altronde, potete vederlo. Ero e sono rimasto povero. E loro? Loro, signor Abate. Credete al povero Caterus? A questo mondo non c'è giustizia. Qualche tempo dopo l'arresto di Dantes, hanno pensato di cambiare aria. Danglare è andato a Parigi ad accumulare milioni. Ora è un banchiere e ha comprato il titolo di barone. Barone, lui. E Fernando ha fatto di meglio. Si è arruolato nell'armata che stanziava in Grecia ai comandi di Alipa Shah, che lo ha promosso generale e lo ha coperto di denaro. Ora anche lui vive a Parigi ed è nobile. Lo chiamano Conte di Morsef ed è un pari di Francia. È tutto chiaro. Spero vi renderete conto ora che sapete tutto che non sarebbe giusto spartire il diamante con loro. Non se lo meritano. Non sono come me e la mia povera moglie. Vi sentite bene Abate? Sì, sì, sto bene. Sto bene, ma sarà meglio che io riprenda il mio cammino. Ditemi quanto vi devo Caterus? Ma che vi viene in mente, signor Abate? Andiamo. Mi avete portato un diamante da 50.000 franchi. Permettetemi di avervi come ospite. No, il diamante di Edmond d'Antes. Ma è l'abate Busoni che ha bevuto il vostro vino e mangiato il vostro pollo. Allora fanno due franchi e quaranta. Ecco voi tre franchi. Tenete presto. Edmond d'Antes aveva degli amici o almeno gli credeva tali ma aveva anche un'innamorata Mercedes Igualada. Un fiore tra i più belli. Ha lasciato Marsiglia, così mi hanno detto. È vero, poiché ha sposato Fernando. È diventata la contessa di Morsef. Addio Caterus. Addio signora. Sparanga la porta, moglie. Non vorrei si pentisse di avermi lasciato la pietra. È anche mia quella pietra. Sparanga la porta, moglie. Mai in vita mia ho offeso alcun uomo e tantomeno voi. Sono venuto per dirvi che poiché è venuta a mancare la vostra giustizia divina io mi faccio carico di manifestarla a modo mio e vi assicuro sarà inesorabile vi giuro sarà eclatante. Sono frate Barnabè dell'ordine di San Francesco vivo la mia esistenza da eremita sulle colline e questa cappella è il mio luogo di preghiera. Mi stupisce che un abate con un così bel cavallo sia venuto in questo luogo solitario e per giunta in questa misera chiesa per affidarsi a Dio. Io non mi affido a Dio mio caro frate. Sono qui per gridargli che prenderò il suo posto. Fate riparare la porta che ho rotto e pregate per me. Siete tornato finalmente mi cominciavo a preoccupare e non solo per la cena che si sarebbe rovinato se non vostre tornato in tempo ma mi sarebbe pure dispiaciuto perché vi ho preparato degli ottimi pomodori con acciughe e basilico spaghetti ai frutti di mare e più. Ho appena cenato al prezzo di 50.000 e 3 franchi è un pasto che mi toglierà l'appetito per parecchi giorni credi a me e poi non abbiamo tempo per mangiare si parte. Di nuovo? E stavolta dove andiamo? In Oriente ho bisogno di apprendere la batefaria non mi insegnò tutto era troppo buono per questo. E cosa pensate di imparare in Oriente? L'eleganza Bertuccio l'eleganza in tutte le sue forme e in particolare l'eleganza nella vendetta Bertuccio. Che cos'hai figliolo? Potrebbe essere la nostra potrebbe essere il faraone Certo potrebbe ma non ne siamo sicuri deve deve essere il faraone Che Dio ti ascolti se il faraone e il suo carico andassero perduti la bancarotta sarebbe inevitabile che cos'hai figliolo e il suo carico che cos'hai figliolo Quando penso che mi avete costretto a vivere per tutto questo tempo con questa specie di ciambellone sulla testa vedo che pure voi tenete una bella fretta di cambiarvi Sì infatti ho un appuntamento E chi volete essere oggi? Volete essere il conte di Monte Cristo? L'abbate Busoni? Oppure il Dottor Malzestein? Il Lord Wilmore? Chi? Lord Wilmore E quello per voi sarebbe un naso inglese? Ho imparato a conoscere gli inglesi navegando sul faraone a sentir loro hanno navi più imponenti delle nostre Il loro impero è più grande del nostro regno perché non il naso dunque E i vostri turchi? I miei turchi che cos'hanno? Ma chi sono io? Aladino? Eh? Perché dovrei giusto avere la lampada magica per sistemare tutta la vostra servitura in una casa così piccola? Hai ragione compra una casa per alloggiarli e non badare a spese deve essere grande e bella se è sontuosa è molto meglio come sarebbe a dire su un tunsel? Questi sono schiavi, no? Non lo sono più visto che li ho comprati Chi è al mio servizio deve essere trattato bene tanto quanto mi tratto io Avanti! Verranno a dirvi che è arrivato il faraone Signor Morell C'è un certo Lord Wilmore qua fuori chiede di essere ricevuto ha detto di essere un messo della banca Sarà della Thompson e French era inevitabile Bene fatero accomodare Questo colloquio sarà alquanto delicato Abbiamo presso quella banca ha diverse tratte ormai arrivate a scadenza Ed è molto moltissimo denaro Malauguratamente la nostra cassaforte è vuota Padre non disperatevi perché se è il faraone la nave in arrivo siamo salvi Sì Salve signor Morelli La banca Thompson e French con la quale la vostra casa intrattiene affari Signore a costo di essere scortese vi devo interrompere perché immagino che questo colloquio sarà penoso per voi quanto lo è per me quindi se permettete vi pregherei di renderlo il più breve possibile Sia come desiderate Ho qui un estratto dei nostri conti da cui risulto che avete firmato tratte per la montare di 200.000 franchi in sospesa da un anno Vedete la loro scadenza è ormai prossima a cui dovete aggiungere 32.500 franchi di questo mese e del prossimo che saranno altri 55.000 franchi Esatto precisamente quindi dal momento che non discutete la montare del vostro debito in che modo intendete estinguerlo ve lo devo chiedere perché il cassiere della nostra banca è in ansia Ma ho da sempre fatto onore alla mia firma So bene che circola voce a Marsiglia secondo la quale l'armatore Morel sarebbe incapace di far fronte agli impegni presi ma non appena la mia nave il faraone entrerà in porto non temete io Sono arrivato a Marsiglia a bordo del Luxor che ha raccolto ormai stremati i naufraghi del faraone non esiste più il faraone signor Morel Maximilien figlio mio corri al porto va a comportare i nostri marinai e portali qui parlerò con loro dopo aver congedato Lord Wilmore Farò come volete padre Quanti sono i superstiti? Tutto l'equipaggio del faraone è sano e salvo Per me la cosa importante è sapere in salvo i miei uomini Mi è stato detto che l'armatore Morel non ha mai perso un solo uomo d'equipaggio questo è vero? Ah no 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 è falso ho perso un capitano purtroppo è una vecchia storia ma non me ne sono mai fatto una ragione Su che nave era quando è morto? Ah ma non è morto su una nave è stato all'improvviso rinchiuso nelle prigioni per sempre non ho mai capito perché e per onorare la sua memoria vi posso dire il suo nome si chiamava Edemon Dantes 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 avete detto non è per caso quel giovane il cui padre malato avete assistito tanto generosamente durante la sua agonia generosamente milord almeno è quanto si dice a Marsiglio mi dispiace che abbiate perso il faraone non è vero non me ne importa niente per voi banchieri cos'è una nave? conti cifre il valore del carico no voi non potete capire il faraone era la più bella e la più antica delle nostre navi ma ora che ha fatto questo naufragio è l'armatore Morel che colappicco so quello che siete venuto a chiedere a mio padre e mentre voi chiudete il denaro nelle vostre banche noi facciamo navi andiamo per mare rendiamo liberi gli uomini importiamo il carry la vaniglia la seta l'indaco noi sogniamo ancora con noi il denaro si muove prende vita viaggia sul mare è assai bello ciò che avete appena detto vi prendete gioco di me adesso? sappiate giovanotto che la banca Thompson & French ha appena concesso una dilazione supplementare di tre mesi a vostro padre affinché possa onorare le sue tratte scaduto il termine avrò il piacere di vedervi ancora qui a mezzogiorno precisamente fra tre mesi la nostra situazione sarà cambiata ma in peggio senza un miracolo ma grazie comunque per il tempo che ci date alcune persone considerano un grande privilegio sapere il giorno e l'ora in cui moriranno una bella carrozza Bertuccio bravo ma appena saremo in Italia attaccherai a questa bella carrozza due cavalli dello stesso colore voglio la perfezione non lo dimenticare si signore ma allora ripartiamo per l'Italia si domani all'alba viaggeremo giorno e notte se necessario ogni ora è preziosa non mi hai detto tu che nel tuo paese si trovano i più abili costruttori di navi del mondo certamente ma pure i gendarmi sono i più abili del mondo ma scusate perché tenete intenzione di farvi costruire una navi ma per quale motivo per rimontare il tempo Bertuccio e per la vittoria e per la vittoria non ho più bisogno di miei papine esattamente ciò che mi aspettavo da voi a parte qualche piccolo dettaglio il casseretto l'avete disegnato troppo alto e ciò nuoce l'eleganza della linea questo alloggio è troppo voluminoso in quanto a questo ridicolo bastingaggia balaustra ridicolo il mio bastingaggio diciamo troppo ostentato se vi offende di meno signor architetto ma un tre alberi non è uno yacht da diporto e passiamo alla cosa essenziale con che tipo di legno pensate di coprire il ponte come facciamo sempre con legno di pino non è male ma io vorrei usare il faggio bianco mi piace l'idea del pino per fasciare la carena su di un'armatura in quercia che ovviamente sarà foderata con il rame penso che per il fissaggio dovrebbero bastare centomila rivetti sembra che nella vostra vita signor conte non abbiate fatto altro che costruire navi una solamente ne ho amata la conoscevo a memoria dalla chiglia alla cima degli alberi certe notti mi esercitavo a ricostruirla con l'immaginazione pezzo per pezzo è un esercizio mentale come un altro per non perdere la ragione ma parliamo dei tempi di consegna tre mesi signor conte mi sembra un termine eccessivamente breve per poter mettere a punto mi dispiace ma non mi sarà dato né un giorno né un'ora di più raddoppiate triplicate quadruplicate la mano d'opera io non vado a spese signore grazie signor conte le fortune danno dei diritti ma non credo che non sono le mie fortune a darmi dei diritti e semmai la mia sfortuna allora d'accordo faggio bianco e armatura in quercia foderato di rame siete voi il conte di monte cristo per servirvi signore bene signor architetto conto su di voi signori servo vostro signore visconte alberde morsef e sono io signor conte servo vostro avete detto di chiamarvi morsef io sono il figlio del generale fernano il conte di morsef pari di francia in questo caso vostra madre non sarebbe che la contessa di morsef ovvio mercedes de morsef sembra quasi che la conosciate siete turbato no io devo essere questo solo in Italia metti addosso un terribile torpore si il caldo è insopportabile una bevanda rinfrescante ci darà un po' di sollievo signor conte confesso che volevo incontrarvi per chiedervi un favore ma voi non bevete? si si perché volevo vedervi è presto detto avete sentito parlare di un'esecuzione perdonate? un'esecuzione capitale che avrà luogo fra due giorni metteranno a morte un tale doc a priori soprannominato Peppino colpevole di far parte della banda di Luigi Vampa uno dei più famosi briganti italiani ma non vedo come questo possa riguardarvi ebbene sento dire che gli italiani hanno modi curiosi per eseguire le condanne a morte visto che ho intrapreso questo viaggio per conoscere l'Italia e i suoi costumi vorrei vedere un'esecuzione capitale purtroppo non ho fatto in tempo a procurarmi i posti il signor Pastrini sollerte direttore di questo albergo mi ha detto che il conte di Monte Cristo è stato più previdente di me e pensa che voi accetterete di ospitarmi sul balcone che avete affittato per vedere lo spettacolo spettacolo voi chiamate la morte di un uomo spettacolo mio dio signore si tratta di condannare un bandito la parola condanna è parola terribile voi non potete usarla nella vita come viene usata all'opera io non vi capisco proprio allora la giustizia che significa capta spesso che la giustizia sbagli e quando sbaglia si può considerare la cosa più immonda la più ripugnante delle opere umane e getta onta su chiunque la amministri e poi non ho preso un balcone chi è? sono io signore sono Bertuccio ma cos'hai? c'è un incendio? no peggio una storia terribile signore pensate che Pastrini si è precipitato in chiesa per accendere un cera a Santa Rita che è la patrona delle cause disperate perché solo lei può salvare quel povero giovane solo lei oppure voi ma insomma di che parli dunque? del visconte Albert de Morsef è stato rapito rapito? ma non è possibile e sapete chi è stato? Luigi Vampa il brigante muo chiede una montagna di quattrini per riscatto e sono sicuro che se non viene pagato quello lo fa ammazzare quel poveretto sapete quanto chiede? si accontenta di poco questo Vampa ma non vedo di che preoccuparsi il signor Pastrini dovrà solo anticipare la somma richiesta per il riscatto e i Morsef lo rimborseranno si ma il signor Pastrini mica ce li ha tutti sti soldi no Bertuccio lasciami dormire io detesto le questioni di denaro ma perché? voi potete fare qualcosa voi quel denaro ce l'avete è questo che sei venuto a domandarmi sapevo che sareste stato d'accordo ebbene Bertuccio il conto di Montecristo non è d'accordo desolato amico mio ma non anticiperò un franco per salvare un Morsef d'altronde se fosse per me ti pregherei di portarmi dell'inchiostro una penna un pezzo di carta per avere la soddisfazione di avvertire personalmente Fernande Morsef del rapimento di suo figlio Albert ma come potete dire una cosa così orribile io non vi riconosco io non posso credere che è questo quello che pensate sappi Bertuccio che ci sono cose alle quali anche io non potevo credere ma erano vere purtroppo Fernande saprà cosa vuol dire per un padre perdere un figlio e quello che mio padre ha provato poco prima di morire lo proverà sulla sua pelle dunque fammi portare del vino voglio brindare alla salute di Luigi Vampa voi gioite di una cosa così crudele no io gioisco della giustizia di Dio ma guardate che quel povero ragazzo è innocente e se i briganti decidono di sgozzarlo il giovane Albert vuole assistere ad un supplizio bene avrà il posto d'onore no perché no non è da voi io non vi credo lo penso davvero tu non capisci niente ma non pensate a sua madre ti preoccupa sua madre si consolerà presto non temere il suo più grande dispiacere l'ha dimenticato dopo appena qualche mese sembra quasi che la conoscete quella donna no si signore voi la conoscete quella donna e magari avete sofferto per lei è vero ecco perché ora vi fa tanto piacere l'idea che pure lei possa soffrire non ti posso dire il contrario sentite se vi torna vi volete vendicare vendicatevi allora ma non avrete soddisfazione lasciando sgozzare un povero innocente che poi neanche era nato quando voi soffrivate pure io ero innocente meglio ancora ed è proprio perché ricordate tutto quello che avete subito che dovreste impedire che un altro povero giovane sia vittima di un'ingiustizia tu vuoi che io salvi Alberto Morsef non solo lo voglio lo pretendo proprio ah tu lo pretendi ti permetti di pretenderlo e per quale ragione mi permetto di pretenderlo perché avete un debito con me voi l'avete dimenticato forse ma io no addirittura avete detto che avevo un credito aperto presso di voi ma sì poiché volevo raccontarti la mia storia dirti il mio vero nome non mi importa sapere come vi chiamate mi importa di più sapere chi siete e io so che siete un uomo buono come fai a dirlo perché uso il cervello perché rifletto per esempio volete sapere perché avete speso tutti quei soldi per farvi costruire una nave ma perché sono un marinaio di conseguenza amo le navi no ma voi non ci metterete mai piede lassù anzi se volete io addirittura vi posso dire per chi è sei davvero un temibile creditore Bertuccio sia come vuoi hai vinto ebbene salderò il debito che ho verso di te allora volete dire che pagherete il riscatto del giovane Morsè no non ho intenzione di pagare il riscatto e poiché vuoi privarmi del piacere della vendetta permetterai almeno che mi diverta un po' corri alla chiesa affranca il signor Pastrini dalle sue preghiere e digli che voglio incontrare prima dell'alba di domani mattina Luigi Vampa adesso vi riconosco ancora una cosa hai tempo fino a domani per sapere tutto sul giudice che ha fatto condannare a morte un uomo di Vampa buonasera signor Vampa prima di tutto voglio ringraziarvi per essere venuto dite ai vostri uomini di andar via potete dirglielo voi stesso signor Vampa va bene avete portato il denaro per il riscatto? no come vedete io sono venuto a mani vuote questo per me vuol dire che Albert de Morsè fa allora sarà giustiziato no non credo proprio sono ben curioso di sapere chi me lo può impedire Rocca Priori detto Peppino e questo Peppino è uno dei vostri amici se non sbaglio e in che vi riguarda signore la morte di Peppino mi riguarda perché posso impedirla volete sottrarla al boia ci ho già pensato è impossibile ci saranno troppi soldati in piazza vi prometto la grazia per il vostro amico Peppino se mi garantite la libertà del visconte di Morsè fu una vita per un'altra vita uno scambio alla pari no? posso concludere che avete accettato il patto sono attendibili le tue informazioni sì la sera prima di un'esecuzione capitale il giudice Simonetti va sempre all'opera ognuno cerca di sollevare la propria coscienza come può e il nostro amico aspetta l'alba fatale cercando piaceri molto molto particolari c'è sua eccellenza il giudice Simonetti da questa parte ecco signore mia giovane amica mi sorprende che vi scandalizzi tanto la mia richiesta se avessi preteso di fare l'amore con voi avrei potuto capire il vostro rifiuto ma in questo caso la sola cosa che vi chiedo è semplicemente di baciare i miei piedi beh di recarveli più precisamente di lavarveli lentamente con l'adorazione e se per caso non dovessi farlo con il dovuto rispetto vi assicuro che non opporrei nessuna resistenza se voi voleste punirmi a colpi di frusta basta tacetesi e siete repugnante sapete veramente non vi capisco amica mia sarei l'unico dei due ad essere umiliato punito e condannato e sarei immensamente felice di ricevere piccola imbecilla permettete vorrei parlarvi un momento signor giudice no mi dispiace signore sono di pessimo umore stasera la trovo una serata isecrabile l'orchestra il soprano il coro vi è anche andata male se non sbaglio vedete giudice quando si vuol chiedere ad una giovane donna di essere complice di bizzarri giochi perversi e affascinanti in cambio le si deve offrire affinché accetti un'altra forma di affascinazione e oggigiorno ciò che affascina le giovani donne sono questi è un rubino magnifico sono contento che vi piaccia ve lo darò a me? perché? ma voi chi siete? venite avrò modo di spiegarvelo in verità signor giudice vorrei si facesse un baratto un baratto? la pietra in cambio della grazia ad un tale peppino questo rubino vi assicurerà la riconoscenza di quella donna così graziosa dai piedi così delicatamente ben fatti ma taccete dunque per chi mi avete preso? ebbene per un giudice facilmente corruttibile non era mia intenzione corrompervi ma solamente esaudire un vostro desiderio un desiderio ben inteso innocente se paragonato a tanti altri mi chiedo sinceramente cosa mi trattiene dal farvi arrestare la passione mio caro giudice la passione vi trattiene voi godete quando le donne vi fanno soffrire vi umiliano e perché no dopo tutto se piace a voi cosa volete che mi importi ma io soffri molto per una donna e per alcuni uomini che mi umiliano se ripensa al passato sono preda di una sensazione disgustosa ma ognuno ha i suoi incubi ed io non voglio affatto dilungarmi sui vostri aspettate se fossi in voi di questo ne farei un ciondolo è raro vedere un diamante così puro al petto di una giovane donna quanto a rubino e allo smeraldo la vostra amichetta saprà certamente come impiegarli le piccole oche non sono stupide che in apparenza questo genere di supplizio si chiama mazzolata è una cosa che si fa solamente in Italia state a sentire che vi spiego come funziona il boia prende una mazza ma bella grossa e fracassa il cranio del condannato a morte poi con un coltello gli taglia la gola e alla fine per fare uscire prima il sangue gli cammina sopra la pancia che crudeltà inaudita avete ragione comunque oggi è l'ultimo giorno che viene inflitta la mazzolata perché da domani pure gli italiani diventano civili useranno la mannaglia grazie Non dovete giudiziarlo! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Ebbene, caro visconte, è un peccato che vi abbiano negato lo spettacolo della mazzolata. Non ne sarete deluso, spero. Signore, mio padre, la mia povera madre e io, per ciò che avete fatto, vi siamo grati. Voi siete vivo. È una bella giornata. L'Italia abbonda di meraviglie. Approfittatene. Arrivederci, caro visconte. Calmati, Maximilien, calmati. Dobbiamo essere forti e pensare all'onore. L'inglese sarà qui a mezzogiorno, manca solo mezz'ora e volete che mi calmi? La tua agitazione non cambierà certo le cose. Lord Wilmore si presenterà a mezzogiorno e io ho deciso... No, 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 padre, non fate pazzia. Non si uccide un uomo per denaro. Ma io non voglio sparare al Lord Wilmore. Ma allora volete uccidervi? Sì. Non ve lo permetterò, datemela. Che importanza ha per voi quell'uomo? E poi non è un uomo, è una banca e non si muore per una banca. Anche se non pago la Thompson & French, non fallirà di certo. Per loro il mio debito è probabilmente una goccia nell'oceano. Allora non fatelo. Pensate a me. Ma io sto pensando a te. Al tuo avvenire. Voglio che tu possa godere della piena fiducia degli investitori che possono darti il denaro per fondare un'altra impresa. Poiché non sopporterei che si dicesse... Vedete, quello è il giovane Morel. Suo padre non è stato in grado nemmeno di onorare la sua firma. Mai fare prestiti al giovane Morel. Se in futuro non potrà fare l'armatore, allora farò... farò il marinaio. Ti domanderanno di firmare per l'imbarco e il tuo nome non varrà più nulla. Tuo padre l'avrà disonorato. Tu sai quanto vale una firma, figlio mio? Sai cos'è una firma per me? È un patto scritto dalla mia mano. La mia mano sono io. E tu fai parte di me. Adesso vattene. Lasciami solo, vai. Fammi fare quello che va fatto. Come pretendete che vi lasci, sapendo che al mio ritorno sarete... Sarò addormentato. Dormirò un po' più profondamente, senza dubbio, ma... Sarò come addormentato. Tu sai che... Io non ho paura del sonno. Si ritrova la pace dormendo. Da vecchio la penserai come me, vedrai. Tutte le sere, mi ripeto... Potessi chiudere gli occhi. E prego... Di non riaprirli più. Ti voglio bene, figlio mio. Ti voglio bene. Avanti, vattene. Lasciami solo. È quasi mezzogiorno. Su, va. A Lord Wilmore. Oggi, 5 marzo, milord, sto per mettere fine ai miei giorni. Voi siete un uomo d'onore. Sono certo che mi capirete. La mia morte non vi rimborserà di quanto vi devo. Ma nel compiere questo gesto, che qualcuno, certo non voi, giudicherà una fuga o una vigliaccheria, regolerò almeno un conto che ho nei confronti di me stesso. Con la mia morte riscatto il mio onore. Siete voi il figlio dell'armatore Morel? Sono Maximiliano Morel, sì. Mi hanno detto di darvi questa, a mezzogiorno. Chi vi ha detto di darmela? Un prete, un santuomo, credetemi. È l'abbate Busone. Padre, fermatevi, non fatelo. Guardate, guardate qui. Salderete il debito con queste e ne rimarranno ancora. Ma io so di chi è questa borsa. La riconosco. Appartiene a un abate, un certo Busone. Ma no, no, ti sbagli, no. Questa era del padre del giovane De Mont Dantes. Ogni volta che andavo a trovarlo, gli mettevo qua dentro qualche moneta e a volte qualche banconota per fare meno rumore. Sai, era molto orgoglioso il vecchio Dantes. Avanti. Lord Wilmore, signore. Ed eccomi qua, signore, come era stato convenuto. Accomodatevi pure, milord. Non immaginate quanto sia contento di vedervi. Ma sedetevi, prego. È accaduto un fatto che voglio raccontarvi. Un miracolo, milord, un vero miracolo. E volete dirmi che siete... In grado di onorare la mia figlia, milord. E di fare anche di più. Sì, infatti me l'ero immaginato. E visto che il faraone è rientrato, è evidente che la vostra situazione è mutata radicalmente. Perdonate, milord, ma state commettendo un errore. Un errore? A proposito di cosa? Del faraone. Ma via, signore, di che parlate? Nessuno meglio di voi sa che la mia nave è affondata. Siete voi che mi avete annunciato il naufragio tre mesi fa. Sono nel mondo della finanza, mio caro Morel. Sono abituato al rigore delle cifre e alla concretezza dei fatti. E ancora vi ripeto, come già vi dissi, che ero a bordo della nave che ha visto il naufragio del faraone e che ha raccolto i suoi naufraghi. Ero sul ponte della Luxor. Ho visto quei poveri marinai cercare di salvare la vostra nave con la forza della disperazione. Ho visto il mare scatenarsi, fracassare e inghiottire tutto quello che restava del vostro sfortunato abbastimento. Se avete una Bibbia, signor Morel, ebbene, datemela. Sono pronto a giurare con la mano destra alzata sulle sacre scritture che io ho visto il faraone scomparire nelle oscure profondità del mare. Ma ora sono ugualmente pronto a giurare davanti a Dio che venendo qui sulla banchina del porto ho visto una folla in festa che acclamava quello stesso faraone che era il vanto della vostra casa e che faceva maestosamente il suo ingresso nella rada di Marsiglia proveniente dall'Italia con a bordo il suo carico d'olio d'oliva, di grano duro, di agrumi, di otri, di vino, di chianti, di formaggio di Parma e altro. Ma è impossibile, questo sarebbe... Un miracolo. Signor Morel, un miracolo. Sinceramente anch'io stento a crederlo, ma se la parola miracolo esiste nel linguaggio di noi uomini evidentemente ha un riscontro nella realtà. È bello che di tanto in tanto accadano miracoli. e allora, vi siete divertiti? Moltissimo. E poi vederli così felici. Il nostro faraone è talmente identico all'originale che nemmeno Morel se ne è accorto. Certo, ha mantenuto l'odore che ha il legno delle foreste italiane, ma questo è un dettaglio che potrebbe notare solo un marinaio esperto come... Come Edmond Dantes. Dantes? Chi è Dantes? Conosci qualcuno che si chiama Dantes? No, 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 no. È solo un nome detto per caso. Mi è venuto in mente così tanto per dire. Bene, allora, se è un nome detto per caso, fai in modo di non dirlo più. Ma non vi preoccupate, io l'ho già dimenticato, che non mi ha detto Daldesse, Burgesse, Dubless, che disgrazia non avere memoria. Oh, a proposito, tenete, quasi quasi l'ho dimenticato. Ah, cos'è? Sono invitato dal giovane Visconti Albera a prezare a casa Morsef, il 21 giugno, il primo giorno d'estate. Padre, vi sentite male? Non è niente. Non è niente. È stata una grande emozione. Sono felice, sono enormemente felice. E poi, se i bastimenti riemergono, è la prova, è la prova che Dio esiste. E quindi noi... No, padre, no, padre, no! Eh, sì, a Bertuccio, si va a Parigi. Bene, signore. A Parigi. Sì. Ehi! 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 Ma siete voi? Buonasera, Monsignore! Volevo dire, buonasera, vostra altezza! Oppure, se preferite, vostra grazia. Scusate, Monsignore! Ascoltate, amico mio, non sono che un uomo, ma un uomo affamato. Ah, perfetto, provvedo subito. Presto, scaricate i bagagli del conflitto. Salve. Ma no, 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 no. Con queste. Hai ragione. Devo stare attento a non fare trappelare con gesti inopportuni la mia vera identità. No. Tu che hai servito presso un conte, mi insegnerai le maniere che usano in società. Comincia, ti ascolto. Allora, per prima cosa dovete sapere che un vero conte, specialmente quando è ricco come voi, non deve mai far vedere che ha fame. D'accordo. Eh, no, no, no. Perché no? È vino. Ci si potrà servire del vino, no? Certamente, ma con moderazione. Con molta moderazione. Così, vedete? Si versa delicatamente e si beve mostrando un po' di disgusto, come se uno bevesse aceto. E ridere? Ridere è permesso, vero? Sì, ma un vero conte ride con discrezione. Come se tossisse dentro un fazzoletto. Dovete sapere che le persone dell'altra società trovano la vita noiosa da morire. Che razza di imbecilli. No, 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 ma no, ma no. Ci si pulisce con il tovagliolo, usando l'angolo, guardate. Qua, delicatezza, qua. Bene. Allora, ascoltami Bertuccio. Con molta pazienza ricominceremo tutto da capo. E tu dovrai insegnarmi le buone maniere. Mi darai lezioni di galateo, di stile e comportamento. Insomma, mi farai diventare un imbecille, almeno in apparenza, d'accordo? Ah, caro Beauchamp. È l'ultima edizione, ne ho portata qualche copia. C'è tutto sul processo del giorno. Condanna a morte per Gervais Rebuffet. Sono conclusioni affrettate. La requisitoria di Vilforra è nel pomeriggio. Domanderà la morte per l'imputata. E vincerà, come sempre. E domani, come sempre, sua figlia Valentin passeggerà al voa col suo cappello con i nastri blu. Che c'è di male? È incantevole la signorina Vilforra. L'ho incrociata qualche volta sulla canebiera. Tempo fa, quando era in vacanza da sua nonna, la marchesa di Saint-Marin. Albert, sto morendo di fame. Ci accomodiamo in sala da pranzo? Aspettiamo il conte di Monte Cristo. Chi aspettiamo? Il signor conte di Monte Cristo. Amici carissimi, ecco l'uomo a cui devo la vita e che non mi ha lasciato il tempo di ringraziarlo. Cosa che faccio con molto piacere oggi davanti a tutti voi. D'altro canto, signore, non mi avete detto con quale mezzo mi avete strappato dalle mani di quei briganti? Ho negoziato, caro Visconte. Cosa vi avevo detto? Tutto si compra e si vende, compresa la vita di un uomo. Maximilian Morel, signor conte. Appena giunto da... Marsiglian, se non sbaglio. Siete per caso un indovino, signor conte. Oh, più semplicemente ho inteso pronunciare il vostro nome da uno dei miei amici, Lord Wilmore. Signore, se Lord Wilmore è un vostro... Oh, con Lord Wilmore non ho che una banale relazione d'affari. A volte è in grado di darmi buoni consigli sulla gestione del mio capitale che, essendo considerevole, può creare dei vincoli. È indetestabile questo conte di Monte Cristo, pensa solo al denaro. Mentre li stavamo inseguendo, facendo murinare le nostre scimitarre, i predoni e i loro cammelli fuggirono fra le dune del deserto. E noi potemmo tornare alle nostre tende sotto un cielo scintillante di milioni di stelle e mangiare un delizioso agnello arrosto, il più buono che io abbia mai assaggiato nella mia vita. Raccontate in modo accattivante. Che sarebbe accaduto se questo terribile sceicco e la gira vi avesse catturato? Oh, suppongo che saremmo finiti in prigione. È tutto qui l'effetto che vi fa? Evidentemente, signor Conte, non sapete cosa sia una prigione. Perché voi, signore, voi lo sapete? Ebbene, devo ammettere che nelle famose giornate di luglio io ero... Giornate di luglio? Scusate la mia ignoranza, ma sono rimasto a lungo lontano dalla Francia e... Le tre giornate di tumulti che portarono il re Luigi Filippo sul trono. L'amico Beauchamp, per aver scritto nel suo giornale che appoggiava gli oppositori, fu arrestato. Come un volgare malfattore, signor Conte. Sono rimasto tre giorni rinchiuso. Tre giorni e tre notti. Immaginate cosa ho dovuto sopportare per ben 72 ore. Non per minimizzare le vostre sofferenze, mio caro Beauchamp, ma ebbi modo di conoscere un innocente rimasto in prigione nel buio delle segrete per ben 175.200 ore. Oh, perbacco! Ma raccontate! Scriverò un articolo per il mio giornale. Sì, vi prego, narrateci. Come l'avete conosciuto, signor Conte? No, 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 siete ancora troppo giovani e spensierati per comprendere che cosa sia la disperazione. Voi lo credete? E che ne dite di due giovani che si amano e il loro amore viene ostacolato? Allora, ecco in questo caso, preferisco raccontarvi la storia dei tre camellieri di Bengasi. Immaginate che un giorno poi i tre si misero in testa di acquistare una giovane cammella bianca. Li avete conquistati. Mi giudicano incredibile, unico, straordinario. Perfino Beauchamp, che di solito è diffidente, dice che tutta Parigi sarà ai vostri piedi. Vi sono grato per la stima che mi accordate, Visconte. Ora tocca a me chiedervi il permesso di ritirarmi. Certo, ma prima vi presenterò ai miei genitori. Vogliono vedervi e ringraziarvi, soprattutto mia madre. Avete parlato di mia vostra madre? Che vi ha detto? Che è impaziente di conoscervi. Anch'io lo sono. Il mio padre ha la passione per i cavalli da corsa. Vi consiglio di far correre un vostro cavallo al giochi club. È opportuno se volete farvi notare a Parigi. Francamente, Visconte, non vedo come si possono battere dei magnifici cavalli come i vostri. Anche se... Anche se... No, niente. Permettete che vi presenti il Conte di Montecristo. Signor Conte di Montecristo, eccovi finalmente. Cominciavo a temere che mi fosse impedito di conoscervi. E a voi che dobbiamo la liberazione. Non sopravvalutate i miei meriti. Ciò che ho fatto è ben poca cosa. Chiunque altro al mio posto avrebbe agito in... Vi prego, seguitemi. Accostiamoci alle finestre. Teniamo in ombra la stanza per il caldo, ma... Desidero vedervi in piena luce. Vi chiedo la grazia, signora, di restare dove sono ora. La luce troppo viva è accecante per me. È che sono diventato un uccello notturno. Il riverbero del sole sulla bianca sabbia del deserto d'Arabia mi ha cagionato un indebolimento della vista. Avete viaggiato in Oriente? Ci ho vissuto. Per molto tempo? Poco più di vent'anni. Luoghi interessanti, vero? Sì, ma crudeli. Avete ragione. Vi si praticano supplizi talmente raffinati da fare orrore. Come in Francia, d'altrude. Grazie a Dio abbiamo abolito la tortura. Esistono altre maniere per far soffrire un uomo. Molto meno violente, senza dubbio. Ma terribilmente atroci, decisamente strazianti, se prolungate negli anni. Ma via, signori, che conversazione. Credevo ci fossimo riuniti per gioire. Signor Conte di Monte Cristo, vi prego di accettare una tazza di caffè. Moglia mia adorata, che avete? Madre, vi sentite male? Siete impallidita all'improvviso. Ma no, al perno né niente. Un malore lieve da calore. In questa stagione calda e soffocante. Spero vi siete domiciliato sulle rive della Senna. O poco distante, signor Conte di Monte Cristo. Il fiume combatte la calura e rinfresca l'aria. Almeno quando non si preoccupa di appestarla con il suo miasma. Infatti mi chiedevo dove siete alloggiati. All'hotel di Monte Cristo. Senza dubbio, ma a quale indirizzo? Sarà senz'altro un indirizzo eccellente, anche se ancora l'ignoro. Signore, non vi incomodate. Del resto avrei perso la partita come al solito. Gioco solo per far piacere a Fernand. Voi non amate gli scacchi? Mia moglie ritiene che le partite non finiscono mai. Talvolta è vero. Ad esempio, chi vi sta di fronte ne ha cominciata una vent'anni fa. Non l'avete ancora terminata? No, ma si avvicina la sua fine. Difatti, il mio avversario è già sotto scacco matto, anche se lui non lo sa. È il momento più divertente della partita. Avanti! Una missiva urgente per il conte di Monte Cristo, da parte di un certo signor Bertuccio. È il mio intendente, spero mi scuserete. La pianura monso. Come dite? La pianura monso. Volevate sapere il mio indirizzo? Eccolo, la pianura monso. È fuori città, è quasi in campagna. Da solitudine. Ci sono abituato. Sarà compito vostro adolcire questa solitudine facendomi visita di tanto in tanto. Non giudicate mi scortese, ma devo recarmi al palazzo di giustizia. Ho promesso al procuratore Vilfort di assistere alla sua requisitoria. Dunque il signore Vilfort non è più a Marsiglia? Oh no, 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 è procuratore a Parigi, da... Da quanto tempo, Mercedes? Oh, pressa poco da vent'anni, mio caro. Oh, già vent'anni sono passati. Volete farmi l'onore di accompagnarmi? Non osavo domandarvelo. Con tutto il cuore mi auguro che il vostro malore sia passato. Mio Dio, sì, certo. Sì. E di quale crimine verrebbe accusata questa Gervese Ribuffet? Di procurare aborti. Ma che importa qual è il crimine? Sapete, conte, la giustizia è un po' come la corrida spagnola. Il toro è nell'arena per esaltare il valore del torero. Scusate. Questa donna, se così vogliamo chiamarla usando un eufemismo, questa donna che è qui come imputata in questo processo è soltanto un'infanticida. Non potete dire questo. Il termine infante è improprio. Rammento alla corte che l'imputata qui presente non può essere accusata di infanticidio. Volete dire che creava Angeli? Vi piace come espressione per definire il più diabolico di tutti i crimini perché va detto che Gervese Ribuffet ha ucciso dei bambini e ha tolto loro la vita nel più orribile, nel più ripugnante dei modi perché li ha assassinati andando a colpire direttamente nel ventre della madre. È il tempio della vita che lei ha profanato. È il sacro asilo, il più sacro di tutti, che ha violato. Quante volte questa donna ha selvaggiamente annientato un bene così prezioso, per me il più prezioso di tutti, come la vita di un bambino non ancora nato. O che importa, se l'avesse fatto anche una sola volta, sarebbe ancora una volta di troppo. E voglio dirvi che allora quando la lama della ghigliottina si abbatterà su di voi Gervese Ribuffet non vi trasformerà in un angelo, no, perché il vostro posto è all'inferno. Se volete assistere all'esecuzione posso fare in modo di procurarvi un lascia passare. Purtroppo dovrete alzarvi all'alba, ma... Deve essere grandioso vedere la giustizia nella sua forma più cruenta. Caro amico mio, ancora una volta avete fatto onore al vostro buon nome. Non devo neanche usare tutto il mio talento quando si tratta di infanzia. Ecco, vi presento il conte di Montecristo, il signor Vilfort, procuratore del re. I miei omaggi, signor conte. Se permettete vi abbandono un istante, mi aspettano in cancelleria per consegnarmi un documento relativo a un affare al quale mi sto interessando. Andate pure, amico mio. che pulisce qui? Perdonate? La pulizia nelle aule, chi ha l'incombenza di farla? Mio Dio, credo sia compito di alcuna donna. Perché questa domanda al signor conte? Avete notato quanto ha pianto l'imputata? Sì, per intenerire i giurati, ma è uno stratagemma che non le servirà. Non ha importanza. Compatisco la persona che dovrà asciugare quelle lacrime. Oh, se è per questo evaporano in fretta. Prego, signor conte. Quello è il castello Diff, la più agghiacciante prigione del nostro regno. Quando ero a Marsiglia ho contribuito a far rinchiudere qualche ospite nelle sue segrete. Perché avete abbandonato Marsiglia? Quella città non vi piaceva? Domanda imbarazzante, signor conte. Ma poiché me l'avete posta è d'obbligo che vi risponda. Ho beneficiato di una promozione. Per i servizi resi a qualcuno? Ebbene, sì, naturalmente. A chi? A chi? Alla giustizia, signore. Alla causa della giustizia che mi onoro di servire. Non me ne vogliate per la mia indiscrezione. Ma è la prima volta che mi trovo faccia a faccia con un procuratore. Siete impressionato, mi sembra naturale. Sono incuriosito. Dopo aver inflitto ai vostri simili pene da far tremare, non vi è mai capitato una volta di provare un dubbio. Un dubbio? Sì. No. E del rimorso? È l'accusato che dovrebbe provare del rimorso. Non io. Dunque mai un rimorso? Mai. Devo quindi dedurre che non avreste paura di comparire davanti al tribunale di Dio per essere giudicato a voi stesso? Ebbene, no. La mia coscienza è a posto. Un poco ci somigliamo. Neanch'io temo la morte. Se non quando, venendo troppo presto, mi impedisse di portare a termine un grande progetto che ho giurato di mettere in pratica. Un grande progetto? Oh, so che vi piacerà. Farò giustizia. Volete fare giustizia? Voi? Ma certo. Temo che non sarà possibile. La confusione sarebbe totale se gli uomini decidessero di farsi giustizia da soli. Voi non siete un uomo comune, naturalmente, ma ci sono i magistrati per fare giustizia. Oh, state tranquillo. Non era mia intenzione sostituirmi alla giustizia degli uomini. Ma non esiste un altro. Invece sì. Signor procuratore, pensateci. È quella che gli uomini invocano in certi casi. La giustizia di Dio. Buongiorno. Buongiorno. Perdonatemi. Valentin, figlia mia, ti presento il conte di Monte Cristo. Ebbene, mio tesoro, a che cosa devo questa sorpresa? Mio caro padre, ho da poco appreso una notizia in attesa che... ma non so se posso... Parla pure liberamente in presenza del conte. Del resto, mi stava dicendo che intende sostituirsi a Dio e visto che Dio sa tutto, niente di quello che dirai potrà meravigliarlo. Avete saputo che il signor Franz de Pinay, che doveva restare ancora un anno come ufficiale in Algeria, sarà presto di ritorno qui a Parigi? Il fatto è che proprio grazie al mio intervento gli è stato possibile ottenere il ritorno anticipato. Anzi, signore, voi siete il primo a sapere che mia figlia Valentin e il giovane visconte Franz de Pinay saranno presto fidanzati ufficialmente. Non vorrei che la mia presenza impedisse alla signorina Vilfort di sfogare liberamente la sua gioia. Vi prego, vogliate scusarmi con il conto di Morsaf. E come vi dicevo, caro collega, certi casi non possono essere trattati con le gente. Avete ragione. Ultimamente ci incontriamo spesso. Ma cosa vi porto fin qui, amico mio? Alla vostra età si frequenta più volentieri il cabaret che i palazzi di giustizia. Siete in qualche guaio. Niente affatto, signore, niente affatto. Al vostro servizio, signore. Che succede, Valentina? Non puoi immaginare. Franz De Pinedi ritorno dall'alceria. Vattene, vattene via. Ma fate attenzione. Signor procuratore, me ne sopplico. Non ho che lui. Non lo mandate a morte. Fategli la grazia. Lasciatemi, strego. Che cosa vuole fare? La grazia è per il figlio che sarà ghigliottinato ormai. Non mi diverrai malinconica per questo, mio caro. Vero? Vero? Siate il benvenuto in casa vostra, mio signore. Sarete soddisfatto della nuova sistemazione. Bertuccio vi ha reso un bel servizio. Sei ben alloggiato con i tuoi uomini? Non datevi pena per noi. Ti ho fatto venire da lontano, Muhammad. Non voglio che tu abbia rimpianti. Nessuno di noi ha rimpianti. Solo il piccolo Hassan è triste. E perché è triste? Perché qui non può vedere il mare. Domani recluterai dei badilanti e farei scavare una grande buca in giardino. Voglio che lo scavo sia il più vasto possibile. Sulle sponde dovranno crescere piante di papiro come quelle che abbiamo ammirato ad Alessandria. L'acqua dovrà essere blu e brulicante di pesce. Ho l'impressione di leggere la Bibbia e Dio creò la terra e l'acqua. È per la gioia del piccolo Hassan che cerco di essere Dio. Il mare gli manca. Qui è un'altra cosa rispetto a Marsiglia, eh, signor Conte? Qui disponete di un centinaio di servitori. Nelle cucine avete un cuoco, un maestro salsiero, un pasticcere e pure sette sguatteri. Prendi nota. La mia servitù godrà di un giorno libero alla settimana. Un giorno intero? Ma è troppo. A Parigi l'usanza è che i domestici hanno solamente qualche... Qui siamo in casa mia e la mia servitù vivrà secondo le mie leggi. Capirete che questa cosa sorprenderà. Lo spero bene. È per sorprendere, affascinare, sbalordire e meravigliare. È infine per confondere che sono venuto a Parigi. Chiudi la porta. Giù la maschera, Bertuccio. Tu sai bene chi sono io? Se volete che lo sappia allora lo so chi siete, ma se non volete posso pure dire che non lo so, eh? Pronuncia il mio nome, Bertuccio. Il mio vero nome. È da tanto tempo che non lo sento dire. Davvero volete che lo dica? Non è che poi ve ne pentite. Te ne prego. Di il mio nome. Capitano Edmond Dantes. Sono i vostri ordini. Capitano Edmond Dantes. Com'è bello sentirlo dire. È certo il vostro nome, ma è pericoloso. Se qualcuno dovesse riconoscere... Impossibile. La maschera è perfetta, nemmeno Vilfort mi ha riconosciuto. D'accordo, l'aspetto fisico sarà cambiato di sicuro, ma la voce... Non ha sentito le grida dell'innocente Edmond Dantes. Vilfort non può riconoscere Edmond Dantes nella voce di Monte Cristo. Va bene per Vilfort. Ma lei? Lei chi? Lei, signor Conte, lei, la donna amata dal capitano Dantes. Mercedes è ancora così bella. Forse più bella di prima. Ho sentito dire che la sofferenza rende le persone più belle. Ma quanto avrà sofferto, si direbbe molto poco. Sembra che si sia abituata a questa vitaggiata che con me, peraltro, non avrebbe mai avuto. La ricordo ancora nei prati quando correva a piedi nudi con i capelli al vento. Era una creatura libera. Non c'è più traccia di quel sorriso radioso. Ora è cupa come la notte che cala su Parigi. Sì, ma qui ci sono anche le stelle. Ci sono le luci dei teatri, le insegne luminose dei ristoranti, le fiaccole che brillano nelle strade. Bertuccio, ho bisogno di una donna. Mi state chiedendo di trovarvi una signora? Sì, da portare con me a teatro, da accompagnare nei ristoranti, a cui porgere la mano, per aiutarla a salire in carrozza. Sei tu che mi hai fatto nascere l'idea se non la voglia. A volte parlo troppo, insomma, ma questa è una caratteristica proprio italiana. Ma non è forse vero che una bella donna deve sempre comparire al seguito di un ricco straniero in villeggiatura a Parigi? Sarei credibile senza una dama al mio fianco? Vabbè, ma io mica conosco i vostri gusti, signor Conte. Ascolta, la sola cosa che esigo è che niente in lei mi rammenti Mercedes de Morsef. Sarei credibile se quello è bruno questo è essere bionda. Può deve essere timida, semplice, perché non può essere seducente. E qui sono questi blu. Magari può avere un accento straniero, però non può essere spagnola. E poi non può essere manco una contessa. Dove la vado a trovare una cosetta? Buongiorno. Buongiorno. bella giornata, eh? Io mi chiamo Bertuccio. Possiamo fare due chiacchiere? E perché? Perché credo di aver adocchiato un bel esemplare. Un bel esemplare? La baronessa Carolina è la baronessa che tu hai chiamato bell'esemplare. Hai detto baronessa? Ah, ma allora è perfetto. No, perché se fosse stata contessa non se ne poteva fare niente, però baronessa è... Sì, ma è la mia padrona, brutto idiota. Spezia d'animale, scendi dalla mia carrozza. Vatti, vatti, vatti. Ehi, me ne vado, va bene. E che ho detto male? I miei omaggi, signora baronessa, è un vero peccato che non se ne fa niente, perché siete la donna che stavo cercando, ma tenete un cocchiere impossibile. Ma, mio caro barone, come mai un uomo come voi, un grande banchiere, è così timoroso? Convincetevi, Danglar. Tutti concordano. La ferrovia è l'avvenire. Il signor Aragò è contrario. Il signor Aragò è il più grande fisico di quest'epoca e secondo gli studi di questo luminare, non appena i vostri treni imboccheranno una galleria all'assurda velocità di 30 km l'ora, tutti gli sfortunati passeggeri moriranno schiacciati da una pressione insopportabile. E se permettete, non ho fondato la banca Danglar per rendermi complice di simili atrocità. Mi vanto di essere un uomo onesto, scrupoloso e responsabile. Mi sono spiegato? Chi vi dice che debbano correre a quella velocità? I 17 km orari che si raggiungono attualmente sono sufficienti. È in discesa, Danglar. Unicamente in discesa. Ma non vedete che sono in riunione? Questo signore dice che sarebbe sconveniente farlo attendere più di dieci minuti. Se non ha pazienza, che se ne vada. Conte di Monte Cristo. Non ho mai sentito parlare di quest'uomo. Io sì. E da quanto ho sentito è un aristocratico italiano da poco giunto a Parigi. Perlomeno si atteggia in tal modo. Ah, capisco. La Francia è diventata la patria dei poveri immigrati. Napoleone voleva invadere l'Europa, risultato siamo noi ad essere invasi. Sbagliate, barone. Il patrimonio di questo Monte Cristo si stima possa essere colossale, incredibilmente colossale. e ne affiderebbe la gestione alla banca d'Anglars, secondo voi? Oh, questo cambia tutto, allora. Signori, scusatemi, riprenderemo più tardi. Se questo Conte di Monte Cristo è così ricco, come mai non ne abbiamo sentito parlare? Signore, il vostro arrivo è stato preceduto dalla vostra reputazione ed è un onore e un piacere per la nostra banca avere la vostra fiducia. e parlando d'affari avete già una vaga idea della somma che intendete affidarci? Non vi affiderò alcuna somma. Come sarebbe? Non vengo a portarvi denaro, signor barone, bensì vengo a domandarvelo. A me? Ebbene, sì, perbacco, non siete un banchiere. Ma, indubbiamente, signor Conte, lo sono. Questa è una lettera della casa Thompson & French che mi apre un credito illimitato presso la vostra banca. A voi, leggete pure. Credito illimitato, ma cosa significa? Credito illimitato. È abbastanza chiaro, mi sembra. Significa che durante il mio soggiorno a Parigi, che dovrebbe durare, diciamo, all'incirca un anno, potrò ritirare presso di voi tutto il denaro che voglio. Ma non si è mai vista una cosa simile? Evidentemente alla Thompson & French avranno pensato che avrei potuto fare affidamento sulla solidità economica di cui tanto si vanta la vostra banca, ma d'altronde, signore, se la banca d'Anglard non dispone di capitali sufficienti per onorare taluni crediti, ebbene, avviserò la Thompson & French e mi farò indirizzare per i miei affari presso un'altra banca. No, no, aspettate, ve ne prego, non prendete decisioni affrettate. Non è certo mia intenzione scontentare la Thompson & French che è la nostra più grande corrispondente in Europa, ma è solo questa parola, è illimitato. vediamo se possiamo quantificarla per quanto vi ha bisogno al momento. Se parliamo di cifre diciamo che... Sentite, oggi mi sento generoso. Facciamo un milione? Un milione? Lo so che è una somma considerevole, ma poiché vi manda la Thompson & French... Un milione. Beh, non mi ringraziate, è una somma enorme, ma la banca d'Anglard è una fondazione recente e ha bisogno di accrescere la sua reputazione. Sei. Sei cosa? Sei milioni. Volete sei milioni di franchi? Per cominciare. Sei milioni... Voglio cinquecentomila franchi immediatamente a mia disposizione, metà in oro e metà in banconote. Cinquecentomila? Li volete così immediatamente? Signore, se parole come credito illimitato hanno un senso, la parola immediatamente ne ha uno anch'essa. Ricevete l'uomo apparentemente più ricco del mondo e invece di spingerlo a riempire le vostre casse lasciate che ve le vuoti. Rideranno tutti di voi. Voi non vi intendete di alta finanza, moglie cara? Lo so, per voi sono solo un incapace. Persino di darvi un figlio maschio me lo rinforverate sempre. Non vi ho mai chiesto un figlio maschio. Vorrei un figlio, non mi importa se maschio o femmina. Non siate ipocrita. So bene che volete un maschio per assicurarvi la discendenza. Ah, naturalmente, perché mi rattristerebbe se dopo la mia morte la banca d'Anglar andasse a finire nelle mani di Estranei. Rassicuratevi, il giovane Morsef acquisterà la vostra banca. Suo padre è ricco abbastanza per fargliene dono. E le mani dei Morsef non sono affatto le mani di Estranei. Che intendete dire? Che fa sempre comodo a un banchiere avere un pari di Francia dalla sua parte. Specialmente se è uno dei suoi vecchi compagni d'avventure a Marsiglia. Ma quali avventure? Quali avventure? Venite a coricarvi, Ermin. Dobbiamo figurare al Giokey Club domani. Il vostro famoso Monte Cristo ci sarà? Immagino di sì. Perché? Sarà in gara? Mia cara, d'accordo che da oggi pomeriggio il conte dispone di sei milioni di franchi da gettare, ma in una notte a me sembra impossibile che possa acquistare un puro sangue, allenarlo e ingaggiare un fantino. È vero che Monte Cristo è ricco, senza alcun dubbio, ma non è Dio. È sempre il famoso Abba de Faria che mi ha insegnato la chimica. Ma certo, anche tenendo presente che laggiù non avevamo la possibilità di verificare l'esattezza delle nostre formule. Il nostro laboratorio era qua dentro. Ma che cosa ci dovete fare con tutte ste pozioni? Comincerò ridicolizzando il conte di Morsef visto che sono certo di batterlo al Giokey Club. E con quale cavallo? Nuarò. Nuarò? Sì. Lo iscriverò sotto il nome di Faraone. Ma non è che se gli cambiate nome quello si metta a correre più veloce. Morò è una buona bestia ma è carne vecchia. Quello dopo dieci metri prende e crolla. Verserà il contenuto di questa boccetta nel suo abbeveratoio. Ma cos'è non ricostituendo per cavallo? Hai fra le mani un elisir capace di trasformare una piccola scintilla in una bacinante stella. A chi appartiene questo Faraone? A un inglese signore un certo Lord Wilmore. E l'hai visto? Sapresti descriverlo? No signore poiché non era presente alle corse. Ammirabile. Ci siamo fatti battere da un inglese fantasma e dal suo cavallo. Un ronzino così scarno da sembrare uno scheletro. Signore la vostra cavalla ha dato il meglio di segno. Sono addolorata per voi Fernand. So che speravate tanto di vincere questa corsa. Non ero il solo. D'Anglare aveva puntato 3000 franchi sul mio cavallo. Wilford aveva scommesso sulla mia vittoria. Mi sono coperto di ridicolo. Non occuparti più di lei. Domani la farò abbattere. Ma signor Conte? La decisione è presa. Se si è fatta superare da un brocco che a malapena respirava Giannina non vale l'avena che mangia. Domani la porterai al mattatoio. No, non è giusto. Quel cavallo era un fulmine. Non poteva fare di più. O la porti al mattatoio o la abbatto subito. Approntate la mia carrozza io esco. Ma a quest'ora che stranezza si erano pronti per andare a tavola. Vi avete tolto l'appetito Fernand. È incredibile. È qui che volevate fermarvi signora Contessa? Sì. 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 Ce ne andiamo. Dove desiderate andare signora Contessa? Non lo so, scegli tu la meta ma va veloce. Voglio prendere aria sento che sto per soffocare. certo che la Contessa di Mosef è proprio una bella donna. è già. Grazie. Se tuo padre ha agevolato il rientro dall'Algeria di Franz Depinay, è chiaro che vuole fissare entro breve tempo la data del vostro matrimonio. Abbi fede, Maximilien, non sposerò Depinay. È te che voglio sposare. Tuo padre non la consentirà, nutre ambizioni per te e io sono troppo povero per rispondere a quelle ambizioni. Povero? Ma tu non sei povero, non sei armatore, non possiedi imbarcazioni. La cattiva sorte si è abbattuta sulla nostra casa. Le nostre imbarcazioni sono affondate una dopo l'altra. C'è rimasta una sola nave, il faraone. Acquistane delle altre. E con quale denaro? Visto che perfino il barone Danglare ha bocciato il mio progetto. Dimentica Danglare, abbiamo un alleato. Mio nonno è dalla nostra parte. Gli epine per lui sono maledetti. Si batterà perché io non porti mai il loro nome. Ma lui che può fare, Valentin? Vuoi bene a tuo nonno a tal punto da dimenticare lo stato in cui versa? È paralizzato, non ha più l'uso della parola. Riesce a farsi capire benissimo con il movimento degli occhi. La mia ultima speranza è il conte di Montecristo. Dicono sia ricchissimo e generoso. Non so perché, ma mi vuole bene. Proverò a chiedere a lui il denaro di cui ho bisogno. Non farlo, appunto perché la sua fortuna sembra illimitata. Si sospetta che non abbia un'origine onesta. Per questo mio padre ha disposto allo svolgimento di un'indagine. Sii prudente, Maximiliano. Non comprometterti con un uomo che può essere arrestato da un momento all'altro. Effettivamente, anche se non è un'aristocratica, va detto però che la signora della Richardet non è niente male. Ma chi è questa signora della Richardet? Non vi ricordate che mi avete incaricato di trovarvi una... Come si dice? Di pure un amante. Chiamiamo le cose con loro nome. Eh, certo. Allora diciamo che la vostra futura amante, o per meglio dire la vostra eventuale futura amante, ha 31 anni e si chiama Camille de la Richardet. È bionda e notoriamente virtuosa. Oh, la conosco bene, la virtù delle donne. No, 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 no. Lei è la personificazione della fedeltà. Diavolo, ma allora cosa ne facciamo del marito? Ma no, c'è un malinteso. Lei in realtà è fedele alla memoria del marito. La nostra signora Camille de la Richardet è vedova. Oh, bella, ha 31 anni, di già. Un duello, finito male. Comunque, guardate che questa donna è un angelo. Vive segregata nella sua casa di Otei ed esce solamente il venerdì per andare a confessarsi. Bene, sono curioso di vedere il tuo angelo. Dominus Vobiscom, caro confratello. Chi siete? Da dove siete entrato? Dalla porta che era aperta, come bene che sia nella casa di Dio. Sì, infatti era aperta perché aspetto una penitente. Una penitente? La vostra penitente del venerdì, la signora della Richardet? Voi come lo sapete? Sono suo zio. Voi? La signora dunque ha uno zio prete? Gesuita. Oh, misericordia. Permettete che io prenda il vostro posto nel confessionale. Sì, e ve ne sarei ben grato. Infatti non so mai quando la vostra cara nipote si affaccerà per riconciliarsi con il Signore. E con i miei reumatismi e la mia salute cagionevole sono obbligato ad aspettarla in questa umida chiesa. Allora, se volete, tornate nel presbiterio. Vi farà bene leggere il breviario di fronte al fuoco. Grazie, mio caro confratello, grazie. Se temete da annoiarvi nell'attesa di vostra nipote, qui dietro l'altare troverete buone letture. Non so più dove ammucchiare i miei libri. Voglio raccomandarvi in modo particolare questa monografia che io stesso ho scritto sul sacro cindiale. Varaka, visto nella tradizione hindù in funzione delle sue origini mitologico iperbore. È una vera delizia, vedrete. Vedo che avete raccolto tutti gli articoli usciti sulle messagge e consulterei volentieri l'anno. 1815, eccolo qui. Fu l'anno della mia ordinazione. Il mistero avvolge l'assassinio a Parigi del generale Depiné, benché manchi la conferma si sospetta che colpevole del delitto sia il signor Nortier abitante a Rue de Couperon. In quanto bonapartista non può che essere nemico del generale Depiné, che aveva fatto giuramento di impedire con tutti i mezzi che l'ex imperatore Napoleone tornasse a mettere piedi in Francia. Mio Dio, Faria aveva ragione e colpa di quella lettera dall'isola d'Elba. Il Foro ha creduto che anch'io l'avessi letta. Facendomi imprigionare, si è chiuso in una botte di ferro, ha protetto suo padre e ha reso un servizio alla monarchia. Servizio per il quale è stato ben ripagato. Perdonatemi, padre, perché è un molto peccato. Non siete la sola. Sedetevi. I miei rispetti, procuratore. E dunque, Bovilla, va avanti la nostra piccola indagine. Con prudenza, procuratore. Evitiamo di destare i sospetti del conte di Monte Cristo. Stiamo prendendo su di lui il maggior numero di informazioni possibile. Chi ve le dà? Diverse fonti, fra cui una che ci ha permesso di identificare un uomo che sembra lo conosca assai bene. È un prete gesuita di nome Busoni. Abita dietro Saint-Sylpiss. Lo incontrerò stasera. Un prete? Prudenza con i preti. Il procuratore del re ha il re come padrone. I preti invece hanno Dio. Di questi tempi, signore, molti sanno che Dio non è che è un'idea. Meglio di fidare di chi la pensa diversamente da noi, Bovilla. Andate. Non merito la soluzione per i miei peccati. Lo so bene. I peccati di gola che commetto ogni notte mentre sogno sono imperdonabili. Ma mi è impossibile resistere. Ma i vostri non sono peccati. Vi piace l'arrosto, amate la pasta, l'anguilla, le spezie e la vostra passione. Vi è impossibile resistere davanti ad una buona dozzina di ostriche della Nuova Zelanda. Vi esalta una bella salsiccia cotta alla braccia, impazzite per una torta di ciliegie. E allora? Per chi avete preso, signora, quel buon diavolo di Dio? Smettete di pensare a che Dio sia un bacchettone. Il creatore del mondo, colui che ha plasmato la bellezza, non può essere ottuso e tedioso. A lui interessa la vostra anima. E quello che per fame riuscite ad introdurre nella vostra bocca gli è completamente indifferente. Tanto più che è ben fatta la vostra bocca, signora. Ma padre! Non volevo importunarvi. E tengo a precisare, signor Conte, che non sono qui per chiedervi denaro. Ciò che chiedo è un vostro intervento presso il barone Daglar, affinché ritorni sulle sue posizioni. Vi ritornerà, mio giovane amico. Vi assicuro che vi ritornerà. Vedrete che dovrà tornare, ritornare su tante cose, il caro barone Daglar. È tardi, signore. Dovete prepararvi. Perdonate, dimenticavo che per voi ogni sera è una festa. Che bella vita la vostra. Dove andrete stasera? All'opera? Al quartiere latino? Questa sera si recita. A voi vi piace così tanto di recitare parti diverse? Ma se adesso Bovil vi arresta? Per arrestarmi dovrebbe innanzitutto sapere chi sono. Ebbè, potrebbe riconoscervi. Perché è stato ispettore delle prigioni una volta visitato il castello Diff. Se Mercedes non mi ha riconosciuto, Bovil non saprà fare di meglio. Una donna innamorata è una cosa, un ispettore carcelario è un'altra. Di che donna innamorata stai parlando? Se Mercedes avesse amato del mondo in testa non avrebbe mai sposato Fernand. Dunque, voi volete sapere chi è il conte di Monte Cristo? Chi è veramente? Mi piacerebbe, ammesso che voi lo sappiate. Il conte è uno dei miei penitenti. Ah sì? È interessante, estremamente interessante. Il mio ufficio però mi lega al segreto della confessione. Deludente? Molto deludente? Tuttavia mi è possibile farvi una piccola confidenza. eccellente, eccellente. Una sola parola basterà ispettore. Quell'uomo è il demonio. Il demonio in che senso? È satana in persona. Ma vedete, io dubito che il demonio esista veramente. Non vi scandalizzerete, vero? No, ma voi mi sorprendete. Ero certo che l'aveste incontrato. Il demonio? O se non altro i suoi dannati. Non rammentate di essere sceso all'inferno il signor de Beauville? Quando facevate le ispezioni nelle prigioni non vi sono rimaste in mente quelle grida, quei lamenti, quei pianti, quelle urla di disperazione? Siete dunque come tutti gli altri? O avete la memoria corta? Voi come... come sapete tutte queste cose? Sono stato uno di quei dannati. Ma il vostro nome... Voi non siete... Io sono l'abate Faria. Faria. Faria, Faria. Questo nome mi ricorda qualcosa. Il castello Diff, Beauville. Voi la pagherete per il castello Diff. Per aver ignorato tutti quei disgraziati. Un giorno tutto questo lo pagherete. Non a me! Ma a Dio! Dio non esiste, abate. Sono certo che Dio non può esistere. Dio non è stato Sì, avanti La cena è servita Che cosa c'è stasera nel menù? Noi avevamo pensato ad una crema di crescione seguita da piccole pernici in fricassea con cavolo e composta a rabarbaro Ma per l'eccessivo rincaro delle pernici sul mercato d'hotel la signora dovrà accontentarsi del crescione e del rabarbaro E va bene, farò come se già fosse tempo di quaresima Signora, il conte di Montecristo vi supplica di perdonare il modo estremamente audace con il quale si presenta a voi ma poiché da quando è a Parigi non è passato un solo giorno senza che non gli veniste nominata e disperando ormai di incontrarvi a passeggio nel quartiere latino, all'opera o fin anche presso Sua Maestà e Re... Ma non posso mostrarmi in società La morte di mio marito mi è precipitata nella miseria ho venduto i miei abiti, i miei gioielli E così l'infelice conte di Montecristo non tollerando più l'impossibilità di conoscervi ha fatto ricorso ad un eccentrico cerimoniale che si pratica in Oriente per avvicinare una persona reputata inaccessibile ha trasportato il suo caravan serraglio davanti alla vostra porta il mio caravan serraglio, signora del quale spero avrete la bontà di perdonare l'indigenza In verità, signore, non ho ben compreso ma poiché questo ben di Dio non aspetta che noi vogliamo metterci a tavola Sofì, per favore Non vi incomodate Ho pensato anche al servizio E queste cosa sono? Muoio dalla voglia di assaggiarle Oh, sì, datemi un po' di quelle piccole sfere nere dentro quella coppa di metallo È caviale, Camille È la coppa d'argento E voi non mangiate niente, signore È vero, al primo assaggio certi sapori sono perfino sconcertanti ma nell'insieme sono assolutamente deliziosi Vi divoro con gli occhi, Camille e questo, credetemi, mi sazia E dire che stasera mi ero già rassegnata al crescione e al rabarbaro e comunque mi domando perché facciate tutto questo Ve l'ho già detto per conoscervi meglio Ma sono troppo povera per essere interessante Quando saprete chi sono resterete terribilmente deluso La mia sola delusione è che non avete assaporato ancora quella meravigliosa cacciagione Bertuccio Bertuccio Su Bertuccio, alzati Sveglia Ma è ancora notte Alzati alla svelta La tua mattinata sarà piena Voglio che siano mandati ad Hotei il più famoso sarto di Parigi Il parrocchiere più alla moda E l'orafo più prestigioso Non mi interessa quanto mi costeranno Ho aperto un credito illimitato Va bene Ah, signore Che vuoi? Ma ditemi Com'è stata la cena? È stata di vostro gradimento? Squisita, Bertuccio Una cena davvero squisita Ah, anche la signora era squisita Avanti, forza, via! Ah, ah! La rete ottico telegrafica SHAP Ora comprende 534 stazioni Che sono collocate su vecchi torrioni Piccionai e Campanili E che permettono di collegare fra loro 24 città francesi Questa è la mia stazione L'unica che comunica con quella principale Che si trova a Parigi Ah, il progresso Che cosa meravigliosa Dovete essere fiero di lavorare qui Diamine, sì Anche se devo arrampicarmi ogni giorno Per queste scale Temo che prima o poi Mi romperò l'osso del collo Senza contare che qua su d'inverno Fa un freddo da morire Lo immagino, ma sarete retribuito adeguatamente, spero Niente affatto Posso chiedervi quanto guadagnate? Mille franchi l'anno, signora Certo, è compreso l'alloggio E come vedete Mi hanno dato un pezzo di terra Dove posso coltivare i miei legumi Ma mille franchi sono una miseria E quando non ce la farò più A salire fin qua Di cosa vivrò? Oh, suppongo che l'amministrazione del telegrafo Quando succederà Vi verserà una pensione Oh, non si può chiamarla pensione E se vi offrissi 25.000 franchi? Sono una fortuna Ma voi cosa vi domanderete di fare in cambio? Inviare un dispaccio che vi detterò Non posso, è vietato Non posso mandare un messaggio Se non lo ricevo da un'altra stazione 30.000 35.000 Guardate Niente più Niente più scale Niente più freddo È almeno conforme alla morale Il dispaccio che mi farete trasmettere? Qui si tratta di giustizia La morale non c'entra Ah I miei omaggi, signora Sabine Un buon affare è quella cappelleria di Rouguignancourt? È per merito mio se l'avete rilevata Ah, chi si vede? Il nostro amico Buongiorno Allora, mio caro Va bene il commercio dei cerchi e delle corde per saltare? Sì, va bene, va bene Hola Ah, buon champ Ho qui per voi un dispaccio appena arrivato al mio giornale via telegrafo Benite Quando l'ho letto ho pensato questo può interessare al barone d'Anglare Andate qui Quanto volete stavolta, Beauchamp? Ebbene, va detto che la ballerina che frequento ora è decisamente adorabile Ma, ahimè, voi capite, è esigente 200 franchi basteranno per soddisfare la vostra ballerina Lei è perfetta in tutto A parte qualche dente, gli incisivi Sono sporgenti e vanno corretti Mi costerà almeno 500 franchi 300 Con questa miseria alla povera giovane non resterà che battere il marciapiede Lo fanno tutte, vero? Avanti, datemi il dispaccio Il re Don Carlos è esiliato a Burgia e rientra in Spagna La Catalogna è già a ferrefuoco Alcune città come Barcellona Sono insorte e si sono schierate a sostegno della bandiera carlista La Spagna sarà governata dal caos Ho 500.000 franchi in fondi spagnoli Che domani, dopo che il mio giornale avrà pubblicato la notizia della rivoluzione spagnola Varranno appena la carta che è stata impiegata per stamparli Se per domani non saranno già venduti Grazie, Bochelle No, no, no No, no No, no No, no No, no Decisamente, mio caro Danglar In borsa fate il bello e il cattivo tempo Dite piuttosto che il barone ha scelto il momento migliore Per vendere tutte le sue obbligazioni spagnole In ogni caso una bella intuizione Chi poteva prevedere questi disordini in Spagna Giusto a saper leggere i fondi di caffè Sì, è vero Ma se Don Carlos avesse acceso solo un fuoco di paglia? Se non riuscisse a strappare la corona di Spagna Isabella II, allora? Ma le informazioni di cui sono venuto in possesso non lasciano alcun dubbio Prima di questa sera Don Carlos avrà passato la Sierra Guadarrama E fatto il suo ingresso trionfale all'Escuriale Anche voi qui, signor Conte Ah, volevo farvi tutte le mie congratulazioni, signor Barone, veramente Complimenti È stato bravo, no? Sì, molto bravo Spero, signor Barone, che nella vostra impazienza di vendere Non abbiate dilapidato troppo denaro con quei fondi spagnoli Ah, un po' di denaro l'ho perso, mio caro Conte, ma il meno possibile Ah, beh, niente a che vedere con la secca perdita che subiranno Quelli che ancora tengono fondi spagnoli nel loro portafoglio Signor Conte, Barone d'Anglard, devo assolutamente parlarvi Bouchard, mio caro Bouchard, ma come sta la vostra ballerina? È contenta? Lasciamo stare la mia ballerina, è meglio L'ultima edizione delle messagge sta per uscire E allora? Con una smentita, il re Don Carlos non ha mai lasciato Bouchard Mai lasciato Bouchard? Come sarebbe mai lasciato Bouchard? Ma allora... Allora niente Don Carlos è rimasto a Bouchard, Isabella II regna ancora a Madrid E la Spagna continua a ballare al suono delle nacchere serena e tranquilla sotto il suo bel solo Ma no, non ci credo, solamente ieri mi avete mostrato un dispaggio Era una notizia falsa A quanto sembra Trasmessa da un addetto del telegrafo fulminato dalla demenza Il giornale dice che è fuggito abbandonando la sua stazione, leggete, leggete I fondi spagnoli risargliano Qualcosa vi preoccupa, signor Barone? Entro un'ora, signor Conte, i fondi spagnoli avranno riacquistato e forse raddoppiato la quotazione di ieri Quindi facendo la somma di quanto ho perso nella vendita E quello che perderò per mancato guadagno Questa beffa mi costerà un milione di franchi Nella migliore delle ipotesi Quel signore sarebbe il ricco e famoso Conte Italiano, lui no? Italiano? Ma il Conte di Monte Cristo non è italiano, andiamo, lo sanno tutti, è originario dell'isola di Marta Che stano, eppure avevo capito che era di origine centro-europea Sono solo chiacchie Ne siete sicuri? A me avevano detto che è un turco il Conte di Monte Cristo Che onore, mio padre è invitato nel palco reale Mi sarebbe piaciuto esserci, e a voi, signora? Di grazia, Valentin Vi ho già pregato di non chiamarmi signora in pubblico Sono sposata con vostro padre da tempo e sarebbe ora che noi... Ci comportassimo come le migliori amiche del mondo, sì, lo so Mi è sembrato di vedere il Conte di Monte Cristo Ha già un palco all'opera, com'è possibile? No, diciamo che mi sono sentito in obbligo, visto quello che ha fatto per nostro figlio Di invitarlo a farci compagnia qui nel nostro Grazie a tutti Grazie a tutti Gli Ugonotti Musica del signor Meyerbeer, libretto del signor Scrib Ah, sì, gli Ugonotti Già sento che trascorreremo un'altra serata spassosa Non avete da raccontarmi qualcosa che mi diverta, signor procuratore? Sire, io vado alla vostra giustizia, non al vostro divertimento Nei miei predecessori mi sembra pensassero di più al loro divertimento Oggigiorno la Francia ha una sola ossessione, arricchirsi Io non governo dei francesi, ma una mandria di grassi vitelli Guardatevi, sempre le stesse facce Uomini con addomi prominenti e donne con seni mollicci Ah, finalmente una novità Chi è dunque quell'uomo accanto al conte di Morset? Mi pare di non averlo mai visto Ebbene, Sire è uno straniero insediato sia a Parigi recentemente Sarei molto lieto di presentarvelo, maestà Ma sarebbe preferibile attendere la chiusura dell'indagine L'indagine? Semplici formalità Ma non sappiamo l'origine delle sue fortune Che sembrano incommensurabili Procuratore, non credo che possedere enormi fortune Sia incompatibile con la virtù Cos'è questa nuova moda di sospettare una persona Solamente perché molto ricca? Di questo passo indagherete anche su di me Vostra maestà, ma voi siete il re? Lo dicevano anche a Luigi XVI Lasciate in pace questo conte di Monte Cristo Se Morset l'ha invitato nel suo palco Non ve' ragione di dubitare della sua moralità Sono stato chiaro? A Parigi tutti ormai parlano del conte di Monte Cristo Visto? Ve lo dicevo che è tu Il re vi conosce dunque? Non siate gelosa, signore mia Voi mi conoscete meglio di voi Ma che dite? Questa è la terza volta che ci incontriamo E sono sicuro... Troppo tardi Il dramma comincia Vi ringrazio E' una gioia per me essere qui E voi non mi portate all'opera Proprio la sera in cui è annunciata la presenza del re Moglie cara Quando uno perde un milione in borsa E' come se perdesse un parente Per qualche tempo avremo la decenza Di restarcene a casa Vi credete più importante di quello che siete? A chi interessa se avete perso un milione di franco? In ogni caso Io voglio rifarmi Ecco qua E' Lord Wilmore che scrive Mi propone investimenti Nella miniere d'oro dello Zacatecas E' in Messico Alle sorgenti del fiume A Guanavale E lo conoscete? Questo Lord Wilmore? Non personalmente Ma è colpa sua Se ho perso per ben tre volte mille franchi alle corse Dunque mi avrà scritto Perché si sente in debito con me Comunque non preoccupatevi Lord Wilmore è uno dei maggiori azionisti Della Thompson & French Una banca che gode di una reputazione solida Come una roccia Nell'intervallo quando mi avete presentato a Sua Maestà Ho creduto di svenire Perché mai Camille? I re sono uomini come tutti gli altri E invece voi non siate un uomo come tutti gli altri? Voi affascinate chi vi incontra Che sentimento provate per me? Di infinita riconoscenza Però non posso accettare questa collana Sono felice di averla potuta indossare Ma è fin troppo bella per me Quella collana è vostra Camille Se non la volete per voi Vendetela E con il ricavato Fate riparare il tetto di casa nostra Non voglio spendere un franco per quella proprietà Al contrario Se potessi me ne sbarazzerei Non ho mai compreso perché il mio povero marito l'abbia voluta al punto di indebitarsi pur di acquistarla Riteneva quasi un privilegio Abitare in una casa appartenuta ai Semmeran Semmeran? I Semmeran di Marsiglia Voi li conoscete? Di nome Oh, è un'antica e grande famiglia che ha sempre fedelmente servito la corona di Francia Hélène, una delle figlie dei Semmeran È stata la prima moglie del procuratore Vilfort Quell'uomo dallo sguardo così freddo Che stasera era nel palco del re Allora il procuratore Vilfort ci abitava? Sì, probabilmente Ma la considerava una casa di campagna Ci veniva di tanto in tanto Non volete entrare? Riscaldatevi un poco prima di tornare a Parigi Sofì avrà acceso il fuoco Non siate impaziente di giocare col fuoco, Camille Avete ragione Tanto più che oggi è giovedì E di conseguenza domani sarà venerdì E il venerdì è il giorno della mia confessione La vostra confessione sarà più leggera Si affronterà con fermezza il freddo della notte Senza cadere nella tentazione di entrare La vostra confessione sarà più leggera Eri venuto qua per rubare? Sei un ladro, eh? Rispondi, guarda, se no ti spezzo la schiena Fatti guardare in faccia, ma scalzone Tu ci avresti pure il coraggio di ammazzare qualcuno No, vi sbagliate, no Non sono così stupido da voler ammazzare la gallina Dalle uova d'oro Sono venuto qui solamente per parlare da fa... Con chi? Con chi? Dimmelo! Con la bella signora che abita qui, ve lo giuro Chi vuoi imbrogliare? Guarda che hai sbagliato indirizzo Capito? Mi posso svelare un segreto, un segreto di quelli che valgono oro? Che vai dicendo, miserabile? Prova ancora a prendermi in giro e ti spacco la testa Lascialo, lascialo stare, Bertuccio Grazie, signore Alzati, voglio parlare con te Ho sentito che vendi un segreto Volete acquistarlo? Presentati domani all'indirizzo che ti darò Racconto la tua storia e farò in modo che tu venga pagato molto più di quanto speri Un indirizzo? Non sarà forse quello di un funzionario di polizia? È quello di un prete Ma voi siete l'abbate Busoni Lo sapevo che era una trappola Abbiate pietà, signor abbate Per l'amor di Dio e della Santa Madre Non mi rimandate... In prigione, forse Se ben mi ricordo, tempo fa ricevesti dalle mie mani un grosso diamante Del valore di 50.000 franchi Un tesoro che ti avrebbe permesso di condurre una vita retta e felice nel timore di Dio È colpa di quella strega di mia moglie È colpa sua Quel diamante l'ha fatta impazzire Voleva rubarmelo E allora, in quel momento, avevo un coltello a portata di mano Taci ora Ogni volta è sempre la medesima storia Vassezze, furfanterie, infamia Vi fate venire il volto a stomaco, a forza di... Avanti, Caderus, finiamola Hai un segreto da confidarmi Ma non a voi, abate È un segreto che potrebbe tornarmi utile Parla O ti consegno la giustizia degli uomini In attesa di quella di Dio Vedete Sarei obbligato ad accusare un giudice O per meglio dire Un procuratore Vilfò? E come lo sapete? Non ti interessa Continua Grazie alla sua famiglia, Vilfò disponeva di una casa d'hotei Dove poteva agire indisturbato, lontano dai curiosi E che diavolo ci faceva in quella casa? Quello che voi preti non potete fare L'amore E con chi? Hermine Danglar La moglie del banchiere Hanno avuto un bambino, in segreto Che vuol dire in segreto? Senza che Danglar lo sapesse? Proprio così Non vedeva sua moglie? Quando cominciò ad ingrassare La signora disse che partiva per le terme Parto lì e il bambino sembrava nato morto Inutile dire che la disgrazia capitava a Fagiolo Niente figlio, niente scandalo Vilfò lo mise in un baule Appena fu notte Andò a sotterrarlo in giardino Un luogo sicuro, pensava Ma proprio in quel momento un vagabondo passava di lì E credendo che sotterrasse il tesoro Aspettò che Vilfors se ne andasse Scavò e trovò Trovò il bambino Lo rianimò Lo prese con sé E lo allevò come se fosse suo figlio E tu come le sai tutte queste cose, Caderus? Quel ragazzo era con me nelle prigioni di Tolone Il padre putativo gli aveva raccontato tutta la storia E Toussaint l'ha raccontata a me Ah sì, Toussaint, perché immagino sia stato trovato il giorno di ogni Santi Ma era in prigione, perché? Perché aveva visitato una bella proprietà senza essere stato invitato Strano per il figlio di un procuratore Siamo evasi insieme E lui dov'è? Eh, questa informazione costa Vilfore d'Anglard per averla pagherebbe Sì, ma io sono un povero prete Non la compro la tua storia, io l'affitto Come intendete affittarla? Con 500 franchi al mese Per almeno sei mesi Né tu Caderus né Toussaint ne farete parola con qualcuno Passati sei mesi la userete a vostro piacimento Guardate, mia cara Ne siete al corrente? Ho ricevuto il medesimo invito un'ora fa Madame de la Richardet vi prega di onorarla della vostra presenza Alla festa campestre che si terrà nella sua proprietà de Thuy Il, eccetera, eccetera Bene, spiegare perché ha invitato voi è facile Lei è povera Voi avete sposato un banchiere e spera che possiate aiutarla Ma perché invitare me? Non c'è un perché Avrà mandato inviti a tutto il bel mondo È la mossa maldestra di una contadina Che il marito non ha avuto il tempo di raffinare Né di ingravidare d'altronde La dama di picche va sul re di cuore, mia cara No, assolutamente Non gioco mai la dama di picche È la carta che rappresenta la morte In ogni caso non risponderò all'invito Tornare proprio là, in quella casa maledetta No, non posso farlo Immagino comprenderete Temo che vi convenga rispondere, mia cara Hermine No, giammai Non avete pensato ad una trappola? Come potrebbe la piccola camiglia Ideare una trappola ad attenderci? È solamente un'oca Una festa campestre, non è divertente? Dove ci saranno molti zotici che non conosciamo neppure Questa camiglia è della Richard Day Non è che una nullità Mi sono già informata Suo marito non aveva nemmeno la legione d'onore Ma al contrario, mia cara Sarà come stare in famiglia In famiglia? Ma sì, tanto più che noi siamo i soli invitati Cosa intendete per noi, barone? Ma noi, mio caro Quelli di Marsiglia L'allegra piccola banda di altri tempi Ah, beh L'unico elemento nuovo Sarà il conte di Monte Cristo Li voglio laggiù i tavoli coperti con delle tende da sole E di che colore le tende? Bianche, evidentemente Il colore dell'innocenza E il menu? Voglio lo stesso buffet Esattamente lo stesso che fu preparato quel giorno a Marsiglia Per il fidanzamento di Edmond Dantes e Mercedes Igualada Gli stessi piatti, gli stessi vini E pensando ai fiori ricordo che erano mimose Ma a che gioco giocate? Vi riconosceranno? Come possono immaginare che io sono Edmond Dantes? Perfino a me Vengono dubbi sulla mia identità E mi sembra di aver vissuto in un sogno In un libro Forse in un'altra vita In ogni caso, Bertuccio Prima o poi, quel giorno dovrà arrivare E quel giorno Quando mi farò riconoscere Sarà più terribile per loro che per me Signore, poco fa Mi sono accorta di una cosa assurda E qual'è questa cosa assurda? Non so il vostro nome di battesimo Il mio nome di battesimo? Mio Dio Si, mio signore Anatole, Charles, Eduard, Paul Tutti gli uomini ne hanno uno Ma qual'è quello del conte di Monte Cristo? Non me l'avete mai detto Veramente? Si, veramente Qual'è? Ebbene potrei dirvi che mi chiamo Atanaso O Cressan O soltanto La verità Ho purtroppo avuto dei genitori sbadati Dimenticarono di darmi il nome di battesimo Ma è alquanto seccato Niente affatto, credete? Al contrario è meraviglioso Siete libera di darmi il nome che vi piacerà Voi state dicendo, insomma Che posso battezzarvi? Sicuro? Allora che nome avete pensato di darmi? Indovinate La prima lettera è una E Perché proprio una E? Per descrivere ciò che siete E come educato E come eccezionale E come elegante E come emozionante E come entusiasmante E come ebbrezza Oppure e come Eric Ernest Etienne O come et mou O come et mou E' il nome che ho scelto Un attimo Non sono ancora pronta Ebbene Non dici niente E un mio abito forse non ti piace E' meraviglioso, mia cara Solo non è troppo importante Per una festa in campagna Organizzata da questa piccola Richardet Piccola Richardet? La trovi dunque attraente Al punto da chiamarla familiarmente Piccola Richardet? Ma insomma, Mercedes Che ti prendo? Ho detto piccola Richardet Solo perché la trovo insignificante L'altra sera Camille della Richardet E' stata notata Perché portava un abito da favola Personalmente non l'ho vista Ma la gazzetta delle dame e damigelle Ha pubblicato i disegni dell'abito Oh si, lo portava Come lo porta un attaccapanni Se questa festa non ti piace Non ci andremo Manderò un lacchè con un biglietto A presentare le nostre scuse Ci andremo, Fernand La presenza del conte di Monte Cristo Adolcirà la pillola Ci divertiremo sicuramente E' sempre talmente originale Ma quello è il gran cordone Dell'ordine di San Luigi Non mi avevate mai detto che... Sua maestà me l'ha consegnato Solo due giorni fa Lui non dà importanza a queste cose Ebbene, io si Sono molto fiero di voi Ne sei stupito, vero? Piuttosto, odio a tua madre di sbrigarsi Faccio attaccare i cavalli E vi aspetto di sotto Siate bellissima, madre Non trovate che la vita sia magnifica Non è questo il giorno adatto Per farmi una scenata La mia non è una scenata, Ermin Se vi piace giocare in borsa Fatelo col vostro denaro Non con il mio Lo sapete quanto ci costeranno Le vostre speculazioni Sui fondi di Trieste? Perché? Voi non speculate forse? Oh, senza dubbio Ma contrariamente a voi Io non improvviso Ho come alleato Il più abile Il più informato Dai consiglieri Grazie a Lord Wilmore Sono l'unico banchiere francese Ad aver investito Nelle miniere d'oro Dello Zacatecas Per ora non avete visto Una sola pepita Voi donne siete tutte uguali Tutte ugualmente impazienti Lasciate che scavino più a fondo E vedrete quanto oro Uscirà da quelle miniere D'altronde lo Zacatecas Non è che l'antipasto Lord Wilmore Mi ha convinto Ad investire un milione di franchi Sulla pesca dello storione La Russia sarà il nostro piatto forte Vi garantisco Che faremo un pranzo regale Forza Mi raccomando Portate subito tutto a tavola Il conte vuole che non manchi niente Forza, forza Che stanno arrivando Stanno arrivando Mio Dio Come sono emozionata Non c'è ragione Perché lo siete Se mio marito mi vedesse La povera Camille Che riceve in casa sua Tutte queste persone così importanti Comunque vedo che anche voi siete turbato Avete un viso cupo triste Ma quale viso triste E poi perché dovrei essere triste E così Gaia Una festa all'aperto In campagna Avanti Venite Venite con me Vedrete che ci divertiremo Ammirate signor procuratore Ammirate Quella che in apparenza potrebbe sembrare Una comunissima salsiccia In realtà è ottima bottarga Che poi sarebbero uova di tonno pressate E siccate e aromatizzate Con un filo d'olio d'oliva Limone Una spolveratina di pepe Sopra una fetta di pane abbrustolita Una vera squisitezza Ah signora condessa Guardate che delizio Che ho preparato per il vostro palato raffinato Vedete E' un filetto d'anguilla Guarnito con sedano Pomodoro fresco E buccia d'arancia amata Ah ma vedo che il signor Barone Guarda con curiosità Il nostro ricco assortimento Di sardine e triglie In salsa e scabèche Assaggiate senza timore Signor Barone Assaggiatevi prego Non ve ne pentirete Che idea singolare che è mia Questo menù alla marsigliese E' stata un'idea Del conte di Monte Cristo Perché non vi piace? Cercavo qualcosa di più originale Dell'onnipresente patè di fegato d'oca E del salmone affumicato Secondo me è stato creato per Nostalgia Nostalgia? Ma nostalgia di cosa? Potrei provare della nostalgia Se avessi vissuto a Marsiglia Io credo che la conosciate Conosco Marsiglia come la conosce Un viaggiatore Che vi si ferma qualche ora Prima di imbarcarsi per l'Oriente Volete vedere il mio laghetto Contessa? Il conte di Monte Cristo Mi ha regalato delle ninfee incantevoli Vengono dal Giappone E più precisamente Dai giardini imperiali di Chioto Non abbiatevene a male I laghetti non sono la mia passione Detesto a morte le zanzare Ma ve ne prego Non dovete privare a causa mia I vostri ospiti Di questa visione suggestiva Avete avuto un'infanzia infelice Perché? Sembra che Pungano senza pietà Alcune zanzare del mezzogiorno E' a causa loro Che avete lasciato Marsiglia Ho lasciato Marsiglia Per seguire mio marito Sono certa che anche La signora della Ricerdevi Seguirà ovunque O almeno fino a quando la verete No, non potete negarlo L'altra sera all'opera Abbiamo capito tutti quanti Cosa provate per lei Personalmente vi approvo Non potevate trovare Una donna più deliziosa Questo ci insegna Questo ci insegna Che l'amore Ha bisogno del suo tempo E che quando si è giovani E' facile sbagliare Brindiamo Al vostro amore No, grazie signora Non volete brindare all'amore? Ma si Ho bisogno anch'io d'amore Penso di meritarlo più di altri Allora Il vino che non volete bere? Se volessi bere del vino Saprei bene come servirmelo Voi sapete che in Oriente La consuetudine stabilisce Che due persone Dopo aver diviso lo stesso cibo Rimangano per sempre amiche Rifiutando il vino Che vi sto offrendo Volete forse farmi comprendere Che rifiutate la mia amicizia? Ma cosa ve lo fa pensare? Non vedo una sola ragione Per rifiutarla Grazie all'aiuto del conte di Monte Cristo Ho potuto restituire un po' di allegria A questa povera casa Aveva un'aria così triste I quadri, la tappezzeria, i mobili E' stato cambiato tutto Tutto tranne una camera Signore, non vorrete far vedere Non temete Sono convinto che troveranno Quella camera appassionante Avanti, seguitemi Quel posto è come Impregnato di qualcosa di orribile Sono riuscito a convincere Camille A lasciarla com'era Mi sono detto Perché nascondere il passato Sotto una nuova tappezzeria Tanto riapparirà comunque Se è stato macchiato di sangue Credo che dovrete continuare La visita senza di me Non vi sentite bene, signora? Soffoco, fa troppo caldo Uscirò in giardino A prendere un po' d'aria fresca Mi sentirò meglio all'aperto Mi permettete di accompagnarla? Mio caro Vilfor Avete altro a cui pensare Che alla galanteria Vedrete che mia moglie Saprà arrivare da sola In giardino, vero? Voi di sopra avete un crimine Da giudicare Scusate, mia cara Non ci sono parole Per descrivere la scena Su questo letto Dove i due amanti lussuriosi Consumavano i loro incontri Immaginate una donna Ansimante I capelli madidi di sudore Il viso deformato Dai dolori del parto E abbandonato sulle lenzuola Un bambino Che non si muove E nemmeno piange Volete dire che il bambino era morto? E chi può saperlo? Né un medico Né un'elevatrice erano presenti Il parto avvenne in un clima Di totale clandestinità In ogni caso Il padre Trova la soluzione Che risolve tutto E agevolato dal fatto Che il bambino è nato morto Vede allontanarsi per sempre Il temuto scandalo Sottrae alla madre Il bambino inerte E cerca Nella camera Un involucro Dove poter nascondere la creatura Poi vede Un piccolo baule da viaggio Vi depone il bambino E lo trasforma così In un feretro Ora che può fare Questo padre snaturato Se non scendere in giardino E' piovuto tutta la notte La terra è molle E la tomba sarà facile da scavare Che ne dite di questa storia, Wilford? Che dovrei dire? Il procuratore è rimasto inorridito E sconvolto Lo comprendo Il mostro che compie un'azione del genere Merita di essere severamente condannato Un simile comportamento sarebbe forse più comprensibile in un malvivente Ma il conte di Montecristo afferma che si tratta di un notabile In questo caso è più difficile perdonare Amici miei, porgo le mie scuse al conte di Montecristo Ma non credo a una parola della favola Che con il dubbio talento narrativo Egli ci ha voluto raccontare Come vorrei avere la prova che è solo una favola Ma è normale per una vecchia casa come questa Avere una leggenda Frutto della fantasia di qualche domestico ubriaco Che per vendicarsi Del padrone che lo ha messo alla porta In venta calunni e che offenderebbero il diavolo Vi ricrederete, signor procuratore Questa storia è vera E io ve lo posso provare Allora vi sfido a dimostrarlo Allora vi faccio Mia cara, non sapete che cosa vi siete persa Il conte ci ha raccontato una storia da far rabbrividire Venite Ma si, venite per sentire la fine almeno Ecco, fate attenzione a quel ramo Venite, di là Su, sbrigatevi cara, appoggiatevi a me Ho fatto scavare in molte zone del giardino Finchè finalmente sotto quest'albero Non avevate il diritto di farlo È violazione di sepolcro Non datevi pena, signor procuratore Non ho violato niente Non abbiamo trovato le spoglie del bambino E come dicevo io, è una favola e basta Bene Allora guardate per favore Allora guardate per favore Il cuoco che fa il becchino, ma dove siamo? A teatro? Il fatto è, procuratore, che ho pensato di far bene rimettendo al suo posto ciò che avevamo trovato So che la giustizia non sopporta di vedere distrutti oppure bruciati dei reperti d'indagine Ma è vuoto? Si, è vuoto in effetti, è vuoto oggi Ma voi credete che fosse vuoto anche quando fu sotterrato? Sicuramente no, soltanto una mente malata può sotterrare un bauletto vuoto La penso come voi, barone, credo potesse contenere effettivamente un innocente, un bambino Lo credete ma non potete provarlo? Io no, voi si Come, perché io? Perché è vostro compito provarlo, anche se mancano degli indizi A me sembra che esista un sospetto E se il bambino non fosse nato morto? Voi dite che l'avrebbero interrato vivo E che possa quindi essere vivo Anche in questo momento Rispetto all'uomo che avrebbe fatto questo Ve la servessere più fede, la quale avrete presto la testa, passa per un angelo Non potete esimervi dall'ordinare un'inchiesta per trovare e punire il mostro che ha compiuto quest'atto inqualificabile Signore, oh mio Dio State in guardia, quella è cicuta Lo so, grazie Sono fiori di una pianta velenosa, buttateli e lavatevi accuratamente le mani Non vi preoccupate, signor Conte, sono abituata Come gli uomini anche i veleni hanno buone qualità Prendete la cicuta, per esempio Se mescolata all'argilla e all'aceto di vino È un ottimo unguento che ammorbidisce i capelli E aggiungendo dell'acido cloridrico rimuove l'ossido che il tempo deposita sull'argento Vedo bene che ve ne intendete Mio marito ha dovuto processare degli avvelenatori Sono molte le cose che si imparano consultando gli atti di un processo E questa? La conoscete? Digitalis purpurea Le sue foglie contengono un alcaloide che rallenta il battito cardiaco E che può provocare delle intossicazioni mortali Ma solo se assunta in dosi sbagliate Perché sia efficace le foglie devono essere raccolte da piante di almeno due anni I fiori e la morte sono sempre andati d'accordo Non è forse vero che la parola giardino nell'antichità significava paradiso Vale a dire al di là Lo sapete di certo La verità è che sono spaventata dall'idea della morte Ma allora perché giocate con lei? Come vi sbagliate, signor Conte? Il mio non è un gioco È un trattamento È una terapia contro l'angoscia Diciamo che quando mi riesce Di mettere in un'ampolla la morte resa polvere o pomata Ho l'impressione di poterla dominare Di tenerla al mio servizio È impossibile chiudere in gabbia la morte come se fosse un leone Voi siete sicura di poterla sempre dominare? Assolutamente D'altronde ogni tanto la metto alla prova per vedere se l'ho domata Faccio esperimenti sulle lumache I bruchi, sulle rane, sui gatti randaci e sui piccioni Grazie a questo abbiamo il giardino più sgombro d'animali di tutta Parigi Mia cara figliola, cessate di essere timorosa come una scolaretta Pensate che prima dell'ottuno sarete già maritata Ho ricevuto stamani una lettera della marchesa di Saint-Méron Malgrado l'età tua nonna ha deciso di venire da Marsiglia per assistere al matrimonio Sarò ben felice di rivedere mia nonna Ma il matrimonio non potrà essere celebrato Non ci sono più ostacoli ormai Franz De Pinè e io ci siamo trovati d'accordo su ogni cosa Ha protestato sulla montare della tua dote Ma l'ho convinto dicendo Che provieni dalla famiglia più salda e onesta che si possa trovare E al giorno d'oggi l'onestà vale ben più di una ricca dote Sembrate a me, mia cara Ho sempre versato più lacrime per i matrimoni che per i funerali Che nessuno venga a disturbarmi Agli ordini Ho passato tutta la notte a pensare Al volto cianotico di quel bambino Al suo corpo immobile, apparentemente senza vita Mio Dio, allora non era morto A quanto pare no E come ve lo spiegate? Non saprei, non sono un medico Suppongo fosse in quello stato che si chiama letargia profonda Una sorta di sonno in cui le funzioni vitali sono come sospese Qualcuno può avervi visto mentre lo sotterravate E quando me ne siete andato l'ha tirato fuori Non vi siete accertato di nulla No, purtroppo Dopo quell'orribile travaglio come avrei potuto lasciarvi più a lungo da sola Uno sconosciuto ha preso nostro figlio L'ha rianimato Se l'ha stretto al petto E poi l'ha portato via con sé Sì, probabilmente è andata in questo modo, sì E ditemi adesso che volete fare A che proposito? Come a che proposito? Ma si tratta del mio bambino, di mio figlio Voi dovete trovarlo Allora vediamo, se fosse vivo dovrebbe avere vent'anni E con questo solo indizio mi domandate di ritrovarlo e di riportarvelo? Mia povera Hermine La Francia pullula di giovani ventenni Immagino che solo un miracolo ci permetterà di ritrovarlo E secondo voi quale sarà la sua reazione? Sarà contento di conoscere i suoi veri genitori Avete sposato un uomo ricco Io ho una posizione invidiabile Credo che l'interesse in quel giovane prenderà il sopravvento Sulla gioia di averci ritrovati Vi domanderà denaro Siete disposta a dire al barone d'Anglare Che avete messo al mondo con un altro uomo Il figlio che lui vi chiede da sempre? Siete disposta a dire a vostro marito Vi prego date due o tre milioni di franchi A questo figlio che non è vostro O griderà al mondo intero che vi sono stata infedele? Ma voi per cosa avete preso gli uomini? Per quello che sono, mia cara Contabili di cassa Oh, credetemi, Ermin Come ci siamo da tempo dimenticati l'una dell'altra Dimenticherete anche questa storia E quando metterete piede in una chiesa Non pregate perché riappaia un fantasma Voi dimenticate che state parlando ad una madre? Non esageriamo, mia cara Siete madre come io sono padre Per incidente Sembrate indifferente anche nei miei confronti Perché questo cambiamento? Forse perché quello sconsiderato di mio marito Si trova in una situazione, diciamo, delicata Vi vergognate di mostrare amicizia per la moglie del barone Danglare? Situazione delicata e un eufemismo Vostro marito rischia la bancarotta Speriamo soltanto che non sia fraudolente Sarebbe sgradevole se fossi costretto ad agire legalmente contro di lui Allora Addio Pensate al vostro matrimonio Quale matrimonio? Me l'avete distrutto voi Entrando nella mia vita e convincendomi a diventare la vostra amante E poi ieri Il colpo di grazia Quando è stato riportato alla luce Quell'orribile involucro Tutto incrostato di terra Non mi resta più niente Una cosa mi resta invece Molto denaro Almeno per il momento Alla nostra età è ciò che conta 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo. Grazie a tutti. 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 come va a tutti. Grazie a tutti. e anche se... Grazie a tutti. la... a tutti. e la... se... se... e... 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 non riesco a... come... che... e... ... è... ... ... e... non sei... e... e... che... somiglia molto... e... 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 ... ... ... ... ... e... 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 ... e... ... e... ... e... ... 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 ...... ...... ... 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 ...... ...... ... ... ...... 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 ... ... ...... 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 ......... ...... 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 Siete felice? Io tantissimo Se non fosse stato rattristato dall'inomazione della signora di Sameran Sarebbe il più bel giorno della mia vita E tu non dici niente Valentin? Non ho niente da dire Fermatevi tenente, non firmatevi Parola, che cosa vi prende? Chiedo scusa al signor procuratore, ma è stato il signor Nortier A mandarmi qui, per dirvi che vorrebbe vedere il tenente de Pinay Dite a mio padre che andremo a presentargli i nostri ossequi appena espletate le formalità Il signor Nortier ha insistito, lo vuole incontrare subito Dice che si tratta di una questione estremamente grave Sì è questo il quadro signore non saremo venuti qui a rimirare un quadro c'è una lettera la devo leggere ad alta voce la devo dare a qualcuno a chi signore per la confessione che contiene signore questa lettera mi obbliga a rompere immediatamente ogni rapporto con la famiglia wilford notario della fossa vogliate lasciarci soli vi prego e anche voi barua uscite ma che cosa c'è scritto su quella lettera depinei stava per sposare la nipote dell'uomo che ha ucciso suo padre è una confessione che ha fatto mio padre prima di essere colpito dalla paralisi nella quale riconosce di essere un assassino ah no non un assassino grazie al cielo mio padre ha ucciso il generale che nel barone depinei è vero ma in un modo che agli occhi della legge non rende colpevole no è stato in un duello un chiarimento fra gentiluomini un duello senza testimoni e del resto questo spiega perché la polizia pensò che depinei fosse stato assassinato un duello all'arma bianca alla spada nel cuore della notte sulle rive della senna un duello durato più di un'ora poi le lame delle spade si sono spezzate e voi avete continuato alle pistole è in questo modo che sono andate le cose non è vero? ora io devo confessare che lo sapevo ma come? voi lo sapevate? sì venti anni fa a Marsiglia dopo una denuncia anonima un uomo è stato portato davanti a me era un giovane marinaio che avevano arrestato mentre festeggiava il suo fidanzamento mi ricordo ancora il nome Edmond Dantes questo Dantes era sbarcato all'isola d'Elba dove un attendente di Napoleone gli diede una lettera per voi questa lettera padre mio informava che l'imperatore ormai decaduto preparava la fuga dall'isola d'Elba per sbarcare in Francia e riprendere il potere gli affidava la missione di favorire il suo ritorno in patria eliminando in modo discreto uno dei più pericolosi avversari di Napoleone il barone de Pinè sì, sì lo so voi non siete mai venuto a conoscenza di questa lettera perché per proteggervi, per salvarvi io l'ho bruciata, l'ho ridotta in cenere ma se questa lettera è stata distrutta come mai vostro padre? come mai? ha eseguito una missione della quale non è mai venuto a conoscenza? sì perché era fermamente convinto che fosse suo dovere eliminare De Pinè non è così anche a me è sempre bastato essere convinto di qualcosa per farlo non ho mai avuto bisogno di ricevere degli ordini per decidere se un uomo meritava la morte e il giovane marinaio? l'ho fatto rinchiudere nelle segrete del castello Diff fino alla fine dei suoi giorni solo perché aveva portato una lettera? non potevo sapere se ne ignorava il contenuto o lui o mio padre ma è tutto chiaro ormai? potete farlo liberare? è troppo tardi ha tentato di evadere ed è arnegato che ingiustizia ma in questo modo quell'infelice a vostro padre non chiederà più niente assalamu alaikum assalam alaikum salam no san niente luce va a cercare Muhammad presto vai dovevamo agire in piena notte no perché in piena notte avremmo avuto anche la luna piena non mi piace questo affare ci sono troppi rischi si guadagnava di più ricattando tuo padre il procuratore ci sarà più utile se ci va male se dirò chi sono lui ci tirerà fuori dai guai su ora sali perché non vai tu? no io faccio il palo se qualcuno si avvicina imito il verso della civetta non so fare anch'io il verso della civetta e poi a dirla tutta soffro di vertigini se hai paura come un pollo io ti sgozzo come un pollo forza sali ma ho le vertigini sali ho detto come un pollo io ci sono due uomini giù nel parco stanno tentando di entrare in casa non avete datamento signore li uccidono lascia che entri andiamo fuori ci sono due uomini sono ladri? oppure assassini se qualcuno ha scoperto che sono avrà interesse a farmi tacere per sempre oppure denunciarvi alla polizia è troppo pericoloso se mi consegnano all'autorità dirò tutto quello che so sulle malefatte di Danglard di Vilfore di Morsef tu sorvegli a piano terra devo avvertire gli altri servitori il piccolo San è abile a strangolare la gente con l'accio manteniamo la calma la casa deve sembrare desert sì di là sorveglia la grande scala non sparare per primo voglio sapere chi sono e chi li ha mandati siamo sicuri che sono solo due va grazie a tutti 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 questa roba verrà milioni milioni sai che mi deludi molto Caderus abate busoni cosa ci fate qua e tu Caderus io ebbene io caro abate io come vedete io cerco cerchi e che cosa cerchi cerco di che vivere la rendita che ti ho concesso non ti è sufficiente la vita è così caro abate busoni per un uomo evaso di prigione per dormire al coperto per mangiare un misero piatto caldo perfino per lavarsi ci fanno pagare dieci volte il prezzo altrimenti come niente ci consegnano ci consegnano ai gendarmi vedete voi stesso abate con tutto che siete un santo uomo se vi supplicassi di lasciarmi andare via da qui so che mi rispondereste sia mio bravo Caderus puoi scappare ma prima dovrai comprare il mio silenzio se non vuoi che ti denuncia le autorità perciò tenete vi darò tutto quello che ho di tutto cuore sarà per i vostri poveri venderesti anche tua madre Caderus si può essere prete anche senza avere la vocazione per diventare martire chiedo perdono pietà abate Pusoli non volevo non volevo fargli del male certo uccidere un uomo non è fargli del male poiché la morte lo avvicina a Dio è così che la pensi Caderus? si si la penso così benissimo allora quando ti legheranno le mani dietro la schiena il boia metterà il collo ben centrato sotto la lama sarai un uomo felice no no abate come Puzzi Caderus è la paura che ti fa puzzare così che cosa ti prende? te la sei fatta addosso hai fretta di andare via Caderus? permettete che me ne vada mi lasciate andare via di qui è Dio che deciderà se lasciarti andare o no accetti di essere giudicato da Dio? se mi lasciate andare abate Pusoli farò quello che volete affare fatto se Dio ti permetterà di ritornare alla tua Tana sano e salvo sarà la prova che ti avrà perdonato e dunque anche l'abate Pusoli ti perdonerà le monete non posso io avevo detto che erano per i vostri poveri i miei poveri ma non troverò mai dei poveri più poveri di te prendi le monete e sparisci allora hai preso tutto? sì mi dispiace Dio mio mi hanno insegnato a sopravvivere non a dividere raggiungimo Amade Verduccio presto ehi fermo sparo ehi fermati mi hanno detto non uccidetevi non ti vuoi non uccidetevi va bene nemmo amato un dottore chiamate un dottore vi prego nessun dottore può fare più niente per te è di un prete che hai bisogno Caterus al diavolo la chiesa non credo più in Dio e perché Caterus perché mai non credi più in Dio perché Dio non esiste se esistesse il mondo sarebbe migliore i buoni ricompensati i malvaci puniti non rammentate più che abbiamo già discusso di questo mi avete parlato di Dantes il giovane Dantes tu stai morendo e pensi a lui a Edmond Dantes sì perché lui in prigione e gli altri quelli che l'hanno tradito tutti ricchi e riveriti non c'è il vostro Dio non è giusto il vostro Dio oh sì Caterus oh sì Dio è giusto guardami io sono Edmond Dantes è morto no è vivo è qui vicino a te ti tiene la mano guardami Caterus io sono vivo e in buona salute Edmond Dantes voi siete Edmond Dantes sì ma allora se voi siete Edmond Dantes allora 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 cosa forza il primo a pagare ma forse non era il peggior siete il compagno di Cella scommetto il famoso Toussaint legalo bene Bertuccio legagli le braccia dietro la schiena poi lo porteremo ai gendarmi e se mi chiedono che cosa ha fatto direi che è il degno figlio di suo padre non sapete chi è mio padre se no tremereste ragazzo mio siete voi che non sapete chi sono io se no sapreste che sarebbe vostro padre a tremare bravo 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 bravissimo bravo 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 Grazie a tutti. Madre. È andata bene, figliole. Bella gara, signore. Vi ringrazio, signore, ma è stata una vittoria un po' ingiusta. Ingiusta? Voglio dire che non sono proprio inesperto in materia di navigazione. Ah, ma certo. Il vostro lungo navigare in oriente. Il mare non vi manca troppo. Mi mancano molte cose, signora di Morsef. Nonostante le vostre ricchezze. Ma come? Potete permettervi tutto quello che sognate? Io sogno poco. Le mie notti sono pesanti. Che uomo curioso siete. Ascoltandovi si può pensare che siate infelice. È troppo tardi per fare un giro. Buongiorno, signor Conte. Allora, Alberto. E come dicevate, vogate bene. Un vero marinaio. Vi piacciono i marinai? È piuttosto bizzarra la vostra domanda. Quale domanda? Se mi piacciono o no i marinai. L'ho fatta solo per animare la conversazione. Ho l'impressione che noi non sappiamo cosa dirci. Come tutte le persone sensibili che si conoscono poco. A Parigi questo riservo lo chiamano pudore. Sebbene qui, se ci facessimo delle confidenze, non potrebbe sentirci nessuno. Voi avete da confidarmi qualcosa? Io? No. No. E voi, signore? Neanch'io, signora. Ebbene è così, niente rivelazioni. Io sono Mercedes de Mossef e la mia vita è senza segreti. E voi siete il conte di Monte Cristo e anche la vostra vita è senza misteri. Eppure tutti e due. Abbiamo avuto un passato. Abbiamo avuto una giovinezza. Felice? La vostra? Fino a un certo momento. E la vostra? Fino a un certo giorno. Guardate che è stata la signora de Mossef a chiedere al signor conte di fare un giro in barca. Anch'io avevo desiderio di andare in barca. Vabbè, ma è una questione di minuti. Quello il conte adesso torna e porta a fare un giretto pure a voi, no? Ma non voglio che si affatichi troppo. E poi ho paura che si faccia davvero tardi. Ditegli che sono tornata a Doteio. E se vi permettessi di chiamarmi Mercedes? Almeno quando siamo soli. Ma grazie. È un bellissimo nome. Mi piace dirlo. Mercedes. E io in cambio, come potrei chiamarvi? Come volete voi. Dunque vediamo, proviamo un po' Emile. Emile andiamo al sole, fa troppo freddo oggi all'ombra. No, 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 Emile non mi piace per niente. Provate con un altro, allora. Visto che siamo alla lettera E, forse... Perché non proviamo? Edmond. Edmond, vi prego, portatemi al sole. Siamo già al sole, Mercedes. E per di più siamo in piena luce. Non vi sembra abbagliante? Sì, avete ragione. E al sole vi bruciano gli occhi. Dovete sapere che io non sono per niente felice. Mio marito per me... Avevamo detto niente confidenze. Sopportatele. Non mi sono mai potuta confidare con nessuno. E ora scegliete me. Come mai? Perché dicono che siate solo di passaggio a Parigi. In pratica siete come un miraggio. Siete come una nuvola. Ascoltate, signor nuvola. Amavo un altro uomo. Lo amavo perdutamente. Eravamo sul punto di fidanzarci. Quando scomparve in circostanze misteriose, violente e drammatiche. Sparire Mercedes non è possibile. L'unico vero modo per sparire è morire. In tutti gli altri casi si scava, si indaga, si cerca, si trova, si ritrova. Prima o dopo. Ma che cosa pensate? Certo che ho tentato di avere sue notizie. Ma perfino suo padre mi disse che Edmond era morto. Perché? Si chiamava Edmond anche lui? Una coincidenza. Ma voi avete ragione, vi chiamerò in un altro modo. Non mi piace affatto che abbiate il nome di un morto. Anche se è solo un nostro gioco. Un gioco, sì. Un gioco. Quando ero piccolo temevo il momento in cui mio padre si affacciava alla finestra e mi chiamava. È tardi, torna a casa. Più o meno succedeva sempre a quest'ora. Vostro padre faceva bene a richiamarvi all'ordine. E' vero che è tardi. E' troppo tardi. Nonno caro, ecco Maximilien. Ci teneva a ringraziarvi di persona. Signor Nortier, non dimenticherò quello che avete fatto per noi. Immagino che sia stato pesante affrontare lo sguardo di Franz Depinet quando ha saputo la verità. Ora, se vorrete, saremo in due a prenderci cura di voi. Vi assisteremo io e Valentin. Senza dimenticare Barroa, naturalmente. Signor Nortier, vi ho portato una limonata freschissima che la signorina Valentin vi ha preparato poco fa. Non avete sete adesso? Beh, io sì, invece. Fa un caldo impressionante stasera. Sembra che l'estate non voglia finire. Con il vostro permesso, signore. Bevete ad agio, Barroa. E' ghiacciata e voi siete molto accaldati. Oh, ma no, una vecchia bestiaccia come me non teme più niente. Quando ci si è salvati dalle fiamme di mosca e si è usciti vivi dalla battaglia della Beresina, non si è più... Oh, mio Dio! Si sente male? Sì, credo sia un malore. Vado a chiamare mio padre. La fortuna che è con il dottor D'Avrigny. Ma tu non rimanere qui, non è prudente. Va via. Ma insomma, D'Avrigny, si tratta di piante medicinali molto comuni e innocue. Ah, prese una alla volta. Sì, ma miscelandole possono rivelarsi estremamente tossiche. E se per sbaglio, vostra suocera... Come io sembra un romanzo. Ve l'immaginate, la signora di Semeron che si avvelena giocando a fare la farmacista. Padre, dottore, presto venite, venite. Il polso è debole, quasi impercettibile. Le pupille sono già dilatate, devo farlo vomitare. Signorina Velfort, correte dal farmacista più vicino e portate un emetico, chiedete il più efficace. La limonata, mi sono sentito male dopo aver bevuto quella limonata. Oh, Dio mio. La limonata? Ma quale limonata? La limonata, quella, signore. Sì, è proprio limonata. L'avete preparata voi? Oh, no, è stata... È stata la signorina Volantì. Credo sia morto. E io vi dico che non ci vado. Ci vai e come, invece? Eh no, signore, io sono al vostro servizio. Ma voi non avete il diritto di costringermi a lavorare per un'altra persona che magari... Ma che storia è mai questa? Che cosa rappresento per voi? Una specie di mercanzia. Sono uno schiavo. Che potete prestare, vendere, ma non lo so. Sì, ti presta Evil Forma. Continuerai ad essere al mio servizio. Anzi, non mi sei mai stato tanto utile. Lontano da voi. Sì, ma vicino a Valentì. Il tuo modo di servirmi sarà quello di proteggerlo. Ma questo è proprio il massimo. Adesso io proprio non ci capisco più niente. Qualche giorno fa speravate addirittura di farle bere una pozione avvelenata, una mistura micidiale perché volevate che il padre morisse di dolore. Adesso invece devo vegliare su di lei come se fosse il suo angelo custode. Ma insomma, cosa volete? Tu sai cos'è un sofisma? No, non me ne faccio un problema. Vivo benissimo lo stesso, vedete? Esempio di sofisma. Socrate è mortale. Tutti i gatti sono mortali, quindi Socrate è un gatto. Sì, molto divertente. Un raffinato, se vogliamo. Ma completamente senza senso, scusate. Ed ecco un altro sofisma. Amo Maximilien, Maximilien ama Valentì, quindi io amo Valentì. E Valentì è in pericolo. Riesce a capire Bertuccio. Ho capito. Voi avete qualche problema? Comunque devo farla a Baglia? D'accordo, le farò da Baglia. D'altronde quella ragazza è molto graziosa. Bene, ecco il tuo biberon, signora Baglia. Al minimo dubbio, al minimo sintomo, le darai questo da bere. Scusate, ma perché mai adesso i vilformi dovrebbero assumere come maggior don? Ho parlato con Eloise. Tutti i loro domestici si licenziano. Ti aspettano come il Messia. Buonasera, signore. Vengo per quel posto. Ti aspettavamo con impazienza. Entra, sei a casa tua. Il tuo pranzo è sul tavolo. Avanti. E per il resto? Il resto lo vedrai domani con i padroni. Io non rimango un minuto di più in questa casa maledetta. Ma come maledetta? Perché maledetta? Non vi trovate bene qui? Due morti per avvelenamento in otto giorni, fra i quali uno di noi. Non c'è molto da stare allegri, secondo me. Neanche secondo me. Oh, qui è meglio che stiamo attenti adesso. Meglio prevenire che curare. Meglio prevenire che curare. Questo è il risultato delle analisi della limonata che ha ucciso Barroa Vedete, è eloquente Avvelenata Una mistura, estratto di digitale e decotto di ciclista Un veleno fulminante Fantasie, dottore Mio padre ha bevuto fiume di questa limonata fulminante E non ha mai avuto alcun problema In effetti confesso che la cosa mi aveva stupito Ma a causa della sua malattia vostro padre è letteralmente ingozzato di farmaci Lo so perché li prescrivo io Che devono aver contrastato l'effetto del veleno Agendo in qualche modo come una sorta di antidoto permanente Ordinate la riassumazione e l'autopsia della signora di Semeran Scommetto che nelle sue viscere troveremo le stesse tracce di digitale e di cicuta Non ordinerò mai niente di simile, d'Avrigny Mettetevelo bene in testa È comprensibile che la verità vi spaventi Perché è Valentin che ha preparato quella bevanda avvelenata Ma che cosa dite, dottore? Voi delirate? Oh, certo, non mirava ad uccidere quel povero domestico No, no, era vostro padre la vittima designata Ma una tragica coincidenza ha fatto sì che Barroa bevesse dal bicchiere del suo padrone Assurdità, D'Avrigny, assurdità Valentina ha un'adorazione per il nonno Non l'ha diseredata? Un gesto di senilità A cui Valentin non ha dato alcuna importanza Apparentemente no Le giovani donne sanno nascondere i propri sentimenti Avanti Sono Bertuccio, signore Il vostro nuovo maggiordomo Lo so, mia moglie mi ha messo al corrente Che cosa volete? Niente, signor procuratore E il signor procuratore chi ha chiamato? Davvero? No, non credo, no? Ma sì, è vero Avevate detto che volevate un cognac Ve lo porto subito allora Berrò il mio cognac da solo, D'Avrigny Non voglio avere più niente a che fare con voi Lasciate subito la mia casa e non tornate mai più E sia Vi ho detto quello che avevo nel cuore Ascoltatemi, Vilfort Vi esorto a fare il vostro dovere di procuratore Anche se può sembrarvi ingiusto e intollerabile A Valentin non va data alcuna possibilità di nuocere ad altri Dietro quell'atteggiamento da piccola saggia Si nasconde un'isterica dalla natura perversa e tormentata Che alla minima contrarietà precipita nella peggiore delle demenze Sono molte notti che non ci dormo So come voi cosa succederebbe a Valentin se l'accusaste di essere una velenatrice No Non lo sapete affatto Non avete mai incontrato qualcuno a cui taglieranno la testa Mentre io sì Ne ho visti un centinaio Forse di più Ho letto nei loro occhi un terrore tremendo Ho toccato la loro pelle madida Di un sudore ghiacciato che sprigionava già l'odore dolciastro della morte Li ho visti tremare Li ho sentiti battere i denti dalla paura fino a farli spaccare È questo che volete che io infligga mia figlia? Siete voi un mostro se mi suggerite una cosa simile Vi farò forse potremmo evitare il peggio Ottenere una sorta di internamento Il manicomio? Per farla trattare come un animale rabbioso Incatenata giorno e notte Ascoltatemi voi da Vregni Se ripeterete una sola parola di questo discorso a qualcuno Vi farò sbattere in prigione Io in prigione? Perché? E con quale pretesto? Di questo non preoccupatevi Lo troverò Sono abituato D'accordo, non ne parlerò con nessuno Ma vi compatisco E soprattutto ho paura per voi Perché potreste essere la sua prossima vittima Chiunque abiti in questa casa può essere la sua prossima vittima Uscite Chiunque abiti in questa casa Mio amato Ho sentito tutto E mia figlia Nessuno le farà del male Nessuno Comunque non uscirà più da qui L'ho chiusa nella sua stanza Avete tutte le ragioni Ma credo che non apprezzerà il fatto di trovarsi prigioniera Non sarebbe meglio che sfogassi il suo cattivo umore contro di me piuttosto che con voi Dov'è la chiave? Sulla porta della sua stanza Vado da lei Riposatevi caro Sarò io ad occuparmene Grazie a tutti Adesso signor conte posso finalmente assaggiare Dio mi piace quando la vostra bocca mi chiama con tanta grazia signor conte Quando i vostri occhi supplicano baciatemi baciatemi come un cuoco E come baciano i cuochi Mio dio delizioso Ma cosa ci fai qui? E che ho paura da morire Paura? Ma la paura non esiste vertuccio E' un'illusione come tante altre cose Torna a doveri Non è per me che ho paura, è per lei Per chi? Per Valentin? Valentin? Chi è Valentin? Valentin Vilfort Ah, la piccola Valentin Allora che c'è? Un certo dottor de Brigny E' convinto che sia stata Valentin Ad avvelenare Barroa e la signora di Saint-Merant E la cosa preoccupante E' che la limonata bevuta da Barroa e preparata da Valentin Conteneva veramente del veleno Che tipo di veleno? Una specie di miscuglio di cicuta digitale Quella maledetta Adesso che è sicura dell'efficacia della sua mistura Puoi stare certo che niente potrà fermarla Oh, ma come sarebbe? Anche voi adesso pensate che sia colpevole? La credo in pericolo di morte Torna da Vilfort Appostati davanti alla porta di Valentin E accertati che nessuno entri nella sua camera Soprattutto Luisi Ti raggiungo subito Come posso entrare senza esser visto? La casa non la conosco bene ancora Sono solo che è proprio triste Comunque magari dai tetti si riesce ad entrare Allora intesi dai tetti Forza va Ti ho detto spia per me Adesso fila Dovresti essere già là a vegliare su Valentin Va, ti raggiungo Tutta un tratto avete quell'aria preoccupata Che non promette niente di buono Una piccola contrarietà, signora Ma non ha alcuna importanza Anche se... Anche se? Anche se... Speravo di tenervi stretta a me questa sera Dopo la nostra romantica cimita No, sì, tenetemi stretta Se sapeste quanto fa freddo Nella mia vecchia casa di hotel Per favore Fatemi restare qui con voi Accanto a voi Stretta a voi Siate saggia, mia cara, vi prego E perché? Perché questa notte ho una cosa da fare Rimandate a domani Anche domani verrà la notte Impossibile, signora È stanotte che sono atteso Atteso come? Atteso da chi? Non da una donna, voglio sperare Se la morte ha le sembianze di una donna Allora sì Bertuccio, che succede? Che cosa ci fai qui? Cosa faccio? Faccio quello che dovreste fare voi Proteggo la vostra Valentin La proteggi? Come sarebbe la proteggi? Che cosa vuoi dire? È in pericolo Parla, parla Bertuccio, parla Andiamo, non vi preoccupate in questo modo Ci prendiamo cura di lei, no? Sì, tu mi dici questa Ma tu in fondo non sai che Bertuccio Certo, io non valgo molto Non volevo dire questo Ma no, guardate che io me lo dico da solo Me lo dico da solo Però vi dovete calmare Perché non ci sono solo io C'è anche quell'uomo Quale uomo? L'uomo che in effetti è il mio padrone Ma che sicuramente un giorno sarà il mio migliore amico E quel giorno gli darò del tu E lo abbraccerò pure, guarda Ora devo andare a lavoro Svegliati 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 In nome di Dio Svegliati Svegliati, bestiolina Svegliati Ho bisogno di te Ti prego Ho bisogno di te Svegliati Bene Bertuccio Bene No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie, capitano Coquless. Mi avevate anche chiesto di portarvi alcuni documenti. Eccoli. Insomma, che vi succede, Bocham? Tornate in voi. Quello che vi ho chiesto è un articolo di fondo. Vittoria primo bilancio dopo un anno di regno. Questo non è un articolo politico. È una vera e propria dichiarazione d'amore. È che a 19 anni, signor direttore, con il suo bel visetto paffuto e il suo sorriso timido, è affascinante la regina di Miltero. Signor Bocham! È molto urgente. Grazie. Lasciamo crescere la regina d'Inghilterra. Ho qui qualcosa di veramente esplosivo. Tenete, leggete pure, signore. Se è vero che scandalo. Ma voi siete sicuro di questa informazione? Sono sicuro dell'uomo che me l'ha fatta per venire. Me lo auguro. In caso contrario perderei il mio giornale. Comunque per il momento siamo prudenti. Accendiamo pure la miccia, ma non facciamo ancora scoppiare la bomba. Avete un'idea per il titolo? Sì, scriviamo di Janina. Signor Desuato, cabone. Attenzione, mirate, fuoco! Santo cielo! Prego Dio, signor Conte, che non vi battiate mai in duello. Almeno non contro di me. Una pallottola in pieno cuore. Dov'è la punizione? Una punizione degna di tale nome deve durare più a lungo. Avete mai mancato il bersaglio? No, mai. Allora fatemi da maestro. Iscrivetevi presso il maestro d'Armi. La prossima sessione è sabato. Sarà tardi. Per favore, mi avete salvato la vita in Italia. Non permettete che la perdà a Parigi. Albert, che volete dire? Ho un brutto affare da risolvere, un duello. Un duello? E voi? Sono stato oltraggiato. E il colpevole? Beauchamp. Beauchamp, il giornalista. Lo credevo un vostro amico. Non lo è più. Tenete, leggete pure. Terza pagina in basso. Scriviamo di Genena. E allora dov'è l'offesa? Come sarebbe dov'è l'offesa? Questo articolo insinua che un certo Fernan, ufficiale francese, servendo in Grecia, si sarebbe reso colpevole di violazione dei doveri pubblici, tradendo il sultano Alipascià e consegnando ai turchi lui e tutta la sua famiglia. È firmato da Beauchamp. Ah, un certo Fernan, sì. È la cosa come vi riguarda. Mio padre si chiama Fernan. Oh, piccolo caro, ci sono molte persone, non solo a Parigi, che si chiamano Fernan. È un nome molto banale nella nostra epoca. E se la parola banale vi sembra offensiva, allora diciamo che è un nome alla moda. Servendo in Grecia e sotto il vessillo del sultano di Genena? Andiamo. L'allusione a mio padre salta agli occhi. Ammettiamolo. Ma anche se quest'articolo minacciasse l'onore di vostro padre, non sta a voi di porvi rimedio, ma a vostro padre stesso. Grazie a Dio mio padre ignora questa calunnia disgustosa. Lui non legge mai il messaggielo, considera un giornale venduto ai suoi avversari politici. Voi cosa fareste se avessero offeso vostro padre? Mio padre? Oh, a lui hanno fatto cose peggiori. L'hanno fatto morire di dolore. E voi non avete cercato di vendicarlo? Sì. Vedete allora. In quanto offeso ho la scelta delle armi. Sono un ottimo spadaccino. Mentre Beauchamp non ha mai preso in mano una spada. Invece sa usare le armi da fuoco. In ricordo della nostra vecchia amicizia, e poiché un duello non è un omicidio, ho scelto la pistola, ma le pistole io non le conosco per niente. In sostanza sostituite un omicidio con un suicidio. A meno che non mi insegnate a sparare. Ma io ho rifiutato. Trasformare Alber in un tiratore sarebbe stato come mirare al petto di Beauchamp. In fondo quel pover uomo ha pubblicato l'articolo sulla base di un mio documento. Ma anche Alber è innocente. Da quando i figli devono pagare per gli sbagli dei loro padri? Non è giusto. Se ragioniamo così, anche la giovane Valentina... Se riesca a confondere Fernanda e Morsef, oggi suo figlio non avrà più alcun motivo di battersi, almeno lo spero. Invece dimmi qualcosa riguardo a Valentina. Sapete, Luisa ormai le sta sempre addosso. E ora le offrò un caffè, o una limonata, o un liquore al cassis. Io passo tutto il giorno a sorvegliare, ma purtroppo ci sono le notti e bisogna dormire ogni tanto. A proposito di sonno, forse c'è un modo per tenere Valentin fuori tiro dalla sua matrigna. Ricordi il rospo al quale ho fatto trangugiare la pozione che fa cadere in un sonno molto simile alla morte? È un'idea che non mi piace proprio. Neanche a me, ma è l'unica soluzione. Nel frattempo torna a proteggere la fanciulla. Ti vedrò qui domani alle 10. Buongiorno. Buongiorno. Che nessuno si avvicini a questa carrozza. Albert! Albert! Ti prego, ascolta, dobbiamo parlare. Ma certo, domattina alle 6 nel bosco di Semploda. Una parola soltanto. Pronto, pronto. Anch'io, signor Conte, sono preoccupato. Ma voi capirete che mi è impossibile esigere dalla Camera dei Pari che ho l'onore di presiedere e di procedere sulla base di non comprovate allusioni giornalistiche all'espulsione di uno dei suoi membri. Che del resto quest'articolo non cita esplicitamente, fornendo ai lettori il solo nome di battesimo. Un certo Fernand, converrete anche voi, che è piuttosto vago a dire solo Fernand, eh? Io stesso ho un nipote che si chiama Fernand. Nell'edizione della sera, signor Duca, il giornale Le Messagere rivelerà il nome completo del colpevole di quell'atto spregevole. E non si parlerà vagamente di un certo Fernand, ma del conte Fernand de Morsef. Signor Conte, devo mettervi in guardia. Certo, dopo la rivoluzione, nessuno in Francia è considerato intoccabile. Ma da qui ad accusare un pari di Francia con lo stato di servizio è la grande rispettabilità del conte di Morsef. Signor Duca, ho qui una copia dell'articolo che apparirà stasera sulla prima pagina delle Messagere. Perdonate la mia indiscrezione, ma qual è dunque il vostro ruolo in questa... Io sono l'istigatore. E voi me lo confessate così, senza pudore, serenamente? La mia serenità è apparente, mio caro Duca. In fondo all'animo io ho soltanto collera e disgusti. Rassicuratemi, ditemi che la vostra non è una vendetta personale contro il signor Morsef. Che importanza ha se questa vendetta fa da tramite alla giustizia? Non si passa più. E credetemi, cari colleghi, a queste affermazioni non avrei prestato alcuna attenzione. Ah, dite pure calugne. Ebbene dirò queste calugne sia per compiacere il barone della Merchandier. Se non fossero controfirmate da alcuni notabili che affermano di essere stati testimoni... Questo è abuso di potere. Silenzio, signori! Silenzio, dunque! Silenzio! E voi, Conte di Morsef, non mi sembra di avervi dato la parola. Me la sono presa, signore. Alcuna regola può valere contro l'accusa che mi viene mossa e che voi sembrate avallare con tale leggerezza che mi ferisce e mi sorprese. Sono tutti con lui, c'era da aspettarselo. E se domattina sopravvivo al duello con Albersaro, sicuramente incolpato di attentato alla sicurezza della nazione. Per colpa vostra sono in un bel pasticcio. Morsef crede di poter trionfare, perché pensa di conoscere tutte le carte della partita che si gioca qui, ma io ne ho una di riserva di cui lui non è a conoscenza. Ebbene, di grazia, giocatela ora. È tempo che la raggiunga e in più prenderò un po' d'aria, che qui è irrespirabile. Perdonate. E poi chi sono i famosi testimoni che avrebbero controfirmato? Degli anziani notabili di Gianina. Talmente anziani che saranno probabilmente già morti. Bravo, Fernando! Questo impianto d'accusa è molto originale. Si tratta solamente di far parlare i morti. Bravo! Bravo! Silenzio! Anche silenzio! Ordiniamo a Corte! Ordiniamo a Corte! Chiede pari di pranzo, ricordatelo! Silenzio! Se avete qualche dubbio, signore, ordinate che una commissione d'inchiesta si rechi a Gianina. La Camera dei Pari ha certo ben altre urgenze che non quella di presentarsi alla Corte dei Turchi! Mio caro Morsef, nessuno di noi mette la vostra parola in dubbio. Siamo tutti con voi! E' un comportamento adeguato alla circostanza. Silenzio, ho detto! Sono a vostra disposizione, mio signore. E' da tanto che aspetto questo momento. Ebbene, è arrivato. Bravo! Signori, ascoltate! Signori, oggi sui giornali è con me che se la prendono. Ma domani potrebbe toccare anche a voi, a voi, a voi! E infine vedrete, sarà il nostro presidente che metteranno la gogna. E dopo aver difamato il presidente, perché non vi ripendere il re? Bravo! Bravo! Bravo, Morsef! Conte, fate silenzio! Grazie. Signori, invito a tornare ai vostri posti o sarò costretto a sospendere la seduta? E voi, conte di Morsef, non potete incolpare la stampa solo per giustificare? E di cosa mi dovrei giustificare? Di aver rischiato la mia vita a Gianina? Di essermi comportato con così grande eroismo che il sultano Ali Pasha, colui che secondo l'accusa avrei tradito? All'epoca ricompensò la mia bravura nominandomi generale sul campo di battaglia. Sì, ma dopo? Cosa accadde dopo che vi nominò generale? Dopo? Ebbene, dopo la città fu occupata dalle truppe turche. Ma come accadde? Come mai la città fu presa? È tutta qui la questione. Permettete? Ebbene, la vostra famosa carta, signorita? Arriva, è una dama di cuori. Silenzio, vi prego, silenzio. Ho una comunicazione importante da farvi. Una persona è appena giunta qui alla camera dei pari e pretende di essere ascoltata come testimone della caduta di Gianina. Signor Duca, noi pari abbiamo già ascoltato abbastanza. Sì, ben detto. Provo sia un'indecenza, infortunare oltre misura il cui presenta Conte di Morsef. Lasciate, mio caro, lasciate che i nostri nemici si mostrino finalmente a volto scoperto. Altro non domando che questo. È già carnevale, chi è quella donna? È lei. Volete dirci il vostro nome? Principessa Idè di Gianina, figlia del sultano Alipascià. Impossibile, quella donna mente. E perché mai dovrebbe mentire? Perché i turchi hanno passato a fil di spada tutta la famiglia del sultano. Questo è vero, purtroppo. I turchi li hanno tutti sgozzati. Mia madre, mio padre, i miei due fratelli risparmiarono solo me da quella fine orrenda. Poiché mi videro fanciulla, credo. I turchi avrebbero avuto pietà. Credetemi, racconta cose che non hanno alcun senso. Avere pietà sarebbe stato uccidermi e non fare di me una schiava. Se voi siete una schiava, la vostra testimonianza è del tutto inaccettabile. Non è più una schiava, signore. Io l'ho riscattata. È una donna libera. Ma da quale parte state? La schiava è libera. Ah, che scopo. Signora, il conte di Monte Cristo garantisce la validità della vostra testimonianza. Potete parlare. Schiava o no, deve sempre darci una prova di chi è la ferma di essere. Confermatelo voi. Chi sono io? Un'isterica. Ecco chi siete. Mondego. Voi eravate un intimo amico del sultano e della sua famiglia. A idea aveva un segno particolare, vero? Ora come posso ricordare? Sono passati tanti anni. Provate, aveva o no un segno, una caratteristica. Potreste anche aver ragione. All'epoca ella si ingozzava di quelle ghiottonerie zuccherate che in quei paesi chiamano l'Ucumbe. E dunque la sua caratteristica dovrebbe essere la grassezza e un peso superiore alle duecento libre. Voi non date l'idea di essere così pesante, mia povera figliola. Ma che sguaiatezza. Io sono stato a Gianina, signor Presidente. Benché la mia fosse una sosta di appena qualche giorno, in quell'occasione ho avuto l'onore di incontrare il sultano Alipa Shah. Qui è della figlia che si tratta. Precisamente. E ho anche incontrato sua figlia. E sua figlia è quella creatura. Farneticate, caro Guillaume. E non sarebbe affatto una novità. Ma questa è buona, eh? Sapete, mi chiedo se vi siate mai dilettato nella caccia col falcone, mio caro Duc. Ebbene, è qualcosa di veramente eccitante. La conosco, signor de Sanguillon, ma venite al dunque, vi prego. Un giorno, uno dei falconi del sultano, per improvvisa follia, recise con il becco il lobo dell'orecchio destro della principessa. Ma voglio precisare che questa mutilazione non mutò la bellezza e le delicate fattezze della principessa ai dei di Gianina. Perdonate, signora, questa per voi è stata l'ultima umiliazione. Vi siamo debitori. Invito tutti i pari di Francia ad alzarsi in piedi, in segno di manifesto rispetto, verso una persona di sangue reale, degna del titolo di principessa. Non è lei! La vera principessa è Marta! Venite giù, non costringetemi a sangue. Tornate a casa, Albert, vostra madre ha bisogno di voi. A causa vostra mio padre è disonorato. Sì, ma vi giuro che da ciò non trago alcun piacere. Quel che ho fatto andava fatto. Nel caso non abbiate ben compreso il significato di questo gesto, vuol dire che vi chiedo riparazione, dove e quando. Non chiedetemi questo, Albert. Ditemi dove e quando. Venuta meno la ragione per battervi il duello con Beauchamp, e rispetterò gli accordi che prendeste con lui. Vi propongo lo stesso luogo e la stessa ora. Ecco i miei testimoni, indicatemi i vostri. Maximilien Morel e Bertuccio. Un armatore e un domestico. Mi infliggete un'altra omigliazione. Temo di non avere altri amici a Parigi. Come piove. Spero solo che Albert possa cadere a terra su Pino. Non merita di morire con il viso nel fango. Lascia Bertuccio, caricherò io le pistole. Ritorno da Valentin, non mi sento tranquillo. E non vi preoccupate, signor Conte. I vilufori non sono in casa, sono fuori. Sono la messa per la signora di San Meran. Nessuna messa per il povero Barois? Scusatemi. Scusatemi. C'è la contessa. Quale contessa? La contessa di Morsèf. Lasciaci soli, Bertuccio. Accomodatevi, Mercedes. No. Ma cosa fate? Lo vedete, mi sto supplicando. Perché? Come se voi non lo sapeste. Alzatevi. È davanti a Dio che ci si incinocchia. Ma voi potete fare come lui, un miracolo. Perché è un miracolo? Vostro figlio si considera la parte offese, dunque avrà lui il privilegio di sparare per primo. Ma voi sapete bene che vi mancherà. Non è un abile tiratore di pistola. Sì, lo so. In più sarà emozionato e sarà turbato, le sue mani tremeranno. È al suo primo duello. Lo sono anch'io. Ma a differenza di vostro figlio, io ho una buona mira. Volete che lo manchi, vero? Sì. Per questo siete venuta. Sì, in nome del cielo ho sbagliato inire. Vi prego, non uccidete mio figlio. Non erano queste le mie intenzioni, ma ammettiamo dunque che io tiri di lato mancando vostro figlio. A quel punto, Mercedes, avendo ciascuno di noi due, una pistola toccherà dal berfaro in fuoco. E dopo il primo tiro, la distanza iniziale di 60 passi, secondo la regola, verrà ridotta a 30. Prendetela e mirate. Vi aiuterà a capire. Francamente, a 30 passi, pur non sapendo tirare, riuscireste a mancarmi? Desolato, Mercedes. Non posso permettere a vostro figlio di vivere abbastanza per mirarmi al cuore da 30 passi. Allora, allora colpitelo di striscio, feritelo a una spalla o se preferite una gamba. Ma fate che quest'incubo finisca. Non è per nulla un duello al primo sangue, è un duello a morte. Purtroppo è vostro figlio che ha deciso le regole. Ma voi che dite di no a tutto? Perché non avete pietà della mia famiglia? Che cosa vi abbiamo fatto? Credo che voi lo sappiate. Dovrei sapere che cosa? Cosa dovrei sapere di voi? Eppure, l'altro giorno, in riva al fiume, a me era apparso che... Ebbene, anch'io in riva al fiume ho ricordato delle cose. Ma devo essermi sbagliata. Perché lui non era come voi. Lui avrebbe avuto pietà. Lui? In riva al fiume vi ho chiamato Edmond. Sì. E in seguito, perché non avete detto altro? Credevo che toccasse a te parlare. Eri tu che dovevi dire. Ed è il primo giorno che aspetto la tua confessione. Le confessioni, Mercedes. Sono privilegio dei colpevoli. Allora è così. Vuoi che sia io a dirti come ti chiami? Mai nessuno, mai nessuno ha detto il mio nome come lo diceva con lei che mi amava. Mi ricordo lo scrivevi sui vetri appannati delle finestre. Ero tanto innamorata di te. Adesso però ho paura di te. Dillo comunque, Mercedes. Tenta lo stesso. Chiamami col mio nome dolcemente. Come allora, per l'ultima volta, perché domani non potrai pronunciare questo nome senza piangere. di loro, Mercedes. Edmo. Edmo d'antesto. No, Edmo, non mi tentare. Non mi toccare, ti prego. Lo so che provi odio. Non potrò modiarti anch'io da domani. Ma il tuo odio dura da vent'anni. e la tua vendetta si abbatterà su mio figlio. Non è te che odio. Oh, no. No, provo odio, è vero, ma non per te. Da te vorrei solo sapere cosa è capitato, perché mi sono ritrovato solo. Te l'ho già detto. Tuo padre continuava a dirmi che eri morto. Sì, questo me l'hai detto. E facesti bene a credergli perché lui non mentiva mai. Altri mentirono però. E tu mi tradisti sposando Mondego. Sapevi chi era Fernando Mondego e sai anche chi è oggi Fernando Mondego. Come potrei non saperlo. Tutta Parigi parla del suo tradimento a Gianina. Ma non sarebbe andata così a Gianina se Fernando Mondego non avesse già tradito, se non avesse già gustato la menzogna, la calunnia e il tradimento. Che cosa vuoi dire? È lui che mi ha fatto arrestare. No. Ti sbaglio, è impossibile. Ha sempre detto di aver perduto il suo migliore amico. Io l'ho visto piangere. Tutto è falso in lui. Le lacrime, l'eroismo, l'onore. Lui voleva te e mi doveva eliminare. Con una lettera anonima. Ecco come mi tolse di mezzo con una lettera anonima. Coraggioso è il tuo Fernando. Che codardo. Sì, ma altri codardi congiurarono con lui. Vilfort, Danglar, Caderousse. Punisci, punisci di tutti se lo meritano. ma risparmi al perro. Lui non c'entra in tutto questo. Non privarmi di mio figlio. Se puoi averne il soglievo, punisci anche me, ti prego. Non ho fatto niente di male, ma punisci comunque anche me. Se ti può dare consolazione, ma risparmi dalla morte mio figlio. Mi ascolti, Edmond Dantes. Lascia che mio figlio viva. ero al cappezale di tuo padre quando morì. Morel c'era, tu non eri là. E invece ero là. E se il vecchio Morel non fosse morto, tu ed me... No, no, non prendere un morto come testimone. Eppure questa è la verità. Ho tenuto la mano del tuo povero padre fino all'ultimo respiro e fino all'ultimo respiro egli mi parlò di te, Edmond. No, ti prego, Mercedes, non ricorrere a questo, non servirti di mio padre. Ti amava come io un uomo albergo. Non devo dirti più niente. Ma tu non hai proprio niente da dirvi prima che me ne vada. Domani mattina con vent'anni di ritardo non dovrai più domandarti se Edmond Dantes è morto o ancora vive. Lui sarà morto. sarà Albert de Morseff che gli pianterà una pallottola nel petto. Grazie. Addio, Edmond. Addio, Mercedes. e a Grazie a tutti. Entra, Muhammad. Mio signore, in che posso servirvi? C'è una borsa per ognuno di voi. È la vostra ricompensa. Sono diamanti, preziosi e facilmente commerciabili. Dei diamanti? Sì, con cui pagherete il vostro viaggio di ritorno e arrivate a casa, vi serviranno per vivere. Immagino che il piccolo Assan comprerà una bella feluca e diventerà un grande pescatore di spugna, ama molto il mare. Ma tu gli dirai di essere prudente, non è vero? È meglio non fidarsi del mare, come l'uomo può tradire. Signore, voi ci congedate? No, non è un congedo il mio, ma... può accadere che io debba partire. Noi vi seguiremo, ovunque andrete. Bene, sono grato. Devo andare in un posto dove non avrò più bisogno di nessuno. Abbiamo cose importanti da dire. Più veloci, più veloci! Come il vento, via! Come il vento, via! Mio signore, che volete fare? L'amore. Piove, sentite? La pioggia? Sì. Com'è bello quando piove! Ed ecco che splende il sole, come sempre dopo un'acquazione. Se mi capitasse qualcosa di grave, promettimi una cosa, che tu non farei mai più l'amore quando piove. E cosa ti potrebbe capitare? Tu sei il più grande, il più forte, il più bravo, tu sei l'uomo che voglio amare. Sembra una poesia. Quando io sono felice compongo versi con estrema facilità. Che ore sono? Non sono ancora le sei, dormi pure se vuoi. No, ho un appuntamento. A quest'ora, e con chi? Prima di tutto con me stesso, ho fame. Farei un'abbondante colazione. Pane, burro e caffè? No, meglio vino. E poi qualche uovo, un po' di lardo, anzi molto lardo. E poi formaggio, sì, tanto formaggio. Non pretendo certo un paio di cosce di capone, ma se tu le avessi non le rispetterei. Sei un orco, lo sai? A questa sera? Camille? Sì. Ah, niente, niente. O meglio, voglio dirti che è stata una notte meravigliosa, non la dimenticherò mai. Meravigliosa, ma troppo breve. La prossima sarà eternamente lunga. Grazie a tutti. Questi ritardano, è mezz'ora che aspettiamo. Il visconte avrà paura. Verrà al bere a un morseffo. Appunto, non viene. Ha anche una madre. Mercedes è una donna coraggiosa. Il mio testamento. Ma signore, non capisco. Ti ho nominato mio arede per 10 milioni di franchi. Alla Thompson & French ti renderanno almeno il 20%. Avrai di che vivere. Ti chiedo solamente una cosa. Impegnarti perché vengano rispettate le mie ultime volontà, che sono semplici. Ero un marinaio e voglio che le mie spoglie finiscono in mare. Voglio che mi facciate scivolare sul fondo, dal ponte del Faraone. Avrai bisogno dell'aiuto di Massimiliano. Arrivano! Il visconte di Morseff domanda scusa per il suo ritardo. La strada era piena di buche. Abbiamo dovuto sostituire una ruota. Benissimo, signori. Comunque non possiamo cominciare con il primo tiro da 60 passi, perché qui c'è troppa nebbia. Se siete d'accordo, il conto di Monte Cristo passerebbe direttamente al tiro da 30 passi, distanza che garantisce una buona visibilità ai tiratori. La verità è che Albert de Morseff desidera... Chiedere... Vorrebbe dire una parola al conte di Monte Cristo. Dovreste sapere, signore, che ciò non è conforme alle regole. A parlare saranno solo le armi. Se volete controllare le nostre pistole, noi faremo altrettanto con le vostre. Sono senza armi, Massimiliano. Senza armi? Senza armi, porgendo le mie scuse. Ma quali scuse? Ma siete voi l'offeso? Non tocca certo a voi scusarvi. Signore, vi prego, volete avvicinarvi? Desidero parlarvi in presenza di testimoni. Sono io che vi prego, mettiamoci in posizione e facciamola finita. La faremo finita, sì, ma non nel modo che pensate. Non sono venuto qui né per farmi uccidere né per uccidere voi. A meno che non lo pretendiate, non ci batteremo. Sono venuto a chiedervi perdono. Questa notte, durante quel terribile temporale, mia madre mi ha parlato e mi ha detto tutto. Cosa? Che vi ha detto? Che vi conosce bene e che pur di salvare me avreste sacrificato la vostra vita, mancandomi di proposito. È vero. La faccenda riguarda la contessa di Morsef e me solo. Ma il fatto coinvolge anche me. Era vostro diritto muovere accusa di tradimento a mio padre. Sì, signori. Il conte di Morsef si è macchiato di terribili crimini, non solamente a Gianina. Molti anni fa, quando abitava a Marsiglia... No, Alberto, ora basta. Voi non volete che parli di... No. Dunque preferite dimenticare il passato? Può darsi. Questo è affar mio, non vostro. E sia. State tranquillo. Io so tenere un segreto, specialmente se me l'ha confidato mia madre. Vi ringrazio inoltre per non aver infritto pubblicamente un'altra umiliazione a mio padre. Io sono... Sono pienamente soddisfatto. E bene anch'io. Ho fatto stamattina la più sontuosa delle colazioni. che bevo fosse l'ultima e non mi sono privato di niente. Sempre così andrebbe presa la vita, come se fosse l'ultimo giorno. Ah, Gerba. Sì? Massaggia il tuo padrone. Avanti. Oh, che bello. Cantami una canzone del tuo paese. Oh, spedio. Oh, spedio. Oh, spedio. Oh. Signore, è arrivato il conto di Morsef Come il conto di Morsef? Di là che vi aspetta, mi sembra pure assai nervoso Ha detto che è venuto a fare lui quello che suo figlio non ha fatto In altre parole vuole uccidermi Sì, l'ha giurato sul suo onore Sul suo onore Allora non rischio più di tanto Signore, smettetela di prendere tutto alla leggera Quello ha qualcosa nelle tasche Sono sicuro che è venuto qua con le pistole Falla accomodare nel salone Serve del porto dei biscotti Di che sarò subito da lui Assicurati che non gli manchi niente E poi corri dai Villefort Fai presto Bertuccio Valentini è sola, vai Prego signore Era me che cercavi, Mondego Montecristo, io sono venuto per... Come mi hai chiamato? Montecristo Cerchi il conte di Montecristo Hai sbagliato indirizzo, Mondego Su, guardami, guardami meglio Io sarei il conte di Montecristo secondo te? A che gioco giocate? Io non sto giocando, Fernand Non ho mai giocato Ho sofferto per anni le pene dell'inferno Mentre tu giocavi Hai finto di essere l'amico in lacrime Il fidanzato consolatore Il generale eroico Il blasonato e aristocratico conte di Morsef Quando in realtà sei solo un individuo corrotto E un ignobile impostore Fine partita, Fernand Hai giocato e hai perso Sarebbe inutile, tu mi hai già ucciso O meglio, hai tentato di farlo Ma non sono morto E come vedi sono tornato Vuoi bere con me? Alla salute Di Edmond Dantes? Al solito mio povero Fernanda Sempre ti diverte a distruggere quello che è mio A presto Bertuccio ! Dov'eri Valentin, sta male ? Bisogna chiamare subito un dottore È troppo tardi per il dottore Ha bisogno di un prete Corri a chiamare un prete Vai che aspetti, presto ! Vi supplico, mio caro Non date spettacolo dei vostri sentimenti Non cambierete certo le cose Fortunatamente non è che fango Il vostro cappotto tornerà come nuovo Oh, bene, ho altri Ho incrociato il conte di Morsef, non è vero ? È possibile Ah, e voi ricevete in casa vostra Una persona ormai caduta in disgrazia ? Mio caro Danglar, non vi ricevo forse ? Ah, sì, certo Ma io non sono ancora stato Mi sono letto Esattamente Però sapete bene che nel mondo della finanza La reputazione è un po' come la borsa Un giorno alle stelle E il giorno seguente immersa nel fango E dite In che condizione è oggi la vostra reputazione ? Vi ringrazio per avermi fatto chiamare Perché noto con piacere Che vi interessano i miei affari D'altronde, mio caro, hanno una qualche influenza sui miei Avrei deciso di lasciare Parigi Immaginatevi un po' Ah Il signor conte ci lascerà Un ricordo indubbiamente indelebile Tanto più che vorrei partire senza lasciare debiti dietro di me E pertanto sono obbligato a esigere Che mi facciate un versamento di 6 milioni entro 48 ore 6 milioni Ma vi sono già stati versati 6 milioni Me ne servono altri 6 Dimenticate che ho presso di voi un credito illimitato Apertomi dalla Thompson & French Che diamine ora basta con la vostra Thompson & French Che ne sanno della mia tesoreria stando laggiù in Italia Le mie casse sono vuote Certo è seccante Data la vostra incapacità di soddisfare a pieno un suo cliente Temo che la Thompson & French farà di voi un fallito Un fallito ? Di me farà un fallito ? Il denaro perduto siete voi che me l'avete fatto perdere Gli investimenti altamente proficui che mi avevate consigliato Sono andati tutti miseramente in fumo Lo sapete ? Ti ringrazio Assano Allora siamo d'accordo 6 milioni entro 48 ore Beh io Fatemi un favore Date voi questa lettera a mio marito Ma signora potete dargliela voi stessa Ho appena visto giungere la carrozza del signor conte No Non voglio rivederlo mai più Siete a casa signor Voleva un latte caldo che l'ha portato mia moglie Bertuccio era introvabile stamattina Lasciatemi solo con lei, devo ascoltare la confessione Ma non vedete che ha perso conoscenza ? Ciò riguarda Dio signora Non voi Ciò riguarda Dio signora Ciò riguarda Dio signora Ciò riguarda Dio signora Ciò riguarda Dio signora Grazie a tutti. E Gesù le disse, tuo fratello Lazzaro risorgerà, io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se è morto vivrà e chiunque vive crede in me non morirà in eterno, perché siete timorosa, gente di poca fede. Ecco fatto, mi sono spogliata di tutto, quale umiliazione, senza gioielli non potrò mostrarmi in pubblico. Mostrarvi, ma perché dove pensate di andare? Avete dimenticato che domani abbiamo il funerale della piccola Villefort? Nessuno noterà che non portate gioielli se indosserete veli neri. Valgono almeno due milioni di franchi. Se vendo la casa di Rambouillet più qualche mobile, io... Ah no, non ci pensate nemmeno. I mobili sono miei, erano della mia famiglia. Preferite la bancarotta? Che vada in prigione? Eravamo tutti felici. La nostra vita era bella, così facile. E invece nel giro di qualche mese tutto è cambiato. I tre lutti in casa Villefort, il disonore dei Morseff, il suo suicidio. E adesso voi che siete in rovina, che parlate di prigione. Ma che cosa abbiamo fatto di male per meritare questo? Non lo so, Mia Carrermin. Ah sì, voi dovete saperlo. Dio non può punirci ingiustamente in questo modo. Io non ho niente da rimproverarmi. E voi? Come io. Nemmeno io, è evidente. Invece sì. Sì cosa? Ho fatto una cosa terribile. È giusto che vendiate i miei gioielli, i miei mobili. Merito di essere punita. Vi sono stata infedele anni fa. Ho avuto un figlio da un altro uomo. Ma voi non potete avere figli? No, no. Forse voi non potete avere figli. Perché io con un altro uomo l'ho avuto. Ho dato alla luce un maschio. Chi è l'altro? Perché non mi domandate piuttosto dov'è mio figlio? Perché io ho un figlio. Ho un figlio che non ho mai visto. E non so nemmeno dove sia. E a quanto sembra non importa a nessuno. Con un cassiere, probabilmente. L'ho vista spesso girare attorno ai cassieri. Riguardava con i suoi occhi languidi, la bocca sospirosa, una femmina provocante, giovane e bella. Per di più moglie del padrone che a vita preda diventa agli occhi di un giovane cassiere. Ho sbagliato nell'assumere dei giovani cassieri, ma è finito il divertimento. Ad ogni modo, giovani o vecchi, non ho più di che pagarli. È finita. Via, tutti fuori. Andate al diavolo. Guardate, c'è la folla che preme. Dobbiamo impedire che entri. Aiutatemi a chiudere, presto. Presto dobbiamo sforrare la porta. Mi voglio rilasciare. Andate via. In questo modo dovete consponarmi. Non è giusto. Non fate esercire. Questa darmi serve per vivere. Andate via. Ho dovuto un'altra forza per condannarmi. Andate via. Che Dio vi benedica per la vostra ospitalità. Capisco bene che non potevate più sopportare l'idea di dover vivere nella casa di un suicida. Il suicidio è l'unico peccato che Dio non perdona. Chi si uccide per l'orrore delle proprie colpe dubita della misericordia infinita di nostro Signore. Se la sua misericordia è davvero infinita sono certa che perdonerà anche la disperazione. Quando si perdona, si perdona tutto. Soprattutto l'imperdonabile. Questo può essere un vostro modo di vedere le cose, Signora Contessa. No, madre. Per favore, non chiamatemi più Contessa. Sono finiti quei tempi. È per questo che ho fatto dono dei miei beni alla vostra piccola comunità. Noi pregheremo per voi, Signora, affinché Dio vi aiuti a ritrovare la pace e affinché protegga voi, Signore, quando sarete in Algeria. Pregatelo affinché io abbia la possibilità di riacquistare quell'onore che mio padre ha calpestato. Andate a dire alla famiglia che sono pronto. Sì. Dobbiamo attendere anche gli altri, Signore? Quali altri? Non so. Le altre persone che vorranno unirsi al corteo o senz'altro la defunta avrà avuto degli amici che vorranno... Sì, ma che non verrà nessun altro. Andiamo, vi supplico, finiamola il più presto possibile. Come volete, Signore. Come volete, Signore. Ecco fatto, i familiari sono tornati a casa. Veniamo ai nostri affari. È tutto come mi avete chiesto. Allora, per 3.000 franchi non ho segillato il coperchio, per 2.000 franchi non abbiamo posato la labbra. Questi 20.000 sono per voi, ma mi serve un altro piccolo favore. Accidenti, per fare le cifre che cosa volete? Dobbiamo riesumarla. Voi riformite di cadaveri i medici della facoltà. Questa giovane servirà per le loro dissezioni. No, voglio solo comprare il carro funebre, cavalli compresi, e poi naturalmente il vostro silenzio. Lo avrete. Non ve l'abbiata male, ma voi preti organizzate strane cose. A volte. Permesso. Venite su. Ce ne andiamo. Sbricatevi. Svelti. Resti, Bertuccio, al lavoro adesso. Come sta il rospo oggi? Ditemi. Dormi ancora, ma non vuol dire niente. Un essere umano e un rospo non hanno uguali reazioni. Giusto. Il rospo potrebbe dormire ancora a lungo, mentre Valentin potrebbe essere già bella che morta. Faremo come stabilito. Presto, presto. Sì. Ancora respira, Bertuccio. Come fosse un cucciolo in letargo, ma respira. La fede vince, Bertuccio. Scendi adesso, aiutami. Quando tornerà in sé, avrà certamente sete. Tanto freddo e molta paura, non saprà dove si trova né chi è. Non vi preoccupate, a lei ci penso io. Appena si sveglia, per prima cosa la porta a sgranchirsi un po' le gambe. Poi le faccio bere del buon vino italiano. Stefano, non state in pensiero, state tranquilli. A proposito, Maximilien, voglio dire, sa di tutta questa messicella qua? Ma no, certo che non sa niente. Non l'avete avvertito? E dite di amarlo come un figlio, ma siete crudele, sapete? No, prudente. Se dovesse andare male, quel povero giovane sarebbe disperato. Vai, vai. Ma che potete dire se Valentin non dovesse svegliarsi? Avanti! Ma allora non siete così sicuro di voi? Dio, come detesto vestirmi di nero. Eppure, mia cara Eloisa, siete voi che l'avete voluto. Che intendete dire? La notte in cui mia figlia è stata avvelenata in casa, c'erano quattro persone. Valentin, mio padre, voi e io. Pensate che Valentin si sia suicidata? Ma no, io non lo penso affetto. Allora chi può aver messo il veleno nel suo bicchiere? Mio padre? Vostro padre è un paralitico. Che ce l'abbia messo lui mi sembra impossibile. Dunque restiamo voi e io. Ho ucciso io, mia figlia? Francamente non saprei. La mia risposta è no, conclusione? Avete perso il senno. Vi accuso di triplice omicidio. Dell'avvelenamento di Marie-Louise de Saint-Merant, del domestico Jules Barrois e di Valentin Vilfort, mia figlia. Il dolore vi fa vaneggiare? Per uccidere ci vuole un movente. Il denaro. Il denaro? Oh mio Dio, il denaro! Sì. Il denaro. La signora di Saint-Merant fu la prima vittima perché Valentin era sua erede. Poi avete ucciso Valentin per avere quel denaro in quanto mia moglie. E Barrois? Barrois? Forse speravo di ereditare anche i suoi pochi risparmi? No. Barrois non doveva morire. Era di mio padre che volevate sbarazzarvi per restare unica erede. deduco altresì che nel momento in cui si fossero calmate le acque. Anch'io sarei stato... Dovete riflettere. Riflettete prima di commettere una follia. Se sono colpevole, come pensate che io sia. Se mi accuserete trascinandomi davanti a un tribunale, il primo a soccombere sotto il peso dello scandalo sarete voi. E allora direte addio alla vostra carriera. La morte di mia figlia ha spezzato la mia vita e la mia carriera. Vi concedo un'ultima possibilità. Accetto, mio caro. Senza condizioni. Non entusiasmatevi, Eloise. Non vi offro la possibilità di farla franca, ma solo di fare una fine meno vergognosa. Se non foste mia moglie, vi aspetterebbero il boia, la lama della ghigliottina e gli sputi della gente in un'esecuzione pubblica. Il vostro infallibile veleno provoca un'agonia atroce, a quanto dicono. Ma d'altronde meritate una punizione, non vi sembra? Vi do un'ora, non di più. Signorina Valentin, signorina Valentin, per favore, per favore, cercate di svegliarvi, non potete continuare a dormire così. Senti qua, questo è gelato. non potete continuare a dormire. Non potete, Ah, signora Batri. Siete venuto, suppongo, per il vostro onorario. Il mio onorario? Sì, qui è buona abitudine donare al prete... Non sono qui per questo. Caderus spugnalato, Morsef suicidato, Danglaren fuga, vostra figlia morta. Per me sono già una buona ricompensa. D'altronde ritengo di essere un uomo onesto e non potrei accettare il vostro denaro. Io non sono un prete. Perché dite di non essere un prete? Siete l'abate Busoni? No. Siete voi, vi riconosco. No, signor procuratore, non mi riconoscete per niente. Montecristo? Siete il conte di Montecristo? No, Vilforo. Io sono Edmond Dantes. Dantes? Come potevo riconoscervi? Solo riconoscendo i vostri crimini. E ora che volete? Che vi aspettate da me? Voi volete essere riabilitato, non è vero? Interverrò io e... Andrò dal re se necessario, vi renderò giustizia. Della giustizia me ne incarico io. Sono venuto solo per farvi avere un indirizzo. La prigione di Cherch mi dì... Nel braccio degli assassini. È lì che mi manderete. Ma io non ho ucciso Eloise. È lei che si è data la morte. Se è la verità, meglio per voi. Avete la mia parola. Non ne sono responsabile, non voglio andare in prigione. Nemmeno per vedere vostro figlio. Mio figlio? Andiamo. Avete dimenticato di avere un figlio. Lo adorerete, si chiama Toussaint, perché è stato trovato il giorno di Omnisanti dentro un giardino presso Teie. Spero che non sarete obbligato a procedere in giudizio contro di lui. Reclamare la pena di morte per il proprio figlio deve essere molto penoso. È molto più facile condannare Edmondantes a marcire nel castello Diff. Addio, signor procuratore. Soffrite ora che mi preparo come si dice a uscire dalla vostra vita e dalla scena o piuttosto soffrite fino alla fine. Soffrite Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In regalo. No, Maximiliano, ridammi quell'arma. Ridammela, presto. Non l'ho portata con me. Datemi un consiglio. Dov'è meglio puntare la pistola? Sulla tempia o nella bocca? Maximiliano, abbi fiducia. In chi? In Dio. Dopo aver suscitato l'azzore Gesù Cristo, sembra che Dio si sia stancato di riportare in vita i morti. Parli come me quando avevo la tua età, nemmeno io potevo comprendere un'ingiustizia. Provavo anch'io molta rabbia. Ho perfino desiderato di morire. Perché? Avevate tutto? Potevate amare? A quell'epoca non avevo niente. Non potevo godere della luce del sole e figurati l'amore. E poi nel giorno della mia più profonda disperazione ho incontrato qualcuno, qualcuno che mi parlò come oggi io parlo a te, che mi disse abbi fiducia, credi in te stesso e abbi fede in chi ti vuol bene, Edmond Dantes. Abbi fede. Edmond Dantes? Perché Edmond Dantes? Perché è il mio nome. No, Edmond Dantes è morto. In molti l'hanno creduto, perfino tuo padre. Mio Dio, speravo tanto di potergli dire la verità. Mio padre vi avrebbe riconosciuto se foste Edmond Dantes. Non avrebbe mai riconosciuto Dantes nei panni di Lord Wilmore. Lord Wilmore? Un travestimento? Gli spettacoli di illusionismo a cui assistevate tu e Valentin non sono niente se paragonati alle strabilianti trasformazioni di cui sono capaci. Lord Wilmore, l'abbate Busoni, il conte di Montecristo non sono altri che il medesimo uomo. E quest'uomo è Edmond Dantes. A che scopo? Perché? È una lunga storia, Maximiliano. Una storia in cui anche Valentin ha la sua parte. Ti va di sentirla? No, ora mi andrebbe di sentire solo un colpo di pistola. Non avresti il tempo di sentirlo. Tu moriresti prima. È veloce se hai una palla di pistola. Ma se poi ti sbagliassi, anche solo di poco, se la mano tremasse e la canna della pistola si spostasse di pochi centimetri, ti ritroveresti come il vecchio Nortier. Avete un metodo migliore? Certo. Il veleno. Conosco un veleno meraviglioso. Una volta preso è sufficiente lasciarsi andare. E ci si addormenta senza nessuna angoscia. Senza minimamente soffrire. All'inizio sembra di sognare, poi lentamente il sogno svanisce come la nebbia spazzata via dal vento. A quel punto rimane soltanto l'oscurità, il nulla, il silenzio, la morte. Datemelo. Non questa sera. Allora, voglio farti una proposta, Max Migliani. Accordami solo quindici giorni. Per queste due settimane, dammi la tua parola che non tenterai di mettere fine alla tua vita. Nel frattempo partirai per Marsiglia, dove ci ritroveremo e se sarai ancora disperato, ti prometto che avrai da me il veleno che ti ucciderà. Perché? Credete che in quindici giorni dimenticherò Valentin? Nemmeno l'eternità mi basterebbe. Se l'eternità non è una medicina abbastanza potente per alleviare le tue pene d'amore, ragioni di più per non prendere decisioni avventate. Quindici brevi e miseri giorni è tutto ciò che ti domando. Sarebbe onesto da parte tua accordarmi questo favore, in ricordo di ciò che Lord Wilmore ha fatto in passato per tuo padre. D'accordo. Quindici giorni. Conterò le ore. Lo giuri? Sì, lo giuro. Ma anche voi lo dovete giurare. Sì, certo. Io giuro che ti aiuterò a morire se avrò fallito, Maxiglia. Sì, certo. Tutto è pronto, signore. Quando volete possiamo partire. Ma non toccherebbe al vostro cuoco questo lavoro? Non ho più il cuoco, sapete. È un lusso che temo di non potermi più permettere. L'ho congedato stamattina. Perché non me ne avete parlato? L'avrei volentieri portato con noi, avrei continuato a pagare i suoi servizi. Non sarebbe stato un grosso problema. Avete saputo la notizia? Sono passato a salutare Beauchamp. Ho saputo che Franz de Pieny si è innamorato perdutamente della principessa Aidee di Giannina. Già si parla di matrimonio. Le cose non vanno poi così male. Sì, perché voi partite adesso. No, partiamo insieme. Mio marito era un buon meteorologo. Era ferrato in materia di nuvole e mi diceva che il bel tempo non è che un'anomalia tra due periodi piovosi, malinconici, gelidi e grigi. Sì, voi siete stato la mia anomalia e io sono stata bene. Che intendete dire, mia cara? Ma dove sono i vostri bagagli? Io non parto. Ma che dite? Noi partiamo insieme. E sbrigatevi, Camille, non posso aspettarvi a lungo. In Italia ho un appuntamento al quale non posso davvero rinunciare. Io resto con i miei ricordi. Voi partite senza di me, non l'avete ancora capito. Ma che vi prende? Camille. Che vi è accaduto? Non mi amate più? Sì. Io vi amerò sempre, lo sapete. Voi mi avete dato la vita. Dormivo e mi avete risvegliata. Sono contenta di avervi incontrato. Voi mi volete bene, ne sono certa, ma... Ma cosa? Diciamo che dopo un po' vi stanchereste di una come me. Io sento di essere la vostra piccola amante. Vi faccio tenerezza, ma non mi potete amare. Ma cos'è questa follia? Oh, sì. Sì, io vi amo. Siete così pura. Dite pure ingenua. Della mia ingenuità vi stancherete. Vi allontanerete da me, che morirò di dolore. Voi avete gustato liquori ben più forti per accontentarvi di me, che so di rosolio. Ma io adoro il vostro sapore, lo sapete. Perché volete che me ne pariei? Se mai tornerete a Doteie, io ci sarò. Ma voi non tornerete più. Mercedes non vi lascerà andare. Mercedes. Lei vi attende. L'attesa è reciproca, vi cercate da vent'anni. Voi piangete? No, sono solo le cipolle. Un cuoco come voi non sa che si piange sempre sbucciando le cipolle. Camille. Quelli sono fagiolini. Per me sono della stessa famiglia delle cipolle. Sarà meglio che partiate immediatamente. Non dite niente. Ora vi prego, lasciatemi solo affinché io mi possa riattormentare. Edmond. Sì, Camille. Vi siete vendicato di chi vi ha fatto del male? Sì, ve lo assicuro. Perciò ora posso chiedervi una cosa. Potete chiedermi quello che volete. Una ricompensa per la mia rinuncia. Io vi lascio a Mercedes, ma in cambio vorrei qualcosa da voi che mi ripaghi. Pensate che sia giusto? Già ci avevo pensato, ma non osavo proporvelo, temevo di omigliarvi. Camille, tutta la mia fortuna è vostra. A me non serve più adesso. Ma io non pensavo al denaro. A cosa allora? Vorrei che voi perdonaste. Che io perdonassi? Ma cosa? E poi chi? Ma tutto e tutti indistintamente. Anche la pioggia che vi bagna la testa quando uscite di casa senza cappello. E vi parla con lei che ha perdonato perfino l'uomo che le ha ucciso il marito. C'è voluto del tempo, ma alla fine l'ho fatto. E sono convinta che anche voi possiate farlo. È tutto qua ciò che vi domando. Perdonare vi costa. È difficile perdonare. Ma ci proverò, mia cara. Se il conte di Monte Cristo ci prova, lui ci riesce. Io vi amo, vi amo, vi amo. Valentin, svegliatevi adesso, su. Coraggio, vuote la brava, su. Svegliatevi per piacere. Questa mi sembra morta. Ma sarà morta veramente. Svegliatevi, su. Svegliatevi. Presto, presto, sbrigatevi, su. Dieci, undici e dodici. Il conto torna. Torna perfettamente. Quando arriverò a Parigi, direttore, dirò a tutti che siete un uomo onesto. Ma è sempre un piacere per la banca Thompson e French onorare una lettera di credito del signor conte di Monte Cristo. Oh, quel credito. Quale pazzia. Potete vantarvi di avermi spaventato, direttore. Un credito illimitato non si era mai visto. Dovete riconoscere, signore, che non si era mai vista nemmeno una persona eccezionale come il conte di Monte Cristo. Addio, Barone. Arrivederci. Chi siete? Che volete da me? Che volete da me? I miei rispetti, Barone. Io sono Luigi Vampa. Da adesso al vostro servizio. Perché mi avete fatto prigioniero? Prigioniero voi? Credetemi vi sbagliate. Siete mio ospite. Ma se mi avete rapito, drogato e messo in gambia. Cos'era quell'orribile droga? Ho la gola che mi brucia. Bevete un po'. La gola andrà meglio. Vediamo cosa vi farebbe piacere bere. Forse un bicchiere di chianti, Barone. Ne abbiamo in cantina una riserva di ottima amnata. E chianti va bene, ma presto. Vi costerà duecentomila franchi. Duecentomila franchi? Per un bicchiere di vino? Come sarebbe a dire per un bicchiere di vino? Per duecentomila franchi Luigi Vampa ve ne porta una bottiglia piena. Per una bottiglia piena, per una damigiana, perfino per un barile intero. Sarebbe troppo. Siete pazzi. Siete uno stimato banchiere. Sono ricchi i banchieri, no? Tenetevelo pure il vostro chianti. Datemi dell'acqua. La mia gola va a fuoco. Una caraffa o un bicchiere? La tariffa è di centomila franchi per una caraffa e ventimila appena per un bicchiere. Per ventimila franchi per un bicchiere d'acqua. Ma è acqua pura, è molto fresca. Ma voi siete... Ma voi siete un bandito! Come voi, mio caro barone. La sola differenza fra me e voi è che io non ho mai nascosto di esserlo. Chi siete voi? Da me che volete? Siete il boia che mi ucciderà? Pietà, signore, io vi chiedo grazia. Abbiate pietà ad un pover'uomo. Del rimorso ne avete almeno. Del rimorso? A che proposito dovrei avere del rimorso? Per il male che avete fatto. Per il male che ho fatto? Ma io non ne ho mai fatto molto. A quel poco che ho fatto... E siete sicuro? Cercate bene. Cercate meglio. Beh, al momento io non... Io non vi capisco, signore. Sinceramente non vi capisco. Ho guadagnato del denaro certamente, ma in questo che c'è di male? E poi in molto di quel denaro l'ho perso in investimenti sbagliati, nelle miniere d'oro senza oro, negli allevamenti di storione senza storioni e in Ucraina, nei campi di grano senza grano. Ricordate Marsiglia vent'anni fa? Un albergo nel villaggio dei Catalani si beveva a volontà perché il vino non costava che qualche soldo. L'albergo di Caterus? La memoria vi ritorna. E ora vi rammentate di quella bella giornata d'estate quando stavate bevendo al tavolo in compagnia di Fernando Mondego e dell'amico Caterus. Aspettate, ma... come fate a saperlo voi? Il conto di Montecristo? No, d'Angla, è de Mondantes. Ma... ma è impossibile! C'era da aspettarselo, impossibile la parola che dite tutti. Avete decisamente meno immaginazione di me, signori miei. Vattane. Sei libero, esci dalla gabbia. Fuori c'è il bel sole dell'Italia. No, no. Sarai matto a fidarmi, Dantes. Se tentassi di scappare, tu e i tuoi uomini mi spareriste alla schiena. Non sono i miei uomini. In quanto a me, sto imparando a perdonare. È il caso vuole che incominci da te. Sei fortunato, d'Angla, vattene. Ma devi sbrigarti. Ho l'impressione che il perdono abbia vita breve rispetto alla vendetta. Vattene subito. E... E per quel che riguarda il mio denaro, Dantes. Di quale denaro parla? Il diavolo mi porti, se lo so. Quando l'ho rapito, aveva la borsa completamente vuota. Come la borsa vuota? Avevo 12 milioni di franc. Ma mio caro d'Angla, ti stai sbagliando. A Parigi mi avevi detto di non avere più denaro. E poi ragiona. Se con te avessi avuto 12 milioni, il mio amico Vampa non ti avrebbe certo rapito al fine di ottenere un riscatto. Mi sarei contentato di sequestrare solo i milioni, e non il barone d'Angla. Datti pace, caro d'Angla. Pensa che ci sono passato anch'io. La detenzione rende folli. La tua parola la manterrai, vero? Certo che manterrò la mia parola. I milioni confiscati al barone d'Angla saranno distribuiti ai poveri, agli orfani, alle vedove e agli ammalati. E ai prigionieri, sotto forma di coperte, di medicinali e di alimenti, non dimenticarti dei prigionieri. Devo vedere il conte di Montecristo. Manca qualche ora lo scadere dei 15 giorni. Siete in anticipo? Sì, lo so. Ma ho già sofferto abbastanza. Voglio quello che mi ha promesso. Il giuramento l'ho rispettato. Tocca al tuo padrone mantenere la sua parola. Allora, Maximilian, sei ancora disperato? E dubitavate, forse. Io sono pronto. E voi, signor Conte? Bertuccio. Ditemi, signore. Fa come ho detto. Sarà lui a darmi il veleno. Me ne rallegro, così voi non avrete colpa. Maximilian, ti devo avvertire. Ciò che proverai è qualcosa di estrema violenza. Qualcosa che non immagini neanche. Vorreste evitare di assistere ad uno spettacolo penoso. Vi capisco. Adesso mi vedrete morire. È terribile vedere morire un amico. Ma datemi il veleno, vi prego. Qualunque cosa accada, evita di gridare. La mia vicina è una donna molto anziana e malata e non va spaventata. Saprò controllarmi, non temete. Sopporterò il dolore. Se il tuo è veramente coraggio, mettiamolo alla prova. Vieni con me. Vieni con me. La mia vicina è una donna ma... Vieni con me. Vieni con me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fornaio, lasciatemi una sola focaccia. Mio figlio è partito, Mercedes Iguolada. Due. Edmond Antès... È tornato. È tornato. Non preoccuparti, tornerà presto, vedrai. Io ero più giovane di tuo figlio quando ho preso il largo. Tu sei qui, ma che cosa vuoi fare? Ebbene, devi sapere che qui ho deciso di passare la mia vita. Grazie a casa di Plain Monson. Ah, venduta. Beh, non proprio venduta. L'ho lasciata dei monaci che cercavano un monastero. Ho fatto esattamente la stessa cosa anch'io, ho dato tutte le suore. Quella piccola casa in cima alla scogliera è sempre tua? Certamente, non l'ho mai venduta. Ormai è la sola cosa che mi resta. Ma allora sono fortunato. So dove andare a dormire. Vieni. Va piano, altrimenti mi fai cadere. E poi ti rialzerai. Ci si rialza sempre. Ho viaggiato molto. Sai di Parigi, di soldi, di diligenze, di cavallo sudato, di pollo degli alberi. Credo che faresti meglio a buttarti in acqua. Vieni. Vieni. Ma no, non so nuotare. Non te lo ricordo. No, non temere. Ma no, il mondo, il vestito. Ti chiederò io nuotare. Dai, vieni. No. E no. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.